21 dicembre 2013 nel calendario etiopeo il 30 dicembre 2020 nel calendario europeo nel nome del padre del figlio e dello spirito santo un dio amen sia lodato il nome della trinità di abramo sia lodato il nome della mia madre vergine maria lode di essere il nome di arcangeli possono essere onorati i nomi dei nostri padri e madri martiri sia lode e i nomi dei nostri santi padri martiri madri padri amen 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 l'etiopia è una terra dove la gloria della trinità si rivela e si lodata l'etiopia è l'eredità della vergine maria l'etiopia è la luce del mondo l'etiopia è il dominatore del mondo a tutti i discendenti di adamo nono messaggio a partire dal governo della luce mondiale etiope nel nome del padre del figlio e dello spirito santo un dio amen come se la famiglia di dio coloro che si sono riuniti sotto etiopia the world light consulenza diligente associazioni di coppe sacre e coloro che si pentono attraverso la comprensione credendo in ti suoi messaggi e quelli che si sono pentiti e voi stessi impedito di sporcizia di questo mondo sia registrati che non registrati l'onesto il gentile dio onnipotente sia lodato per averci permesso di raggiungere questa stagione a tutti i discendenti di adamo leggi questo nono messaggio a tutta l'umanità con rispetto forse anche alla fine dei tempi dio ti darà un cuore chi lo sa se non lui buona comprensione amen salmi 97 dice il signore regna si rallegri la terra si rallegri la moltitudine delle isole nuvole e tenebre sono intorno a lui giustizia e giudizio sono l'abitazione del suo trono un fuoco va davanti a lui e brucia i suoi nemici tutti intorno i suoi lampi illuminarono il mondo la terra vide e tremò i colli si sciolsero come c'era alla presenza dell'eterno alla presenza dell'eterno di tutta la terra i cieli dichiarano la sua giustizia e tutto il popolo vede la sua gloria confusi siano tutti coloro che servono immagini scolpite che si vantano di idols adoratelo voi tutti dei si io nudi e si rallegrò e le figlie di giuda si rallegrarono per i tuoi giudizi o eterno poiché tu signore sei alto su tutta la terra tu sei molto innalzato sopra tutti gli dèi voi che amate il signore odiate il male egli preserva le anime dei suoi santi li libera dalla mano degli empi la luce è seminata per i giusti e la gloria per i retti di cuore rallegratevi nel signore o giusti e rendete grazie al ricordo della sua santità salmi 94 da 1 a 16 dice o eterno iddio a cui appartiene la vendetta o dio a cui appartiene la vendetta mostrati innalza te stesso giudice della terra rendi ricompensa agli orgogliosi signore fino a quando trionferanno gli empi fino a quando trionferanno gli empi per quanto tempo proveriranno e diranno cose dure e tutti gli operatori di iniquità si vantano fanno a pezzi il tuo popolo o lo rd e affliggono la tua eredità uccidono la vedova e lo straniero e uccidono gli orfani eppure dicono l'eterno non vedrà né tutto lì dio di giacobbe lo considera capite brutali fra il popolo e sciocchi quando diventerete saggi colui che ha piantato l'orecchio non udrà colui che ha sostenuto l'occhio non vedrà colui che castiga le nazioni non correggerà colui che insegna all'uomo la conoscenza non lo saprà l'eterno conosce i pensieri dell'uomo che sono vanità beato l'uomo che tu correggi o eterno egli ha insegnato secondo la tua legge affinché tu possa dargli riposo dai giorni delle avversità finché la fossa non sia stata scavata per i malvagi poiché l'eterno non rigetterà il suo popolo ne abbandonerà la sua eredità ma il giudizio ritornerà alla giustizia e tutti i giusti di cuore lo seguiranno chi sorgerà per me contro i malfattori o chi si alzerà per me contro gli operatori di iniquità virgolette salmi 79 dice o dio le nazioni sono entrate nella tua eredità il tuo santo tempio hanno contaminato la y hanno ridotto gerusalemme in cumuli i cadavere dei tuoi servi hanno dato in pasto agli uccelli del cielo la carne dei tuoi santi alle bestie della terra hanno sparso il loro sangue come acqua intorno gerusalemme un n di non c'era nessuno che li seppellisse siamo diventati un rimprovero per i nostri vicini uno scherno e una derisione per coloro che sono intorno a noi quanto tempo signore sarai arrabbiato per sempre la tua gelosia brucerà come il fuoco riversa la tua ira sulle nazioni che non ti hanno conosciuto e sui regni che non hanno invocato il tuo nome poiché hanno divorato giacobbe e devastato la sua dimora o non ricordare contro di noi le iniquità del passato lascia che le tue tenere misericordie ci impediscano rapidamente perché siamo abbassati molto aiutaci o dio della nostra salvezza per la gloria del tuo nome liberaci e purifica i nostri peccati per amore del tuo nome perché i pagani dovrebbero dire dov'è il loro dio lascia che sia conosciuto tra le nazioni ai nostri occhi per la vendetta del sangue dei tuoi servi che è sparso venga davanti a te il sospiro del prigioniero secondo la grandezza del tuo potere conserva i tubi che sono destinati a morire e rendi al nostro prossimo sette volte nel loro seno il biasimo con cui ti hanno insultato o signore così noi il tuo popolo e le pecore del tuo pascolo ti renderemo grazie per sempre richiamo la tua lode a tutte le generazioni come avete sentito nelle tre parole sopra dell'onnipotente dio tutte le parole ci dicono che dio porterà giustizia al suo popolo e che non tollererà le grida di giudizio per il suo popolo nota dio è verità e quindi la giustizia e il giudizio sono il fondamento del suo trono senza significato il fondamento di dio è il giusto giudizio il fuoco lo precede sì l'onnipotente dio è un fuoco divorante tutti coloro che si oppongono alla trinità saranno consumati dal fuoco i fulmini danno luminosità al mondo e vedranno la prossima azione brillare come il sole chi sta discutendo per la verità di dio sì pochissimi discuteranno della verità dell'iddio onnipotente il messaggio dell'etiopia alla luce del mondo era principalmente quello di trasmettere la verità questo va avanti da 15 anni nelle parole dell'onnipotente dio lassù nota il significato di ogni parola cosa significa sono entrati nella tua eredità lo vedi chiaramente oggi non dovresti dubitare che l'etiopia sia stata in base dai guerrieri globali del diavolo quale programma persegue oggi il nostro leader sì sono gli esecutori della campagna globale del diavolo british intelligence agency agenzia di intelligenza degli stati uniti emirati arabi uniti agenzia di intelligenza saudita perché versano i loro soldi perché le loro spie camminano al mattino e alla sera in effetti avete visto così tante denominazioni in etiopia massacrate ed esiliate la forza razzista tigrea disperso molestato e perseguitato l'etiopia per 29 anni l'attuale governo che è uscito dal suo grembo è un serpente che ha cambiato aspetto è ben illustrato nel messaggio 8 il governo sta intensificando la campagna coordinata del tplf per distruggere la nostra chiesa tplf di suo padre ha distrutto la nostra chiesa i monasteri i bisnonni in molti modi il governo di oggi ha cambiato volto con il nuovo ide in linea con i piani britannici americani questo governo di abì hamed la chiesa è crollata da quando ha preso il potere è stato bruciato tutti i suoi membri stanno conducendo guerra e genocidio contro la comunità amara che ha abbracciato questa convinzione non solo in termini di pianificazione e strategia ma anche di fronte all'antisemitismo aperto questo regime è stato fondato dal popolo romo non tutto il popolo romo ma la maggior parte delle parti orientali e occidentali di romo si basa sull'eresia e sull'islam in due anni e mezzo ha consumato un gran numero di persone si sta preparando e si impegna a farlo da molto tempo anche se è un desiderio tuttavia ha distrutto l'eredità di dio lo abbiamo visto nelle parole dell'iddio onnipotente che ci ha mostrato bruciando e distruggendo la chiesa pertanto esorto tutti i lettori a capire che il giudizio è molto difficile è per questo motivo che ho messo le parole di dio onnipotente sulla porta principale prima di entrare nel messaggio principale la piazza pulita che è avvenuta non ha precedenti nella storia umana dimostra quanto sia potente e inarrestabile l'ira di dio dopo questa introduzione troverete in apocalisse di giovanni capitoli 16 18 19 quando la parola è espressa esso rappresenta il flusso di rabbia mostra anche il suo peso vi esorto a capire che l'obiettivo è quello di adempiere alle parole dell'onnipotente dio menzionate nell'apocalisse di giovanni 20 il contenuto di base e lo scopo del messaggio il messaggio è uscito come nelle epistole precedenti non è solo trasmessa dallo schiavo dell'onnipotente piuttosto dimostra chiaramente che si tratta di un messaggio del governo mondiale dell'ettiopia afferma la serietà del messaggio e il suo compimento nella potente volontà della trinità il messaggio tocca molte cose mostra la verità il giudizio l'esecuzione descrive il giudizio sincero di ieri sulla trinità e ciò che è stato fatto e sarà fatto nel processo descrive anche la purificazione e l'azione che non sono mai state viste nella storia umana il più difficile di tutti contiene potenti decisioni di esecuzione è un periodo di turbulenze senza precedenti punto e virgola i comandi rigorosi sono decisivi è una rivelazione di cose che non sono state ancora rivelate che sono state tenute segrete controversia tra credenti e non credenti le implicazioni sia dei malvagi che dei servi del diavolo saranno chiaramente identificate per autorità divina della trinità esso è il diretto comando regola e il comando del dio onnipotente schiavi esservi esse è un messaggio di comandi urgenti e potenti è molto importante che tutti i discendenti di adam lo leggano e lo ascoltino tutti i discendenti di adam indipendentemente da dove vivano saranno giudicati dalla trinità quindi ascolta il vecchio serpente il drago il falso profeta governi organizzazioni istituzioni religiose giocatori d'azzardo politici moderni ricchi che hanno tutti adorato il diavolo che abbiano ricevuto il suo marchio o no e che hanno venduto le loro anime per l'amore della loro carne sarà incluso nel giusto giudizio che lo ascoltino meno la nostra missione è esprimerlo dare cattive notizie a una persona cattiva per colui che è benedetto è solo per esprimere la buona notizia fino ad oggi almeno 7 messaggi sono stati inviati a tutti i discendenti di adam dal 2011 in calendario etiope principalmente su telegram channel un canale lanciato da nostro figlio brucchi amato revelation of john 20 in questa pagina la luce etiope del mondo cerca costantemente di raggiungere tutti i discendenti di adam con messaggi dichiarazioni insegnamenti consigli e comandi è stato tradotto in varie lingue dalle famiglie di dio con il pieno sostegno del nostro salvatore gesù cristo e della vergine maria ed è stato messo a disposizione di tutta l'umanità secondo il messaggio e la decisione dell'unipotente dio oggi non avremmo dovuto vedere nemmeno il tuo segno tuttavia ci siamo sentiti infuriati dal fatto che tu sia ancora in vita con la tua arroganza i tuoi crimini passati e l'apostasia la tua omosessualità e adulterio la tua peccaminosità arrogante e sfrenata nella storia del mondo ci siamo dispiaciuti con il nostro dio la trinità di abbramo e la pazienza della vergine maria abbiamo discusso ma siamo umani e la nostra pazienza è uguale a quella degli umani ma la pazienza del signore nostro salvatore al di là della comprensione ecco perché sei ancora qui ma ora non hai più tempo per usare la pazienza dell'iddio onnipotente e della vergine non può esistere questo messaggio è solo per annunciare i tuoi risultati fino ad oggi la pazienza è stata pagata a un prezzo che non deve mai essere pagato poiché la coppa è piena parteciperai alla festa della morte finale è bene che tutti i discendenti di adam lo legano e lo ascoltino perché sia la sua vita che il suo addio furono annunciati aiuta anche a capire l'equilibrio della giustizia leggi attentamente c'è anche una breve descrizione dell'identità dei servieletti di dio e della vergine maria questo è secondo il comando divino della trinità dopo 15 anni per chi arriverà alla risurrezione congratulazioni poiché vani sono gli uomini di questo mondo ricchi di peccato fedeli al diavolo generazioni malvagie è una notizia della loro morte e distruzione che è sesso è finita corri fuori dicendo questo un suono ha sentito un forte tuono usci dal trono della trinità il creatore di tutta la creazione dal cielo si lascia che te lo dica ancora e ancora il tuo ordine finale è arrivato ascolta i discendenti di adam o ascolta la tua potente distruzione mi ha colpito alla fine del mondo ed è venuto per distruggerti e per farti implorare la morte ce lo dicono le parole dell'iddio onnipotente e udì una grande voce dal tempio che diceva ai sette angeli andate per le vostre vie e versate le coppe dell'ira di dio sulla terra e il primo andò e versò la sua coppa sulla terra e cadde una piaga fastidiosa e dolorosa sugli uomini che avevano il marchio della bestia e su quelli che adoravano la sua immagine quando questo accade apostasia cattolicesimo islam scintoismo buddismo induismo unzione uache fate eccetera tutti coloro che adorano dio e adorano la bestia saranno picchiati da chiunque al di fuori della chiesa ortodossa etiope la ferita è così forte che non può essere curata il secondo angelo versò la sua fiala sul mare ed è diventato come il sangue di un uomo morto e ogni anima vivente è morta nel mare nota se questa esplosione distrugge tutta la vita marina tutti i pesci che costituiscono il 50 per cento del cibo umano verranno distrutti e si trasforma in un cattivo odore e l'intero mare diventa fonte di cattive malattie e il terzo angelo versò la sua coppa sui fiumi e sulle fontane delle acque e sono diventati sangue e udì l'angelo delle acque dire tu sei giusto o signore che sei ed eri e sarai perché così hai giudicato poiché hanno sparso il sangue di santi e profeti e tu hai dato loro da bere sangue perché sono degni e udì un altro fuori dall'altare dire anche così signore iddio onnipotente veritieri e giusti sono i tuoi giudizi virgola quando capiamo le implicazioni di questo se i fiumi e le sorgenti sulla terra fossero sangue sarebbe come il popolo d'egitto che muore di sete se tutti gli esseri umani perdono acqua non durerà una settimana il mare non beve perché è salato e il quarto angelo versò la sua coppa sul sole e gli fu dato il potere di bruciare gli uomini con il fuoco e gli uomini furono bruciati dal grande calore e bestemmiarono il nome di dio che ha potere su queste piaghe e non si pentirono per dargli gloria virgola perciò soprattutto le ferite e la sete di acqua il fuoco ardente e ardente cadrà su tutti i malvagi quando cerca la morte e la morte si nasconde con ciò iniziò a insultare il dio come suo padre il diavolo e il quinto angelo versò la sua fiala sul seggio della bestia e il suo regno era pieno di tenebre e si rosicchiavano la lingua per il dolore e bestemmiavano lì dio del cielo a causa dei loro dolori e delle loro piaghe e non si pentivano delle loro azioni virgola questa azione è venuto di fronte a voi un bruciore e pungente ferita una sensazione di bruciore un fuoco che brucia uno stridor di denti morte inarrestabile questo è quello che ti succederà e il sesto angelo versò la sua coppa sul grande fiume o frate e l'acqua ne fu prosciugata affinché si preparasse la via dei re d'oriente e vidi tre spiriti impuri come rane uscire dalla bocca del drago dalla bocca della bestia e dalla bocca del falso profeta poiché sono gli spiriti dei diavoli che operano miracoli che vanno ai re della terra e del mondo intero per radunarli alla battaglia di quel grande giorno dell'iddio onnipotente ecco io vengo come un ladro beato chi veglia e custodisce le sue vesti perché non cammini nudo e vedano la sua vergogna e li radunò in un luogo chiamato in lingua ebraica armageddon virgola questo è ciò che ti aspetta sarà una guerra che coprirà il mondo intero che conquisterà la maggior parte della popolazione mondiale e il settimo angelo versò la sua fiala nell'aria e una gran voce venne dal tempio del cielo dal trono dicendo è fatto e c'erano voci tuoni e lampi e ci fu un grande terremoto come non fu da quando gli uomini erano sulla terra un terremoto così potente e così grande e la grande città fu divisa in tre parti e le città delle nazioni caddero e la grande babilonia si ricordò davanti a dio per darle la coppa del vino della sua ira ardente e ogni sola fuggì le montagne non furono più trovate e cadde sugli uomini una grande grandine dal cielo ogni pietra del peso di un talento e gli uomini bestemmiarono dio a causa della piaga della grandine perché la sua piaga era estremamente grande noi abbiamo guardato le parole di apocalisse di giovanni capitolo 16 come avrete sentito dall'altissimo l'appostolo giovanni che era amato e riverito dal nostro signore e salvatore era una ferma visione del dio onnipotente dell'isola di patmos come ti ho spiegato in precedenza nella nostra lezione dio onnipotente non fa sempre nulla senza dire ai suoi amati servitori cosa intende fare di conseguenza assicurò al suo amato apostolo giovanni il futuro di tutte le cose del mondo ecco il signore nostro salvatore che conferma la parola accompagnato da un arcangelo per attuare la parola ascoltate discendenti tutti di adamo perché la coppa è piena la trinità di abramo che hai disprezzato respinto e per cui hai combattuto è arrivata a includirti nel suo giudizio ascoltatemi gente mia tutto quello che hai visto finora che era una punizione consulenza forse c'è stato uno sforzo per riaverti indietro non potrebbe essere sei andato di male in peggio a causa del tuo orgoglio e della tua apostasia tutti i nostri sforzi per trovare una via di fuga per te sono stati vani l'hai spinto con la tua forza distruttiva non hai nemmeno dato un piccolo prezzo per la mano tesa di merci non ti sei pentito all'età che ti è stata data ma hai confidato nel vecchio serpente e hai fatto del falso profeta il tuo dio ti sei rallegrato del tuo tradimento hai calpestato il signore nostro salvatore gesù cristo pazienza con la vostra arroganza e l'apostasia se non ti allarmano i disordini e la carestia la malattia e la guerra il genocidio e il genocidio le guerre razziali e religiose i disastri naturali i terremoti e il raduno del creatore se disprezzi tutta la punizione patriarcale e dici che non lo sai la tua divinità a tutti sei un nemico di dio cosa succederà se adori il diavolo cosa aspettarsi ti è stato concesso molto tempo ma l'hai usato per adorare il diavolo hai portato l'ira irrevocabile dell'idio onnipotente con la tua peggiore apostasia ecco la voce del tuo compimento dal trono dell'onnipotente dio è finita i sette angeli si precipitarono sulla terra per versare la coppa dell'ira allora dove ti puoi nascondere abbiamo gridato per te affinché non cadessi da questa fornace e non ti estinguessi con la tua razza non potrebbe essere io il vanitoso il fidato servitore della trinità ho finito di raccontarvi tutto per 15 anni non volevo provare a contattarti di nuovo ma perché era un ordine forte della trinità dell'amore di mio padre per i comandamenti di suo padre per amore di mia madre vergine maria ti dirò la tua brutta notizia di dolore cosa ascolta perché è finito ascolta hai solo tempo per ascoltare e dire addio non hai più tempo è finita chi sono gli adoratori della bestia devi saperlo chiaramente la stragrande maggioranza dei cristiani a difficoltà a capire la parola profetica di rivelazione questo perché non chiediamo all'onnipotente dio di leggere il significato della visione sotto la guida dello spirito santo molti cosiddetti studiosi moderni sono guidati dai loro spettacoli diabolici e lo interpretano come un'idea malvagia qui nel nostro paese per gettare audacemente i semi del dubbio hanno pubblicato un libro che è pesante nella mente delle persone lo hanno fatto voleva contraddire quanto affermato nel messaggio numero 5 del calendario etiope del 2004 etiopia la luce del mondo perché so esattamente cosa sono questi scrittori noi vedremo i risultati dal momento che il loro giudizio è stato seguito torniamo al nostro punto principale chi sono gli adoratori della bestia e quelli che ricevono il marchio ciò che descriviamo nella prima riga sono eretici successivamente la loro madre cattolica in seguito l'islam è il principale religioni come asia cina thailandia corea vietnam cambogia mongolia e altre parti del mondo come il buddismo scintoista il buddismo l'india l'induismo il sikhismo costituiscono circa il 90 per cento della popolazione mondiale oltre a questi ci sono quelli che adoravano vari dei e ci sono quelli che sono ateli chi non riconosce il marchio della bestia e non lo adora sì è chiaro i veri credenti teua ed ortodossi coloro che adorano la trinità in verità in spirito si battezzarono in 40 giorni e ricevettero la gloria della trinità coloro che non praticano il paganesimo nella loro fede coloro che mantengono la loro fede che camminano in santità davanti all'onnipotente dio e alla vergine maria questi sono gli unici che non hanno adorato la bestia e non hanno preso il marchio questo è un dato di fatto chi allora deve essere salvato chi sopravviverà alla risurrezione e ripeto trasgredirà chi non adora la bestia e non ne prende il marchio e la adora facci sapere che l'adorazione della ricchezza della conoscenza e del potere non è una sua forma di adorazione della bestia nota oggi al momento presente chi sono i principali rappresentanti o le stazioni di comando della bestia citiamoli nel loro paese regno unito stati uniti cina francia germania israele arabia saudita turchia iran corea corea australia brasile india spagna canada sudafrica giappone italia eccetera questi altri più piccoli paesi essi servono il diavolo come un esecutore di comando e un facilitatore babylon america è l'epitome della bestia affondato sulle lacrime e sul sangue dei poveri è risaputo che la gran bretagna ha colonizzato metà del mondo e mentre hanno portato a termine questa espansione hanno massacrato i suoi abitanti e hanno milioni di sangue innocente nelle loro mani gli ingegneri britannici francesi portoghesi spagnoli italiani e tedeschi sono i principali ingegneri per lo spargimento di sangue su questa terra in asia russia e corea giappone corea e altri furono fondamentali per l'esecuzione della bestia oggi essi hanno aggiornato il loro culto e sono sullo stesso percorso non c'è governo popolo che non adori la bestia e non ne porti il marchio a cominciare dai governanti del nostro paese i paesi grandi e piccoli tutti i governanti e i loro adulteri adorano la bestia e portano il marchio accanto agli eretici e ai cattolici che adorano la bestia e hanno il marchio ci sono i seguenti islam questa credenza è un mito pieno di falsa credenza presa dal libro del vecchio serpente del diavolo libro delle tenebre questa convinzione ha distrutto tutti per più di 1400 anni e li ha portati fuori dal modo di vivere è la fede che ha versato il sangue dei veri profeti e dei giusti fede ortodossa di teweido questa convinzione non ha nulla a che fare con la realtà è pieno di miti e parabole ha avuto origine in quella che ora chiamiamo arabia saudita oggi più di un miliardo di musulmani si trovano nella capitale la mecca salutando il regno del diavolo si inchinano di conseguenza adorarono la bestia e ricevettero il marchio c'è un detto una profezia tra i musulmani specialmente intorno alla mecca dove vivono i musulmani è il seguente in futuro in etiopia sorgerà un re calvo questo uomo distruggerà l'islam così come la sua capitale la mecca solo poche persone sopravviveranno credono che il resto andrà perso questa affermazione è ben nota ai musulmani più anziani il giovane islam non vi presta molta attenzione ma è vero ci possono essere delle persone mansuete che dio ama in ogni epoca e per l'unica persona mite dell'islam dio può avergli rivelato tuttavia sicuramente periranno perché l'islam ha versato così tanto sangue saranno spazzati via il re che regnerà in etiopia e l'imperatore teudros capiscilo il tempo è scaduto è arrivato alla loro porta li distruggerà trust ed è amato dal dio onnipotente con piena del potere del dio onnipotente nessun potere terreno può resistere fedele servitore della trinità per questa verità da 15 anni è stata rivelata in etiopia la luce dei messaggi del mondo questo mondo e i suoi abitanti non lo accetteranno mai per questa generazione come bere allo e che ricevere la verità non accettarlo lo riceverai mentre stai morendo i messaggi etiopia la luce del mondo circolano per tutti i discendenti di adamo da 15 anni cosa fare per la generazione che ha chiuso l'orecchio al suo messaggio l'islam è uno degli strumenti del diavolo noto per la sua arroganza apostasia e distruzione quando vengono avvisati non ascolteranno sono pieni di odio e disprezzo non considerano come esseri umani coloro che non sono l'islam hanno avuto la più grande opportunità di pentirsi ma non l'hanno sfruttata pertanto secondo questo messaggio la coppa che riceveranno è destinata ad essere come gli eretici lascia che questa brutta notizia ti raggiunga niente più possibilità l'hai seppellito con il tuo orgoglio non c'è parte del mondo che sia senza islam ce ne sono in tutto il mondo sono più di un miliardo e mezzo come ho già detto tutte le piaghe dei sette angeli sono anche per i musulmani perché adoravano e accettavano il marchio dell'ex serpente del drago e del falso profeta credenze della cina e credenze simili il taoismo il confucianesimo il buddismo lo scintoismo negano completamente la trinità adorano idoli filosofie e draghi queste sono le credenze che mostrano più chiaramente che coloro che adorano il vecchio serpente il drago il falso profeta e detengono il marchio celebrano anche il loro anno nominandolo l'anno del cane l'anno del topo l'anno del drago l'anno della scimmia e l'anno del drago questa convinzione va oltre la cina ed è entrata in vietnam thailandia nepal cambogia corea e giappone hanno sparso a lungo il sangue degli innocenti nella loro terra per stabilirsi pertanto sono inclusi nella giustizia dell'idio onnipotente devono essere distrutti e spazzati via hanno una popolazione di 1,8 miliardi india l'induismo è la religione principale dell'india e copre l'80 per cento della popolazione indiana il 14 per cento è islamico sopravvissuti a questo detiene il sikhismo e molte altre religioni pagane frammentate in questo paese c'erano devoti seguaci della chiesa ortodossa oggi sono quasi inesistenti queste credenze del figlio del diavolo hanno distrutto il teweido l'india versato molto sangue innocente è un paese di 3 miliardi di persone si sono inchinati apertamente alla bestia e sono ancora in piedi in questo modo saranno tutti spazzati via e distrutti i tipi di credenze che abbiamo elencato sopra quando li elenchiamo in numeri eresia protestanti cattolicesimo e altre credenze cristiane 2,2 miliardi scintoismo buddismo taoismo confucianesimo in totale circa 2 miliardi induismo sikhismo e altri 1,3 miliardi credenti ortodossi solo per nome quasi mezzo miliardo credenti ortodossi teweido raggiungono i 100 milioni atei non credenti adoratori tradizionali si stima che sia un miliardo in totale ci sono circa 7,5 miliardi di persone al di fuori della teweido ortodossa quindi tutti al di fuori della teweido ortodossa essi adoravano adorato ha preso il marchio e fatto i soldi la bestia il vecchio serpente il drago antico il falso profeta in questa raccolta poiché non si sono pentiti tutte le piaghe descritte nel capitolo 16 di rivelazione cadranno su di loro saranno spazzati via dalla terra nella grande era della trinità in tutto ci sono circa 205 paesi nel mondo sono tutti basati sulle convinzioni che abbiamo elencato sopra secondo il giudizio rivelato e determinato in piedi nella loro sorte destinata secondo il giudizio e il comando dati dalla trinità saranno presto spazzati via dall'ira divina cosa ci dice rivelazione di giovanni capitolo 18 la parola di dio onnipotente dice e dopo queste cose vidi un altro angelo scendere dal cielo con grande potere e la terra fu illuminata dalla sua gloria e gridò potentemente con una voce forte dicendo babilonia la grande è caduta è caduta ed è diventata l'abitazione dei demoni e la presa di ogni spirito immondo e una gabbia per ogni uccello impuro e odioso poiché tutte le nazioni hanno bevuto il vino dell'ira della sua fornicazione i re della terra hanno commesso fornicazione con lei e i mercanti della terra si sono arricchiti per l'abbondanza delle sue prelibatezze virgolette nessuno conosce l'america nessuno tutti la conoscono anche il porta biberon baby la conosce c'è qualcuno che l'america non ha fatto c'è qualcuno che non è diventato omosessuale a causa degli stati uniti c'è qualcuno che non ha ordinato dagli stati uniti c'è qualcuno che osa disobbedire all'america c'è un paese o un'organizzazione che l'america non ordina abbiamo visto e sentito tutta la sua ribellione sono passati 15 anni da quando è stata emessa la sua sentenza gli inglesi i francesi i cinesi gli iraniani i turchi i sauditi che sono ugualmente uguali a lei non sono i nemici di dio i più fedeli servitori del diavolo si rivelazione di giovanni capitolo 19 la parola di dio onnipotente ci dice anche questo e dopo queste cose udì una gran voce di molta gente in cielo che diceva alleluia salvezza gloria onore e potere al signore nostro dio perché veri e giusti sono i suoi giudizi perché ha giudicato la grande prostituta che ha corrotto la terra con la sua fornicazione ha vendicato il sangue dei suoi servi alla sua mano e ancora hanno detto alleluia e il suo fumo si alzò per sempre e per sempre e i ventiquattro anziani e le quattro bestie caddero a terra e adorarono dio che sedeva sul trono dicendo amen alleluia e una voce uscì dal trono dicendo lo date il nostro dio voi tutti i suoi servitori e voi che lo temete piccoli e grandi e udì come la voce di una grande moltitudine e come la voce di molte acque e come la voce di potenti tuoni che dicevano alleluia poiché il signore dio onnipotente regna rallegriamoci rallegriamoci e rendiamo gli onore perché le nozze dell'agnello sono arrivate e sua moglie si è preparata e le fu concesso di vestirsi di lino finissimo puro e bianco perché il lino finissimo è la giustizia dei santi ed egli mi disse scrivi beati quelli che sono chiamati alla cena delle nozze dell'agnello ed egli mi disse questi sono i veri detti di dio apocalisse di giovanni capitolo 19 da 1 a 9 la mia famiglia la famiglia di dio si la famiglia di dio etiopian world light families e tutti voi che avete avuto l'opportunità di ascoltare questo messaggio e i sette messaggi precedenti possa dio darti una mente per capire questo grande segreto della verità di dio non puoi mai saperlo a meno che dio non illumini la tua mente poiché non c'è discendente di adam che non sia stato ingannato dal vecchio serpente il falso profeta dell'antichità un pochi di voi amati e scelti da dio coloro che hanno subito la grande tribolazione hai bisogno di essere confortato perché oggi sarà la tua giornata la tua luce splenderà la tua fatica sarà visibile i tuoi fardelli saranno sollevati e il nostro salvatore gesù ti ricompenserà quindi lode a dio malvagi adoratori del vecchio serpente fedeli adoratori del falso profeta e adoratori del dragone dite guai a voi stessi dove scapperai la giornata non passerà il minuto non sarà lungo non scapperai america inghilterra francia cina russia india israele pakistan corea del nord iran proprietari nucleari camere del diavolo e sparso tutto quel sangue dei poveri come un fiume d'acqua e sei pronto a versare un altro grande sangue non scapperai tu che hai versato il sangue degli innocenti per l'ex serpente che hai disprezzato il tuo creatore che non si è pentito tutti voi compresi i vostri stessi governi complice le piaghe cadranno subite finché non sarai distrutto dalla terra il giudizio di babilonia si era rivelato nel primo messaggio di un messaggio 15 anni prima accadrà oggi questa è la verità le parole di dio onnipotente descritte in apocalisse di giovanni capitoli 16 18 e 19 sono la volontà e le azioni di dio che verranno attuate chi sono chiamati israele dalla loro carne cosa significa perché si chiamano se non riusciamo a capirlo non possiamo capire la volontà di dio e il suo adempimento dell'idea e perché coloro che sono chiamati israele dalla loro carne e la terra che vediamo oggi nella sua storia passata dio ha insegnato a tutta l'umanità che non dovremmo adorare altri di oltre a lui che dovremmo temerlo e adorarlo è un paese in cui le persone sono state piantate per questo scopo da dio onnipotente le storie nascoste ci dicono che erano un popolo che dio aveva piantato prima della creazione di israele con la legge scritta nei loro cuori e nella loro mente quelle persone lo avevano vissuto e lo avevano adorato dio onnipotente ci fu anche un grande paese che ha governato sulla terra come affermato nel messaggio 8 c'erano non meno di 150 regni nel mondo si fidavano e adoravano in dio chiamandolo il espandendo il loro impero erano i più glorificati di tutti i regni del mondo gli etiopi ad esempio l'imperatore sende calma era un imperatore nel 4500 prima di cristo l'imperatore sende calma conquistò tutta l'africa compreso l'estremo oriente l'asia e parte dell'europa aveva governato non meno di 150 regni come descritto nel precedente messaggio 8 pagine 25 e 26 a quel tempo lì dio onnipotente si rivelò a loro molto poco con quel piccolo lampo di luce i nostri antenati furono sbalorditi e hanno lavorato troppo e hanno lottato per trovare dio non vedevano dio e dio non rivelò a loro il segreto ma loro lo amarono con la sua piccolissima rivelazione hanno creduto e fiducia su di lui si fidavano di lui con paura e amore hanno sostenuto la giustizia e il buon governo in tutto questo dio onnipotente li ha amati e rispettati l'imperatore sende calma era al potere da oltre 400 anni suo figlio l'imperatore afilas ampliò il suo impero con la volontà di dio più che con suo padre e rispettava e amava il dio onnipotente che chiamava el è diventato il padre del mondo regnando 450 anni quando tutto questo è fatto non c'era nessun paese chiamato israele al tempo della creazione di israele ci fu un tempo in cui l'umanità fu trasformata da una legge nella mente a una legge scritta quando amose fu comandato di liberare il popolo di israele dalla schiavitù in egitto fu in ricordo della promessa di dio al loro antenato abramo dio sta chiaramente affermando il suo comando di beneficiare l'umanità e secondo la capacità delle persone di ricevere e portare la sua gloria ha scelto israele per un grande onore come puoi vedere chiaramente dalla loro storia con grande potere chiamò miracolosamente il popolo di israele il mio popolo e comandò al faraone di liberare il mio popolo e di servirmi tuttavia il faraone che si rifiutò di obbedire inflisse una terribile piaga al suo popolo annegandolo nel mare e liberando con la forza gli israeliti gli israeliti erano molto testardi fin dall'inizio solo i loro figli furono in grado di raggiungere il luogo promesso perché avevano rifiutato dio adorato gli idoli e lo avevano adirato durante il loro viaggio ma caddero nel deserto e rimasero la mia gente quando pensi agli israeliti vedi che tutto l'antico testamento dalla bibbia dalla genesi al vangelo è pieno degli alti e bassi della vita del popolo di israele in questa vita non per quanto dio ama hanno trascorso la più grande prova del tempo l'audacia negando e facendo gli idoli anche se lì dio onnipotente ha suscitato i profeti più amati e fedeli non li hanno usati sono stati usati da nazioni migliori di loro dobbiamo capire che il detto un profeta non è onorato nel suo paese viene da questi israeliti pervertiti dio si rammaricò di averlo chiamato il mio popolo e chiamò mossè sul monte sinai ed espresse la sua rabbia per la loro disobbedienza quando gli diede i dieci comandamenti sebbene mossè rimase lì per 40 giorni quando mossè non apparve agli israeliti per 40 giorni gli israeliti lo negarono rapidamente fecero idoli e li adorarono bramavano l'egitto fu in questo momento che dio disse a mossè e il signore disse a mossè ho visto questo popolo ed ecco è un popolo dal collo duro ora lasciatemi solo affinché la mia ira possa divampare contro loro e che io possa consumarli e farò di te una grande nazione poiché mossè era compassionevole disse a dio perché dovrebbero parlare gli egiziani e dire egli li ha portati fuori per del male per ucciderli sui monti e consumarli dalla faccia della terra i repentiti di questo male contro il tuo popolo l'onnipotente dio è stato implorato ci assicura che il popolo di israele non si fidava dell'onnipotente va avevano pensato solo per la loro carne gli abitanti di madian erano etiopi a quel tempo secondo la parola di dio prima di allora erano amati per molti anni la storia ha dimostrato che per migliaia di anni hanno amato e creduto in dio con tutto il cuore poiché lo hanno veramente cercato con tutto il cuore e l'anima dio ama ancora il popolo etiope specialmente quelli che sono forti nella fede ortodossa poiché eri amato dai tuoi padri per la tua fede lui ha giurato e ha promesso di darti la gloria dei tuoi padri con molte benedizioni e amore oggi vi ho detto questa verità in sette messaggi consecutivi 15 anni fa come mi era stato comandato perché sono chiamati israele dalla loro carne perché non credevano nella risurrezione la risposta è vicina al tempo della misericordia al tempo amato il signore e il nostro salvatore gesù cristo venne dal suo popolo israele quando venne per salvare l'umanità dalla schiavitù del diavolo come aveva promesso non lo hanno ricevuto aspettavano che il mondo intero fosse rovesciato dalla sua forza militare quello che era nato in un granaio non era un uomo per loro lo hanno consegnato perché fosse messo a morte lo crocifissero e lo uccisero non credevano in lui anche se aveva vinto la morte hanno perseguitato e ucciso i suoi discepoli perché il loro calcolo era basato sulla loro carne così sono stati chiamati come israele di carne la loro dignità il loro amore da parte di dio sono emigrati in etiopia l'arca di sion si trasferì in etiopia perché la gloria di israele andò i fedeli etiopi israele di carne è ancora unito a babilonia america e il vecchio serpente l'antico drago e l'adoratore del falso profeta sono quelli che vedi chiaramente nell'apostasia oggi ora questi sono chiamati israele di carne perché etiopi sono chiamati israele per l'anima come abbiamo visto sopra gli etiopi erano stati amati dall'onnipotente dio per la loro fede prima della legge scritta scritta dio diede loro i regni più gloriosi della terra e vissero in onore si fidano di lui da migliaia di anni hanno accettato il vangelo con amore credendolo nella sua parola senza vederlo ancora oggi nella fornace dell'afflizione affermano l'antico testamento dal nuovo testamento e continuano a tenersi saldi alla fede unificata di dio in questo tempo di misericordia per 700 anni il vecchio serpente il drago il falso profeta ha condotto una campagna per distruggere l'etiopia che non ha rinunciato alla sua religione teweido continua a farlo anche oggi il mondo intero ha adorato il vecchio serpente il drago il falso profeta e ha ricevuto il suo marchio solo la chiesa ortodossa di teweido e i suoi credenti non si sono inchinati al diavolo popolo mio 700 anni non sono sette giorni o mesi o anni significa sette generazioni fa i nostri antenati erano meravigliosi oggi in quale aspetto del mondo vedete il signore nostro salvatore gesù cristo la vergine maria i santi martiri gli arcangeli glorificati e lodati questo non è il caso dell'irsi nell'altro mondo durante la notte la liturgia l'inno l'alleanza le festività che sono di mese in mese un popolo che trascorre i due terzi dell'anno a digiuno un popolo che teme dio e si pente confessando i propri peccati ai suoi servi dov'è la gente che si nutre insieme e che lascia che l'amore ha regni sono chiamati gli affamati numero uno al mondo vivono ancora picchiati e perseguitati dal nemico le persone più odiate di tutti i paesi a causa della sua fede amata da dio è il popolo dell'etiopia che ha resistito alla sua fede tewa ed ortodossa israel per anima o etiopia essi sono tutti i suoi nemici gran britagna stati uniti francia cina germania tutta europa asia australia iran turchia arabia saudita emirati arabi uniti qatar egitto canada israele america latina e resto del mondo sono i suoi nemici numero uno perché è successo questo sì è perché la chiesa ortodossa di tewa edo ha rafforzato la sua fede è il popolo amara che ha abbracciato questa convinzione oggi viene massacrato perseguitato e ucciso nel proprio paese non ha senso dirlo di nuovo perché lo stai guardando sia gli amici che i nemici devono essere consapevoli che questo era un prezzo da pagare per la loro fede popolo mio noi etiopi il cosiddetto israele dall'anima il popolo più amato della trinità e della vergine maria siamo i figli fedeli di dio che adorano la fede ortodossa tewedo e l'adoriamo in modo sincero e spirituale conosci il mondo intero questa è la verità sappi oggi che tu i discendenti di adam o l'intera razza umana prima di dire che non ho sentito né capito ascoltami prima di dire i miei governanti mi hanno ingannato e le mie denominazioni mi hanno distrutto hai fatto del diavolo il tuo re hai adorato il vecchio serpente oltre che il drago hai confidato nel falso profeta l'hai adorato hai ereditato il suo marchio e l'hai ereditato dai tuoi antenati questa è la verità se il numero di persone ha contato che abbracciato la fede amata da dio tewedo ortodosso che si è riunito ovunque è inferiore a 50 milioni hai creato 7,5 miliardi di persone che coprono l'intera terra per adorare il diavolo e hai fatto del diavolo i tuoi soldi questa è la verità questo è tutto non è il momento di incolpare è l'ora del giudizio sei destinato a essere pagato per i tuoi peccati come il sangue versato dalla tua apostasia e orgoglio rivelate le tue migliaia di anni di violenza israele dall'anima o etiopia colui che tu hai disprezzato tewedo dottrina ortodossa la sua bandiera il verde giallo rosso hanno essere amato e ricordato da dio onnipotente sei stato dato in etiopia come prigioniero ma prima sarai schiacciato perché è il tuo giudizio sarai arrostito in una fornace di morte questa è la verità verso la fine della pagina annuncia la conclusione di tutto ciò che devi affrontare quindi tutti prestate attenzione gli etiopi non sono facilmente chiamati israele nella loro anima hanno sacrificato molte delle loro persone hanno rafforzato la loro fede e conquistato l'amore dell'idio onnipotente con la loro condotta sono vere non come israele che è passato come un'ombra si stancano a causa del suo nome perché lo amavano e gli obbedivano li scelse li amò li approvò e li onorò li amava perché vivevano secondo la sua volontà dando vita ai giorni della sua misericordia continuando a perseverare nello spirito ascoltando e credendo alla parola di fede per diventare sempre più puri eroi patriottici credendo nel nostro salvatore gesù cristo nella fornace ardente di settecento anni di grandi tribolazioni e persecuzioni supportarono tutte le sofferenze e vissero in fede pratica così dio il creatore di tutte le cose ha approvato il teuaedo l'etiope l'etiopia il simbolo dell'alleanza di noè la bandiera verde gialla e rossa dei credenti ortodossi teuaedo che hanno versato il loro sangue li scelse li piantò nella prima risurrezione e li confortò per la sua futura risurrezione te ho detto il mondo te l'ho fatto notare nel mio primo messaggio non hai sentito voi non girare l'orecchio al messaggio l'hai disprezzato sei ancora lo stesso oggi sono passati 15 anni bevilo perché è vero anche se oggi ti amareggia perché la parola degli dio onnipotente non è vana ecco la verità la mia gente il popolo di dio come ti ho spiegato sopra la verità è arrivata è raggiunto il momento per dio di confermare la sua promessa che aveva promesso secoli fa colui che si prostrò davanti al vecchio serpente il drago il falso profeta eresia cattolicesimo islam razzismo eresia scintoismo taoismo confucianesimo induismo psichismo idolatria stregoneria segnalini stellari unzione grazia omosessualità adulterio e tutti coloro che affermano di essere istruiti coloro che adorano la tua conoscenza le tue scartoffie la tua ricchezza tutte le tue azioni e la tua fiducia sono sulla via del diavolo quando senti questo quando sei rimproverato persevera nella tua apostasia proprio come ti penti hai continuato nella tua colpa e nel tuo peggior peccato hai rinnegato il nostro salvatore gesù cristo che è morto per i tuoi peccati che ha steso la mano e ti ha chiamato per amore invece adori il vecchio serpente il drago e il falso profeta quindi dio che era adirato con te è venuto a bruciarti nella fornace lascia che ti ricordi quello che diceva il primo comandamento quando dio onnipotente ti diede i dieci comandamenti di mosse dall'inizio non adorare nessun dio tranne me e non adorare alcuni oloni cieli o sulla terra non l'hai detto di chi hai paura se solo avessi negato e adorato alla fine lo hai combattuto hai ucciso coloro che confidano nel suo nome li hai uccisi hai versato il loro sangue come un mucchio hai reso omaggio al vecchio serpente al drago al falso profeta quindi il tuo giudizio è arrivato il decreto del signore descritto in apocalisse di giovanni capitoli 16 18 19 è venuto dal trono dell'idio onnipotente per essere adiempiuto lascia che ti dica il risultato sarai spazzato via dalla terra in grande irrepeste e la tua discendenza sarà sterminata sarai consumato dal fuoco il tuo segno non sarà trovato per sempre ecco la verità è finita the ended il popolo e le famiglie di dio credendo nella grande tribolazione hanno pagato a caro prezzo la vostra fedeltà alla trinità tutti voi che siete stati assassinati affamati imprigionati uccisi e perseguitati a causa della vostra fede il mio popolo che sta ancora soffrendo allo stesso tempo per la tua fede teuaedo il teuaedo ortodosso etiope che stava con le bandiera verde gialla e rossa congratulazioni a tutti voi che avete perseverato nella vostra fede e mansuetudine in tutto il mondo hai conquistato il mondo attraverso la tua fede e perseveranza congratulazioni agli eroi che sono stati purificati dal fuoco sei rimasto fermo e trionfante confidando in tuo padre il signore gesù cristo e nella vergine maria tua madre senza timore dei tempi oscuri del diavolo dio onnipotente deve essere chiamato il tuo dio non dovresti essere imbarazzato dovrebbe ricompensarti e amarti di più perché voi siete i bambini d'oro messi alla prova dal fuoco cosa significa israele per anima o etiope coloro che sono inclusi in etiopia che sono considerati cittadini in nome dell'etiopia non sono chiamati israele dall'anima non sono considerati il cosiddetto israele dall'anima è colui che ha affermato la fede ortodossa coloro che credono che l'etiopia sia l'eredità della vergine maria quelli che credono che l'etiopia è la terra dove la gloria della trinità è rivelata ed è lodata in futuro secondo la promessa di dio tutti coloro che accettano e credono che l'etiopia è la luce del mondo e il governatore del mondo israele dall'anima oppure i destinatari dell'alleanza sono i figli dell'etiopia quelli sono veri etiopi proprio come esau il padre dei gentili era un tipo di israele di carne giacobbe era un tipo di israele nell'anima perché era stato benedetto da isacco e amato da sua madre rebecca oggi se noi etiopi soddisfiamo i criteri che ho menzionato sopra allora i veri etiopi sono la sposa della risurrezione chi non soddisfa l'etiope guardiamo quelli che sono etiopi in nome della politica ma che sono stati tagliati fuori dallo spirito di etiope domani saranno prosciugati e mangiati dal fuoco eretici protestanti queste persone hanno ereditato la fede bianca sono in completo conflitto con la fede teweido e non hanno sentimenti o amore etiopi essi sono adoratori del diavolo anti etiopia e bandiera anti etiopica e anti teweido sono anche spinti dalle forze straniere a distruggere il paese i cattolici sono come gli eretici musulmani questi sono quelli che non accettano l'etiope misurano la loro fede con i miti sono loro che distruggono tutto e versano sangue innocente per il bene dell'islam sottovalutano l'etiope dalle loro controparti arabi alla mecca anche i razzisti e gli adoratori di alberi e fiumi odiano apertamente l'etiope odiano la nostra bandiera verde giallo rossa e la bruciano persino essi hanno dichiarato apertamente che non sono etiopi tutti gli ortodossi non teweido in etiopia sono anti etiopi in questo momento per l'etiopia chi rappresenta la sua vera gloria tutti i giocatori d'azzardo politici dal leader del paese chiunque volesse sapere cosa sta facendo cosa sta facendo chi sta facendo è stato in grado di conoscerlo da quello che fa il nostro governo non deve rendere conto al popolo etiope ma principalmente al regno unito e agli stati uniti agli emirati arabi uniti e all'arabia saudita e anche alla cina si tratta di un governo che sta compiendo il loro desiderio di rimanere al potere ogni paese in ogni parte del mondo come paese è soggetto al dominio delle superpotenze è anche l'esecutore della loro volontà hai capito il passaggio successivo sopra è una decisione inevitabile come è stato ripetutamente affermato in etiopia rimarrà solo il vero popolo ortodosso teweido etiope coloro che odiano l'etiopia odiano la bandiera e la disprezzano e si sforzano di distruggerla quelli nella nostra chiesa e tra la gente ai vertici della struttura politica quelli che misurano il paese con il loro stomaco tutti coloro che vendono la propria personalità per il proprio stomaco coloro che sono stati cavalcati da altri coloro che portano l'agenda della distruzione che non portano ostacoli che guidano come asini che soggiogano la propria gente per il bene dello stomaco versano il sangue della loro gente e coloro che uccidono perseguitano e imprigiunano sono anti etiopi il loro giudizio è irrevocabile periranno con tutti i loro discendenti popolo mio sei disperso in tutta l'etiopia povero di dio che viene massacrato dalla tua fede teweido ortodossa etiope ascolta il mio consiglio pensa ai tuoi padri comprendi la loro forza sei il loro figlio tieniti saldo alla tua fede non compromettere la tua fede organizzati armati nessuno può aiutarti tranne il dio di cui ti fidi il governo non ti ha contattato non ha nemmeno fatto una dichiarazione quando sei stato massacrato il governo è un governo per proteggere i suoi cittadini ma questo governo è così crudele che si preoccupa solo del suo potere non si può negare il fatto che tutte le istituzioni governative di addis abeba siano piene di una sola razza proveniente da un'area di oromo non ha fornito scuse di distruzione per questo li licenzia dal lavoro dicendo che è il nostro turno si è seduto lavandosi gli occhi con il sale e non si vergogna dice io lavoro per lo sviluppo la pace e l'uguaglianza ma il governo che vedi ti odia e odia il puro etiope perché non ti vole perché la sua fede è un'eresia e l'islam che è odiato da dio ti sta tormentando nel tuo stesso paese che dovrebbe essere rimosso nel tuo stesso paese e nel tuo stesso paese ma tutto questo è colpa tua sei ai suoi piedi morente cosa può fare per te se non ucciderti quindi armatevi di coloro che amano veramente il vostro paese che vi sembrano nella fede proteggi te stesso e il tuo paese non dare le tue armi a nessuno preparati sempre annusa il coraggio dei tuoi padri non è solo perché sei amara stai facendo campagna principalmente a causa della tua amata fede ortodossa te uedo da parte di dio nota il mondo intero sta combattendo contro la fede te uedo per distruggerti la ragione di ciò sono tutte le credenze non te uedo gli insegnamenti apostati del vecchio serpente del drago e del falso profeta adorano tutti il diavolo e ricevono il suo marchio così presto saranno spazzati via dalla grande ira e dalla peste quindi gente il popolo di dio ecco perché ti dico di rafforzare la tua unità cosa dice apocalisse di giovanni 20 riguardo alla prima risurrezione sul messaggio numero 5 inviato il 21 settembre 2004 nel calendario etiope indicava chiaramente il destino dell'ex serpente il drago il falso profeta su di esso popolo mio non c'è segreto che non sia stato rivelato a giovanni perché l'apostolo giovanni amava di più gesù e il nostro signore e salvatore gesù cristo lo amava più di ogni altro apostolo giovanni che ha mostrato chiaramente il suo amore sincero è stato profondamente rattristato dalla sofferenza del nostro signore dall'inizio alla fine l'integrità dell'apostolo giovanni non è mai variata il signore ha affidato sua madre a essere nostra madre a giovanni dicendo ecco tua madre popolo mio l'apostolo giovanni era un cuore amico del signore e quando parlò di ciò che aveva udito e compreso con le sue stesse parole spiegò che comprendeva molti misteri che non potevano essere spiegati in un libro questo apostolo scrisse la verità sul futuro del mondo rivelatagli dal signore alla fine della bibbia intitolata rivelazione di giovanni infatti mentre cammini per fede non devi vacillare nella fede come fece l'apostolo giovanni allo stesso modo devi amare la trinità con tutto il tuo cuore mente e anima questo non vuol dire che ho sminuito la grandezza il martirio degli altri grandi apostoli sono tutti gloriosi agli occhi di dio e sono un pilastro della nostra fede la mia gente lascia che te lo dica di nuovo oggi facciamo vedere che cosa apocalisse di giovanni capitolo 20 dice perché si è in procinto di essere soddisfatte e vidi un angelo scendere dal cielo con la chiave del pozzo senza fondo e una grande catena in mano e afferrò il drago quel vecchio serpente che è il diavolo e satana e lo legò per mille anni e lo gettò nella fossa senza fondo lo rinchiuse e gli pose un sigillo perché non inganna più le nazioni finché i mille anni non siano compiuti dopodiché deve essere sciolto per un po e vidi i troni e si sedettero su di loro e fu dato loro il giudizio e vidi le anime di loro che furono decapitate per la testimonianza di gesù e per la parola di dio e che non avevano adorato la bestia nella sua immagine nessuno dei due aveva ricevuto il suo marchio sulla fronte o nelle mani e vissero e regnarono con cristo per mille anni ma il resto dei morti non visse di nuovo fino alla fine dei mille anni questa è la prima resurrezione beato e santo è colui che partecipa alla prima risurrezione su di essi la seconda morte non ha potere ma saranno sacerdoti di dio e di cristo e regneranno con lui per mille anni e quando i mille anni saranno trascorsi satana sarà liberato dalla sua prigione e uscirà per ingannare le nazioni che sono nei quattro quartieri della terra gog e magog per radunarle insieme per la battaglia il numero delle quali è come la sabbia del mare ed essi salirono sulla larghezza della terra e circondarono il campo dei santi e la città amata e un fuoco scese da dio dal cielo e li divorò e il diavolo che li aveva ingannati fu gettato nello stagno di fuoco e zolfo dove sono la bestia il falso profeta e sarà tormentato giorno e notte per sempre e per sempre e vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra dalla cui presenza fuggirono la terra e il cielo e non fu trovato posto per loro e vidi i morti piccoli e grandi stare davanti a dio e i libri furono aperti e un altro libro fu aperto che è il libro della vita e i morti furono giudicati da quelle cose che erano scritte nei libri secondo le loro opere e il mare ha dato i morti che erano in esso e la morte e l'inferno consegnarono i morti che erano in loro e ciascuno fu giudicato secondo le sue opere e la morte e l'inferno furono gettati nel lago di fuoco questa è la seconda morte e chiunque non fu trovato scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco apocalisse di giovanni capitolo 20 l'intera parte nel messaggio numero 5 datato 21 settembre 2004 ho cercato di spiegare le implicazioni di questo apocalisse di giovanni 20 molti studiosi hanno interpretato questa rivelazione di giovanni in modi diversi nella loro interpretazione quasi tutti dicono che non ci sono due risurrezioni è la prima risurrezione al battesimo la seconda dicono è la risurrezione dopo il giudizio finale secondo concludono che cristo regnerà con loro per mille anni che questo non accadrà e che regnerà con loro nel giudizio finale ora l'ex serpente il drago il falso profeta ha preso il controllo di tutti i governanti della terra quindi lo interpretano con questa lente di saggezza perché l'opera del falso profeta è diffondere la menzogna come verità gli insegnamenti dei grandi collegi teologici come ho già detto perché il falso profeta ha distorto la verità in tutti i suoi insegnamenti teologici hanno concluso che non ci sarebbe la risurrezione sulla terra che ci sarebbe stata una risurrezione solo alla fine del mondo di conseguenza la risurrezione dell'etiopia è diventata un mito per loro la verità di dio che ha rivelato nel messaggio etiopia la luce del mondo la ripeteremo anche in questo nono messaggio come segue ecco come intendiamo i millenni per rivelazione di dio spirito santo quando ci proviamo letteralmente la prima parola dice e vidi un angelo scendere dal cielo con la chiave del pozzo senza fondo e una grande catena in mano prima di vedere questa parola cosa intendiamo per mille anni l'apostolo pietro che ha rivelato il mistero del tempismo di dio ci dice che un giorno è considerato da dio mille anni e mille anni un giorno pertanto misurare il tempo in base al numero non limita la volontà di dio in qualsiasi momento o periodo ma per noi pertanto il millennio può essere accorciato aumentato o parzialmente completato dio ha detto che sarei venuto come un ladro ma non ha detto che sarei venuto in questo giorno in questo momento in questo minuto quindi non c'è bisogno di polemiche quando la volontà di dio è fatta può essere accorciata o allungata poiché può essere tante volte quanto descritto è la cosa più importante mantenere la fede e afferrò il drago quel vecchio serpente che è il diavolo e satana e lo legò per mille anni e lo gettò nella fossa senza fondo lo rinchiuse e gli pose un sigillo che egli non ingannare più le nazioni finché gli anni della tua sabbia non siano compiuti così il mio popolo dove discende dal cielo l'angelo con la grande catena e la chiave dell'abisso chi è arrestato per portare a termine il suo incarico sulla terra chi è gettato nell'abisso è il vecchio serpente il drago il diavolo e satana coloro che non si sono prostrati e non hanno adorato la bestia il dragone e il falso profeta e quelli che non hanno ricevuto il marchio saranno liberati dal giusto giudizio di dio e confortati per mille anni il vecchio serpente il drago e il falso profeta trascorreranno mille anni in cattività e dopo deve essere sciolto per un po di stagione questo indica l'ora finale del giudizio allora cosa accadrà dopo che il vecchio serpente il drago e il falso profeta saranno stati imprigionati dopo questo ho visto i troni sparsi e ho visto un essere umano seduto su di loro dice la parola della visione l'essere umano è gesù dice che ci sono più di un trono questo mostra che tutti e tre i corpi della trinità esistono e che tutto sarà fatto per loro volontà e poi ha giudicato il giusto giudizio per le anime dei morti per amore del nostro salvatore gesù e per la parola di dio si molte persone sono state massacrate martirizzate per la parola di dio per la verità per il te uedo ancora oggi stiamo assistendo e ascoltando che la chiesa ortodossa etiope in particolare il popolo amara viene massacrato dal piano che il mondo è d'accordo e sostiene quello che vedi oggi è una chiara indicazione che il vecchio serpente l'antico drago e il falso profeta che esistono da centinaia di anni sono quelli che adorano il simbolo del falso profeta quindi anche se si sacrificano vedranno il giusto giudizio della trinità in cielo per il prezzo delle loro anime e lodano la trinità per il suo giusto giudizio ho visto quelli che non avevano adorato la bestia e la sua immagine e quelli che non avevano ricevuto il suo marchio sulla fronte e sulle mani vissero e regnarono con cristo per mille anni questa parola è il punto principale vediamo cosa succede oggi le ex essi sono passate che aspetto a oggi chi si inchina alla bestia il mondo intero si è inchinato alla bestia perché il numero di coloro che non si sono inchinati è molto piccolo chi sono quelli che non si sono inchinati sono seguaci della chiesa ortodossa te uedo e veri credenti ecco la risposta breve non tutti gli ortodossi lo soddisfano perché non è ortodosso quello che è ortodosso solo appendendo il titolo per abitudine uno stregone contro le stelle un credente misto che costantemente ruba strappa mente commette adulterio è arrogante ingannevole malvagio crudele empio sono pastori ma sono fedeli agli eretici cattolici e musulmani alle loro false intenzioni agli strumenti del regime politico e dei credenti e sono fedeli al regno bestiale tutti questi si stanno inchinando alla bestia coloro che adorano la bestia e tengono il marchio sulla fronte sono islam eresia cattolicesimo anglicano settimo avventista presbiteriano geova protestantesimo scintoismo taoismo confucianesimo buddismo induismo e sikhismo i saggi coloro che adorano la loro conoscenza la loro saggezza e la loro carta coloro che adorano la loro ricchezza hanno tutti adorarono la bestia e portato il marchio quando questi figli della bestia che vediamo oggi vengono spazzati via gli altri regneranno con cristo perché non hanno adorato la bestia stanno andando alla risurrezione questa è la verità come regnerà cristo si regnerà dio riposerà il suo spirito santo sui suoi servitori scelti i suoi servitori eletti si vestiranno di cristo su tutto il corpo ha anche riposato il suo spirito santo per il resto del popolo e diventerà regno ecco il segreto fanno ciò che dio ama odiano ciò che lui odia perché il loro capo è il loro maestro perché dio lo spirito santo dimorava in loro ma il resto dei morti non visse di nuovo fino alla fine dei mille anni dall'inizio della creazione del mondo tutti coloro che sono stati creati e coperti da adamo ed eva sulla terra non saranno risuscitati in questa prima risurrezione sorgeranno solo alla fine del mondo per il giudizio finale beato e santo è colui che a parte nella prima risurrezione su di loro la seconda morte non ha potere ma saranno sacerdoti di dio e di cristo e regneranno con lui mille anni la parola è chiara con il messaggio di luce del mondo in etiopia era stato chiarito la proprietaria della risurrezione è l'etiopia con lei che ha riaffermato la sua fede nella teweido ortodossa è lei che è rimasta ferma contro il mondo intero i sacerdoti di cristo saranno anche i patrioti ortodossi teweido regneranno sulla terra per molto tempo e dopo e quando i mille anni saranno trascorsi satana sarà liberato dalla sua prigione e uscirà per ingannare le nazioni che sono nei quattro quartieri della terra gog e magog per radunarle insieme per la battaglia il numero di chi è come la sabbia del mare ed essi salirono sulla larghezza della terra e circondarono il campo dei santi e la città amata e un fuoco scese da dio dal cielo e li divorò dall'inizio e dalla fine della prima risurrezione il diavolo imprigionato sarà rilasciato per un breve periodo assederà la città che ha lodato lì dio onnipotente nella prima risurrezione per distruggere l'amata città di dio il giudizio di dio si rivelerà all'origine di questo atto del diavolo il fuoco scenderà e divorerà il diavolo e i suoi demoni e il diavolo che li ha ingannati fu gettato nel lago di fuoco e zolfo dove sono la bestia il falso profeta e sarà tormentato giorno e notte nei secoli dei secoli il diavolo a causa del suo coraggio si tuffò nel lago di fuoco saranno tormentati giorno e notte per sempre questa è la conclusione del vecchio serpente il falso profeta la bestia e vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra dalla cui presenza fuggirono la terra e il cielo e non fu trovato posto per loro e ho visto i morti piccoli e grandi stare davanti a dio ciò significa che tutti gli esseri umani sia vivi che morti staranno davanti all'altissimo per il giudizio finale chi entrerà nell'inferno vi saluterà colui che entrerà nel regno dei cieli entrerà ricevendo una benedizione e una glorificazione dall'onnipotente dio e i libri furono aperti e un altro libro fu aperto che è il libro della vita e i morti furono giudicati in base a quelle cose che erano scritte nei libri secondo le loro opere e il mare ha dato i morti che erano in esso e la morte e l'inferno consegnarono i morti che erano in loro e furono giudicati ogni uomo secondo le loro opere e la morte e l'inferno furono gettati nel lago di fuoco questa è la seconda morte e chiunque non fu trovato scritto nel libro della vita fu gettato nello stagno di fuoco virgolette popolo mio popolo di dio la verità è che te l'ho spiegato per coloro che dicono che non c'è resurrezione dell'echiopia abbiamo menzionato sopra dicono che ascoltiamo solo la bibbia tutti gli eretici dicono la stessa cosa oggi quelli che affermano di essere i nostri predicatori affermano di essersi diplomati in un college eretico pieni dell'orgoglio dato loro dal diavolo saltano sul palco e disprezzano la lotta spirituale dei nostri antenati li rendono facili coloro che hanno passato tutta la vita a lottare per la fede essendo stati picchiati perseguitati affamati assetati imprigionati fustigati e martirizzati rendono tutto questo più facile allo stesso tempo stanno distruggendo il confine ortodosso di teuaedo questi mali dei nostri giorni negano i patrioti ortodossi teuaedo che non dovrebbero nemmeno essere chiamati con la loro lingua apostata li vediamo negare la parola profetica dell'idio onnipotente e affermare l'eresia stiamo assistendo a quando negano il libro del fiechettor del martire che ha scritto sulla risurrezione etiope qui li sentiamo cancellare tutto ciò che è chiaramente affermato dall'arcangelo santuriele nel suo libro dal bianco nacquero questi essi stessi l'ex serpente divennero discepoli del falso profeta del drago li vediamo criticare il messaggio di etiopia la luce del mondo in cui viene rivelata la verità questi sono i discepoli del diavolo quando gli viene ordinato di parlare e che già non come pappagalli tuttavia saranno giudicati e le nostre decisioni verranno prese in futuro torniamo alla questione sollevata sopra e riassumiamo come abbiamo cercato di spiegare in dettaglio ho cercato di spiegare in dettaglio cosa sono l'apocalisse del 16 18 19 il capitolo 20 conclusivo e vincolante dell'apocalisse descritto dall'apostolo giovanni popoli miei il popolo di dio per comprendere e spiegare la parola di dio dobbiamo vivere una vita che sia guidata dalla rivelazione del mistero dello spirito santo e una fede che sia guidata dalla sua volontà nessun eretico laureato può interpretare la parola di dio come meglio crede avviso è già cieco per la spiritualità perché ha visto il mondo attraverso la lente della conoscenza non può capirlo lasciate che ve lo dica oggi critici di oggi a tutti coloro che affermano e insegnano con coraggio che non c'è risurrezione dell'etiopia da quando è uscito questo messaggio sei stato punito per le tue critiche la punizione sei stato consegnato a satana e ai suoi eserciti abbiamo giudicato che il diavolo regni sulla tua carne sei stato condannato a morire senza aver assistito alla risurrezione dell'etiopia questo è stato deciso per essere irreversibile vediamo se come puoi sfuggire a questo giudizio possa il diavolo salvarti che ti spinge a criticare famiglie di dio che si sono tenute salde alla verità che hanno chiesto a dio e hanno ricevuto la risposta tu sei il vincitore capirai quanto sarebbe ridicolo se un cieco disprezzasse un uomo che può vedere e gli chiedesse di guidarlo quindi non lasciare che il tuo cuore sia turbato ne che abbia paura lo vedrai presto quando cadranno tutti a pezzi non avete visto l'adiempimento del messaggio di giudizio di dio nell'etiopia la luce del mondo non capisci che vedi il resto dell'umanità pesata sulla bilancia dal giudizio di dio se hai dei dubbi chiedi all'onnipotente dio a che è il più grande testimone di tutto chiedi a lui perché è vostro diritto di chiedere a lui preparati è tutto tutto ciò che vedi è che quando tutti i discepoli mercenari del drago il falso profeta il falso drago saranno presto distrutti dalla miseria e dalla sofferenza le credenze e gli insegnamenti degli antenati in passato al tempo dei nostri antenati la fede era fede non era negoziabile la fede era vivificante l'adorazione è nella verità nello spirito e nella fiducia questo non esiste oggi ha anche preso l'abitudine di adorare lo considera vero mancava il fondamento come puoi vedere la stragrande maggioranza dei giovani vittime della conoscenza moderna ha abbandonato la fede dei loro antenati ed ereditato la fede bianca che ha portato alla distruzione del nostro paese e della sua generazione colui che era morto indebolito ubriaco intossicato e aduterio e disprezzava la fede ortodossa della sua famiglia non chiede ai suoi padri della fede beve davvero l'aceto di eretico che ha unto con il miele perché era andato una volta quando lo chiami non tornerà i nostri antenati erano persone vere c'erano quelli che dicevano la verità vera e la falsità falsa la loro adorazione era davvero sincera al contrario la generazione di oggi è morta per la sua carne egoista conoscenza saggezza materiali progresso hanno coperto la terra tutto viene estratto non c'è niente che la scienza non abbia creato tutto è diventato di bocca in mano ci sono così tanti tipi di armi l'aereo l'aereo da carcia trasporto umano la quantità di materiale che la nave trasporta in una volta la macchina la fabbrica l'edificio modernizzato il telefono di comunicazione la tv il satellite l'ospedale l'hotel moderno il sito dell'abuterio gli omosessuali il bere il cibo artificiale a causa di tutto ciò la scienza e il suo risultato sono diventati il suo dio ride quando parliamo di fede oggi il suo dio sono i materiali ciò che vede chiunque veda qualcosa pubblicato sui social media facebook youtube telegram immo whatsapp eccetera è completamente perso i messaggi che abbiamo preparato per iscritto per la nostra generazione pochissimi di loro l'avevano letto ma la maggior parte dei giovani e degli anziani no ma per volontà di dio attraverso i nostri figli laboriosi è stato provato trasmettendolo a voce tramite telegramma facebook e così via in questo modo una persona migliore ha potuto ascoltarlo come ho cercato di spiegare dalla prima pagina sopra i messaggi sono stati tradotti in molte lingue hanno raggiunto il mondo intero se dici di non aver sentito parlare del seme di adamo non sarai ascoltato l'hai ignorato ciò che senti è l'insegnamento dei tuoi eretici stai ascoltando le voci di cattolici idolatri scintoismo taoismo confucianesimo induismo sicismo e altri stai ascoltando l'adulterio ingannato la danza le bugie politiche l'inganno il tradimento la popolazione mondiale si avvicina agli 8 miliardi il 99 per cento delle popolazioni segue la via del diavolo in senso ampio senza problemi confortevole in apostasia adorando gli idoli questo è il modo in cui sei andato gli scritti diabolici che sembrano cristiani sono eretici cattolici ed eretici pertanto non senti la voce dei patrioti teua ed ortodossi in effetti l'hai persino ridicolizzato quando vediamo le persone nell'apostasia possiamo dire che sono tutte persone del mondo hai ancora bisogno di capire aggiungi gli eretici il cattolicesimo l'islam e le religioni dell'estremo oriente gli scritti del vecchio serpente il falso profeta del drago aggiungi l'apostata aggiungi l'astrologo omosessuale somma colui che non conosce dio fuori dal suo stomaco somma tutto quello che non ricordo quante persone trovi veramente devote a dio ti posso assicurare che non c'è nessuno coloro che sono sfuggiti alla grande tribolazione in etiopia per grazia di dio ti assicuro che rimarrai scioccato se ti dico il numero di coloro che sono stati veramente amati e amati da dio inclusi i deboli i forti gli eletti che adoravano dio in verità e nello spirito la verità è che è chiaro che non si prevede di salvare più di 10 milioni di persone in etiopia considero una vittoria per me che se dio nella sua misericordia perdonasse alcuni e perdonasse le loro mancanze e aumentasse la sua volontà non più di 3 milioni del resto dell'africa sopravvivono tutte le loro credenze sono idolatria islam cattolico ed eresia e nessuno sopravvive perché non ha altra fede europa nel suo insieme in particolare gran bretagna francia germania nord america canada australia cina i pochissimi che si arrenderanno alla chiesa ortodossa e che saranno sfuggiti tutti saranno sterminati tranne coloro che sono giudicati da nel caso del giusto giudizio del servitore di dio bambini ortodossi etiopi che vivono lì etiopian world light families quelli che hanno il simbolo membri di consulenti diligenti membri della holy cup association quelli che sono stati anche registrati al primo turno e quelli che sono stati protetti da loro anche gli iscritti al secondo turno con le loro famiglie che si sono rifugiate sotto di loro a parte questi il resto sarà distrutto da tutte le piaghe medio oriente arabia saudita emirati arabi uniti kurit bahrain oman qatar iraq iran yemen libano israele giordania siria turchia e molti altri paesi arabi in questa regione verranno spazzati via forse un piccolo numero forse solo mille può essere salvato asia giappone corea vietnam filippine indonesia nepal nyanmar kirghizistan uzbekistan turkmenistan azerbaijan macedonia croazia lettonia estonia norvegia finlandia svezia irlanda scozia groinlandia con l'eccezione di qualche dio dal cuore puro misericordiosamente saranno tutti spazzati via russia armenia serbia con poche eccezioni per misericordia di dio saranno tutti cancellati soprattutto la russia nel messaggio 3 sapeva che sarebbe stata punita con una punizione leggermente inferiore ma poiché non ha utilizzato il tempo a lei assegnato è stata pesata come le altre america latina sud america tutti i paesi circostanti inclusi cuba nicaragua panama e tutti i principali cattolici saranno spazzati via e alcune persone mansuete e sincere potranno essere salvate dalla misericordia di dio in generale tutti i discendenti di adamo non potevano sfuggire all'imminente grande tribolazione anche se il loro paese non fosse stato nominato con tutte queste piaghe e punizioni tutti coloro che adorano la bestia il drago e il falso profeta sono visitati dal fuoco chiunque tu sia tutti i discendenti di adamo l'adultero il prete lo sceicco lo studioso il capo il soldato il mercante il contadino il pastore il poliziotto il bambino il giovane la vecchia l'uomo sono tutti licenziati secondo i loro giudizi gli altri sono vestiti di vesti bianche perché meritano per la loro religione ortodossa che ha aspettato pazientemente la promessa di dio di giusto giudizio hanno acceso le loro candele che il loro olio non ha esaurito invitati alla cena dell'agnello tutti quelli che saranno segnati sulla fronte saranno salvati da tutte queste piaghe saranno benedetti e glorificati sotto il regno della luce del mondo in etiopia saranno benedetti dalla trinità e dalla vergine maria regneranno per il tempo buono per la risurrezione dio in mattinata durante il giorno di sera di notte con la costante canto la liturgia in ore alleanza chieda un virgola scorrerà dai suoi amati figli dio spirito santo riposa su tutti coloro che parteciperanno alla risurrezione e poiché cristo regna su di loro i beati e gli amati saranno completamente confortati sarà un momento in cui saranno benedetti da una lunga vita dieci volte di più di quanto lo siano oggi sarà come un flusso fluente di misericordia bontà e benedizione che dio non l'abbia mai fatto prima sarà un tempo in cui la beata vergine maria sarà onorata e lodata i santi martiri saranno lodati i gloriosi arcangeli saranno lodati e tutti i santi saranno lodati questo è il segreto rivelato nell'apocalisse di giovanni 20 la prima risurrezione mille anni il regno di cristo vibra sempre in pienezza con i sacerdoti bene gente mia sia il vecchio serpente che la bestia selvaggia sanno che questo accadrà sanno che saranno gettati nel grande fuoco quelli che non si inginocchiano davanti a loro la sposa della risurrezione quelli che hanno simboli i migliori della trinità e della vergine maria dove gli eletti dove andranno e che tutto sarà compiuto dal giusto giudizio e potere di dio il diavolo sa tutto questo bene sorprendentemente tuttavia tutti coloro che negano questa verità che vedi oggi sono onorati dal diavolo il diavolo li dotò di poteri intellettuali patriarcali sacerdotali e intellettuali l'eloquenza li ha fatti posto d'onore ricchezza proprietà dato loro ovunque questi devono essere tutti cancellati mi stupisco quando li vedo con eccessiva fierezza come voi grassi l'apostolo paolo ci dice che coloro che non conoscono dio e non lo onorano come dio sono coloro che sono pieni di grandi parole si affidano alla propria conoscenza e sono dati a menti stolte sono quelli che hanno legato la nostra chiesa da indossando un mantello sono state chiamati studiosi insegnanti e marigeta quelli che dicono nessuno è più grande di noi pieno di orgoglio che hanno venduto la verità di dio per i loro stomaci come i favisei rinnegarono e uccisero cristo coloro che dicono che la parola non sarà pronunciata tranne quello che diciamo noi coloro che lo dicono non saranno ascoltati se non approviamo coloro che negano la resurrezione dell'etiopia che ha gettato i sudari di varie società in un mantello che offusca la speranza del popolo di dio mentre il giudizio è testimoniato davanti ai loro occhi mentre dio sta compiendo la sua opera come gli è stato detto alla luce del mondo in etiopia essendo costantemente parlato e testimoniato da padri competenti con un programma segreto passa la notte con il diavolo quelli che si fortificano nell'istituto chiamato associazione dei santi oma bere chi dusano e nella scuola domenicale coloro che promuovono l'eresia in cosa differiscono dagli eretici cattolici bianchi che lo negano sì sono quelli che vengono puniti prima di tutto in breve qual era la religione dei nostri antenati poiché questo argomento è così ampio proveremo a confrontarlo con alcuni padri recenti e confrontarli con i padri attuali gli apostoli che insegnarono la verità sul mistero della trinità i dodici apostoli a dischelias paolo giacomo che è stato detto il fratello del nostro signore i sette diaconi i settantadue discepoli dissero che servi di dio figli della pace noi insegniamo questa lezione preziosa a coloro che sono veramente obbedienti a imanotabeo dal libro la religione dei nostri padri pagina 8 capitolo 6 prima parte il padre del nostro signore il nostro creatore il nostro salvatore gesù cristo che nacque prima che il mondo fosse creato dio padre o no dio il figlio non è diverso da dio il padre chi ha ragione con lui ha creato tutti i tipi di poteri e voleva essere umano in futuro ha preso il suo corpo dalla vergine maria che è vergine senza semi maschile non perdiamo mai di vista il fatto che c'è un'anima immortale immutabile e indistruttibile con la carne il lavoro degli eretici che rifiutano la religione è protestare e cambiare la legge di dio onnipotente quindi sono odiati da noi nostri antenati hanno testimoniato nelle loro parole sopra che eretici appostati avrebbero cambiato ed evradato la parola di dio i figli di quegli eretici che sembrano essere sempre più aggiornati oggi esaltarono apertamente il diavolo come dio e distrussero il mondo intero e arrivarono oggi al giudizio finale di nuovo i nostri antenati dissero di nuovo crediamo nella resurrezione dei morti e dei giusti ancora una volta poiché gesù cristo era diventato un essere umano crediamo che non ci sia peccato su di lui colui che è veramente umano è dio che è parola lui il sommo sacerdote ha riconciliato l'uomo con dio è colui che ha creato il corpo dalla beata vergine maria e si è unito ad esso è lui che ha creato tutte le cose è colui che è risorto dai morti ed è l'unico che può resuscitare i morti il vescovo ereneo ha detto la tora i profeti e il vangelo hanno insegnato a cristo ha anche detto da una vergine maria come nacque come soffrì sulla croce come morì come fu sepolto come è risorto dai morti come è salito al cielo come è apparso nella testimonianza di dio padre e mentre regnava per sempre con il padre e lo spirito santo colui che ha creato tutte le cose che ha creato l'uomo che è in ogni opera alla presenza dei governanti è il capo dei padri è lui che ha fatto la legge è il sommo sacerdote che nomina i sacerdoti regno sui re è lui che parla attraverso i profeti è lui che è diventato umano nato da dio padre e il dio del comportamento nato dal dio del carattere e il re per l'eternità è lui che ha protetto noè fu lui a guidare abramo era quello che era legato ad isacco era quello che era uno sconosciuto con giacobbe era lui che fu venduto con gioseph altro nostro il vescovo dionisio ha detto lo diamo la trinità che ha dato la conoscenza per tutti gli angeli perché hanno riportato in vita tutte le creature dei cieli e della terra sono le luci della conoscenza sono loro che rendono perfetta l'unione del credente con dio nominano tutti gli angeli sono loro che danno grazia astratta a chi la merita è così che i nostri antenati hanno descritto il mistero della trinità lo abbiamo imparato dai libri che parlano di divinità ancora una volta abbiamo trovato credenti che lodano lì dio onnipotente venivano chiamati dei nel discorso della divinità voi dei siete tutti figli dell'altissimo come è scritto quindi per carattere della trinità merita di essere chiamato dio pertanto coloro che parlano in divinità lodano questi tre corpi servono solo la trinità proclamando l'insondabile e indescrivibile unità della trinità è l'altissimo su tutte le creature perché sono un potere poiché i triniti sono uno nel carattere sono chiamati in uno le sfaccettature della trinità sebbene uniche nei loro corpi vivono nell'unità divina quando sono uno diventano tre persone lo date quindi la rivelazione del padre del figlio e dello spirito santo il padre è luce il verbo è stato generato dal padre e il figlio è la luce ottenuta dalla luce e lo spirito santo che è uscito dal padre e la luce ottenuta dalla luce crediamo solo che la nascita del figlio sia dal padre anche l'effusione dello spirito santo viene dal padre ma non possiamo esaminarlo perché è soprattutto coscienza non può essere esaminata in questo mondo ogni cosiddetto sovrano è nominato da lui perché sono la fonte di tutta la creazione perché tutti sono stati creati dalla loro bontà dai loro corpi scelsero di diventare umani perché il loro unico corpo era veramente imparentato con noi per volontà del padre e dello spirito santo il figlio di dio gesù cristo si è fatto uomo ha dormito nel grembo della beata vergine maria anche lui è nato con un meraviglioso segreto colui che non ha inizio che vive per sempre che al di sopra di tutti i ranghi e al di sopra di tutte le creature si è unito a noi avendo il nostro carattere e il tempo contava per lui senza cambiare e mescolarsi è diventato veramente un essere umano non c'è difetto nel suo carattere divino noi che crediamo nella trinità dio ce lo ha fatto conoscere da quello che ha fatto abbiamo imparato questa lezione misteriosa da insegnanti nominati da dio ci hanno insegnato questo insegnamento è nascosto e non credenti ma è chiaro a chi crede i giusti lo conoscono ma i malvagi non lo sanno abbiamo imparato questa lezione come siamo chiamati sacerdoti per titolo del nostro sacerdozio si è rivelato a noi secondo la nostra mente può accettare altro nostro padre nella sua lettera l'arcivescovo di antiochia il martire ignazio che fu nominato terzo successore di san pietro apostolo disse dio che ha creato tutte le cose è colui che può nominare e dare un titolo a tutta la sua creazione si siede sul trono di sua maestà in tre corpi dall'aspetto perfetto e governa tutto uno dei tre corpi è stato concepito nel grembo della beata vergine maria la carne si è fusa con la divinità e qui stiamo parlando del figlio di dio non del padre e dello spirito santo assolutamente non diciamo che il padre e lo spirito santo siano stati concepiti nel seno di una vergine diciamo che solo uno dei tre corpi il figlio è nato da lei crediamo che il padre esiste nel figlio e nello spirito santo che il figlio esiste nel padre e nello spirito santo e che lo spirito santo esiste nel padre e nel figlio questa trinità indistinguibili e immutabili in tre corpi è uguali in una divinità un governo uno vuole un potere un governo un culto uno lodando uno onorando per la trinità un consiglio un'autorità un onore una fermezza un modo di vivere e una volontà per la santissima trinità e il padre è il padre non il figlio e lo spirito santo il figlio è il figlio non il padre e lo spirito santo lo spirito santo e lo spirito santo non il padre e il figlio il padre non si trasforma nel figlio nello spirito santo il figlio non si trasforma nel Padre o nello Spirito Santo. Lo Spirito Santo non si trasforma nel Padre o nel Figlio. Questi tre corpi sono perfetti in Signoria e Gloria. Sono uno nella stessa unità divina. Questa Trinità, è l'unica luce ricevuta da Lui. È pieno in tutto il mondo. E risplende su coloro che sono sotto la terra. Come è scritto, sono pieno in cielo e sulla terra. Guarda anche la sua Signoria all'inferno. Eresia o protestantesimo è la risposta dei nostri padri. Tu che dici che la Divinità è malata e morta per il suo carattere, ascoltaci e vergognati. Ma noi crediamo che Cristo, il Dio di carattere, fosse un essere umano, era fisicamente malato, ma non malato nel suo divino. Morì nella carne, ma non nel divino. Se senti che la parola di Dio è malata per noi, che Dio è morto per noi. Diciamo che la Divinità con la carne è un corpo e un carattere. E sappi che chiamiamo correttamente Cristo con questo nome per la sua Divinità. Di nuovo, tu che sei diventato uno da due personaggi, tu che sei ottenuto dall'anima e dal corpo, sarai chiamato uno con il nome di umano. Anche la tua anima non muore nel suo carattere senza essere divina. Vogliamo onorare le nostre anime perché è immortale. Caso affermativo, perché non vuoi onorare il Signore Gesù Cristo mentre esce come un personaggio Trinità. Se dici che la Divinità è morta, non sai che sembra che tu abbia fatto morire Triniti? Non sai che hai fatto il corpo del nostro Signore, proprio come il corpo morto nella sua tomba, e non sai che l'hai separato dal divino. Perché il carattere della Trinità è uno. Quella Divinità è una. In tal caso, dov'è colui che ha vinto la morte e catturato l'inferno? L'hai fatto sembrare una persona impotente. Lo hai annoverato tra i morti ti non ha mostrato fermezza. Troviamo invece altri eretici chiamati Taumagolis, che il significato sono i nemici di Dio. Siccome sapeva di essere il Creatore, nella carne incarnata creata da Dio dalla pura Vergine Maria, dal suo corpo e dalla sua anima, pensano che non abbia anima e corpo. Dicono che la Divinità abbia preso il dolore dell'anima. Davvero, la Divinità è completamente separata dalla carne? La carne è lasciata marcire per sempre? Chiunque dica che l'anima non è risorta, e colui che nega, si vergogni quando sente le parole del nostro Signore Gesù Cristo che dice l'anima mia è estremamente addolorata fino alla morte. Mio Dio! Dicendo questo, su chi? È per coloro che stanno dalla parte dei perdenti. Nel suo tredicesimo messaggio, l'arcivescovo Ignazio in martire ha detto. Nostro Signore Gesù Cristo è veramente nato. È davvero cresciuto mangiava e beveva davvero. È stato davvero crocifisso. Si è davvero ammalato, è morto, è stato sepolto ed è risorto dai morti. Chi crede in questo è benedetto. Chi nega questo è diverso dalla vita benedetta che speriamo. Coloro che dividono il Figlio di Dio e Gesù Cristo, dopo che un corpo diventa un personaggio, quelli che fanno di due corpi due caratteri. Sono annoverati tra gli ebrei che hanno crocifisso Dio per il loro discorso ribelle, il loro discorso era questo, per un buon lavoro non ti lapidiamo, ma per bestemmia, e perché tu, essendo un uomo, ti fai Dio. Nella debolezza del Figlio di Dio, quelli che dicono che ha un problema, quelli che ne fanno due corpi e due personaggi, il loro destino è lo stesso di quello degli ebrei apostati. Ma il corpo del Figlio è in relazione con noi. Dalla Divinità e dalla carne unificate, è diventato uno dei due, perché ha unito entrambi. Nel Divino, come quarto del corpo e come secondo elemento di carattere non viene aggiunto. Sono tre nel corpo. I loro corpi di Trinità non sono preceduti dai loro nomi, i loro nomi non si trovano dopo i loro corpi. Quelli che il tempo non li precede, ma erano prima del mondo. Tuttavia, nessuno sulla Terra li conosceva. Il Figlio di Dio, quando era come un essere umano, dice Padre, ecco, ho fatto conoscere il tuo nome a tutti gli uomini. In modo che possano sapere che sono tuo figlio, rivelami per tua signoria. Questo era prima che il mondo fosse creato dopo aver spiegato questo, il mondo inizia a conoscerlo. Dio il Padre, dopo aver testimoniato a Debre Taber Mountain, questo è il mio amato figlio. Per spiegarci che i tre sono stati i primi e sono l'uguaglianza, ha mandato lo Spirito Santo nel Giordano. La nascita del figlio da Dio Padre è imperscrutabile e impossibile da raccontare agli altri. Perché è una bozza inscrivibile. È impossibile esaminare il gigantesco progetto. Non puoi indagare su di loro. Perché la sua nascita non è come quella umana. La sua nascita. È un mistero. Non può essere esaminato. Pertanto, la famiglia di Dio deve comprendere attentamente e comprendere le basi della tua fede teuaedo, per migliorare la tua comprensione, è una piccola prova che ho cercato di aiutarti a capire come la Santissima Trinità e il mistero della Trinità vengono rivelati dai nostri antenati. Vi esorto a leggere a Emanotabeo il libro La religione dei nostri padri. Ti aiuta a saperne di più sulle fondamenta della tua fede, che descrive come il nostro antico patriarcato pose le basi della nostra fede teuaedo. Negli stessi libri patriarcali, I più venerati, amati, fondamenti della nostra unità e combattenti spirituali, ecco alcuni di quelli che troverai in questo libro, Santa Satanasio, Basilio, Gregorio, Abulide, Efraim, Eraclide, Afrodite, Giovanni, Teodoto, Epifanio, il grande Giovanni Afeuerc, Chirlos, Teodosio, Sauros, Chiracos, Dionisio, Abba Gabriel, Abba Makers e altri che non ho menzionato a causa dello spazio limitato, li troverete tutti in questo Emanotabeo nel libro della religione dei nostri padri. Il mio popolo, le famiglie di Dio, quando hai capito le lotte di questi padri, cosa stanno facendo oggi i capi, pastori, della nostra chiesa ortodossa etio per riguardo alle loro pecore, che hanno ereditato i nomi dei patriarchi? Puoi capire cosa stanno facendo? Questo messaggio è stato emesso oggi, non per un consiglio. Giudizio e avvertimento di Dio, che fu trasmesso per sette volte e raggiunto alla chiesa, al credente e soprattutto a tutti i discendenti di Adamo, ma non erano in grado di ascoltare e pentirsi per il giudizio contro di loro a causa della loro ribellione, per disprezzo, invece hanno seguito il vecchio serpente, il drago, il falso profeta e il diavolo. Infine, questo messaggio viene rilasciato per descrivere l'arrivo di un potente incendio. Non solo è questo, per dire che la pazienza di Dio è esaurita. Sovrapposizioni e serie che la Terra non ha visto dalla sua creazione, pestilenze, terremoti, eruzioni vulcaniche, massacri, forti nevicate, inondazioni, questo messaggio è venuto per annunciare che tutto quanto sopra è arrivato, e agiranno su questa generazione peduta. Che aspetto hanno il culto vero e spirituale e la guida spirituale nella fede teua ed ortodossa? Le famiglie di Dio e i figli della Vergine Maria, dobbiamo capire cosa significa essere guidati ed essere confortati dallo Spirito Santo di Dio. Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore, nostro Padre, prima di dare il comando finale degli Apostoli, ha dato un grande comando di non lasciare Gerusalemme fino a quando non avranno ricevuto il potere, disse, vado dal Padre mio e ti manderò lo Spirito Santo, il Consolatore. Perché l'ha detto? Sì, i suoi figli fedeli, i suoi figli fedeli, tutti i quali ha pagato a caro prezzo per loro, li proteggerà dal loro nemico, il diavolo. E li guida lungo la sua strada più luminosa. Per capire la parola, dà loro tutta la comprensione e la comprensione spirituale secondo la sua bontà. Dopotutto, ci sono molti modi in cui Dio può parlare. La domanda per molti oggi è non capire come connettersi con Dio e ricevere da Lui la guida spirituale. In questo modo, i predicatori moderni rispondono alle domande dei credenti dicendo che siamo guidati solo dalla parola. Naturalmente la sua parola è il fondamento su cui si basa la nostra fede, è il pilastro centrale della nostra fede. Ma nel corso della nostra vita quotidiana, dobbiamo cercare la voce di Dio, la voce di Dio, per ascoltare le risposte alle nostre domande sulle cose buone che ci guideranno nel corso della nostra vita. Solo in questo modo possiamo mantenere la parola di Dio senza macchia. Nella parola di Dio nel libro di Giobbe, capitolo 33, i versetti 12 a 33 ci dicono ecco, in questo non sei giusto, ti risponderò che Dio è più grande dell'uomo. Perché ti sforzi contro di Lui? Poiché non dà conto di nessuna delle sue cose. Poiché Dio parla una volta, sì due volte, ma l'uomo non lo percepisce. In un sogno, in una visione notturna, quando il sonno profondo cade sugli uomini, nel sonno sul letto, poi apre gli orecchi degli uomini e sigilla le loro istruzioni, affinché possa ritirare l'uomo dal suo proposito e nascondere l'orgoglio all'uomo. Trattiene la sua anima dalla fossa e la sua vita dal morire di spada. È castigato anche dal dolore sul suo letto e dalla moltitudine delle sue ossa da un forte dolore, così che la sua vita detesta il pane e la sua anima deliziosa carne. La sua carne è consumata, che non può essere vista, e le sue ossa che non si vedevano sporgere. Sì, la sua anima si avvicina alla tomba e la sua vita ai distruttori. Se c'è un messaggero con lui, un interprete, uno tra mille, per mostrare all'uomo la sua rettitudine, allora gli è benevolo e dice, liberalo dallo scendere nella fossa, ho trovato un riscatto. La sua carne sarà più fresca di quella di un bambino, tornerà ai giorni della sua giovinezza, pregherà a Dio e gli sarà favorevole, e vedrà il suo volto con gioia, perché renderà all'uomo la sua giustizia. Guarda gli uomini e, se qualcuno dice, ho peccato e ho pervertito ciò che era giusto, e non mi ha giovato, libererà la sua anima dall'andare nella fossa e la sua vita vedrà la luce. Ecco, tutte queste cose lavorano spesso Dio con l'uomo, per riportare la sua anima dalla fossa, per essere illuminato con la luce dei vivi. Marco bene, o Giobbe, ascoltami, taci e io parlerò. Se hai qualcosa da dire, rispondimi, parla, perché desidero giustificarti. In caso contrario, ascoltami, taci e io ti insegnerò la saggezza. Dice la parola degli Dio Onnipotente, che troviamo nel libro di Giobbe. La mia famiglia, la famiglia di Dio. Come hai capito dalla parola di Dio sopra, Dio si rivelerà per noi se lo vogliamo veramente, la sua parola ci insegna che ci risponde, ci rimprovera e ci insegna. La mia gente. Il nemico che affrontiamo oggi è il più sofisticato, moderno, a causa del tempo e è pieno di grande malvagità, molti del popolo di Dio hanno bisogno della guida di qualcun altro, quando Dio parla loro in sogni e visioni. Vanno e si consultano con il predicatore, che lo ritengono buono nella sua fede e nella sua sincerità. Ma è un prete fuori posto. Non c'è niente di positivo da parte sua, perché è lui che ha venduto il suo creatore per soldi e ha massacrato le sue pecore. Si dice, noi non sentiamo visioni o sogni, noi non crediamo che, essi ingannano e la gente per forviare da dire che noi crediamo solo ciò che è scritto nella parola. Nota questo, essi sono eretici, protestanti, cattolici, riforma, unti, grazia, assassini dei credenti, che sono nascosti nella nostra chiesa. Che amicizia Dio con ladri, appostati e operatori delle tenebre? Per quale vantaggio? Lo hanno negato. L'hanno cambiato in briciole. Se gridano quanto vogliono se dicono, oh Baal! Ascoltaci! Come Acabe del Sabel, come quelli che rigettarono lì Dio di Israele. Chi li ha sentiti? Sanno benissimo che Dio non li ascolta, come i profeti di Baal giustiziati da Elia, per tutti i predicatori di Baal e erbacce odierne, che sono cresciute nella nostra chiesa, presto saranno abbattuti e gettati nel fuoco. Dicono, non ascoltare il modo in cui Dio parla. Ascolta solo quello che è scritto, dicono solo ascolta quello che diciamo. Lo vedi domani. Ridurre e offuscare la parola di Dio per lo shopping, distruggere i giusti, rendendoli al culto l'uomo in modo che non si avvicinano alla verità, a causa delle tue azioni, sarai abbattuto come i profeti di Baal, il fuoco ti mangerà. Tu e i tuoi discendenti sarete distrutti per sempre. Ciò significa che il diavolo e il suo modo di vivere non ti salveranno. Il marito dell'asino non ti salva dalla iena. Un predicatore che afferma di non avere visioni e sogni oggi e non conosce adeguatamente la parola di Dio, sei stato condannato per il tuo coraggio, per il tuo cattolicesimo e perché disprezzavi lo Spirito Santo. Se dici che non sei guidato da un sogno, se sei geloso dei credenti che hanno ricevuto la risposta dalla visione, dal sogno, dalla comprensione, dalla preghiera, dal digiuno per la loro domanda, se sei tu che scegli il modo di parlare di Dio, allora ti sei posto al di sopra di Dio, lo Spirito Santo. A quanto ho capito da questo, se la persona in questa posizione lo sa o no, è la vittima dell'ex serpente, il falso profeta, il drago, perché, è proprio come il diavolo ha coraggiosamente affermato di essere Dio. Aveva fatto la volontà del diavolo. Come ho detto sopra, attenti a tutti i cristiani di coloro che non conoscono la verità, i mercanti della fede, i cattolici, gli eretici, la riforma, l'unzione, che vivono per il loro stomaco, stanno distruggendo più dei farisei che crocifissero il Signore. I condannati non torneranno, quindi stai attento da quelli. Oggi è pieno di coloro che ancora non si pentono, che commettono di più crimini che non sono effettivamente commessi dal diavolo. Essere molto attenti. Hanno coperto tutto il percorso. Perché, tutto ciò che dice che sono un insegnante e mi sono laureato, sta facendo più del diavolo. Sebbene la loro assemblea fosse sciolta, sono stati in grado di entrare nel mantello dell'istituzione che ha chiamato Associazione dei Santi Omabere Chidusan. Pertanto, esortiamo le giovani donne a stare particolarmente attente. In un'occasione, Mosè che attraversa il Mar Rosso con il popolo di Dio, mentre consigliava e guidava il popolo, sua sorella Maria si è opposta a lui e ha detto, anche noi siamo profeti, chi sei tu meglio di noi? Dio comanda ad entrambi di venire al Tempio, al Tabernacolo. Si sono avvicinati. Il Signore disse dal Tempio, Maria, sei come un profeta, ma io te parlo in sogno, questo è il limite. Ma il mio servo Mosè non è come te. Dio ha testimoniato, mio servitore Mosè, ti parlerò faccia a faccia. Quindi colpì la sorella di Mosè con la lebra, perché? Perché lei non lo rispettava. L'ho sollevato perché Dio parla nei sogni, nelle parole, nelle visioni e in molti modi. Dio rigettò Eli, il sommo sacerdote di Israele per i suoi molti peccati, e decise di congedarlo dalla sua gloria. Samuele, che a quel tempo stava servendo nel Tempio, era molto giovane e non ne sapeva nulla, e il suo lavoro era quello di servire il sacerdote Eli. Mentre giaceva nel Tempio, di notte sentì una voce che gridava, Samuele. Punto. Samuele sconvolto, pensava di essere stato chiamato dal sacerdote Eli. Eli disse, non ti ho chiamato, ma se ti chiama di nuovo, di che il tuo servo ti ascolterà. Dio parlò a Samuele e gli disse che avrebbe agito contro Eli e i suoi figli che erano vergognosi. Samuele lo prese e lo disse a Eli. Come indicato, i figli di Eli seguirono l'arca di Sion in battaglia contro i filistei. Quando Eli sente la morte dei suoi due figli nella battaglia, Eli scioccato, cadde dal suo posto, il collo storto, e morì. Come Dio disse a Samuele. Dio parla in molti modi. Questo è ciò che ci dice la parola. Popoli miei. Quando Giosef era ancora un ragazzo, Dio gli disse nel sogno che avrebbe Reigen e che sarebbe diventato grande, la parola di Dio ci ha detto che quando Giuseppe parlò ai suoi fratelli, fu odiato dai suoi fratelli. I suoi fratelli erano arrabbiati con lui e gli dissero, hai intenzione di governarci? Disse anche a suo padre che aveva visto la luna e il sole inchinarsi davanti a lui. E suo padre era arrabbiato con lui, suo padre disse, tua madre e io, dobbiamo inchinarci per te? Giuseppe è stato lasciato indietro? No. Ciò che è stato detto si è avverato. Nota della famiglia di Dio, da Enoch, Noè, Abramo, Isacco, Giacobbe, Mosè, Giosuè, Isaia, Ezechiele, Geremia, tutti i profeti, nel Nuovo Testamento tutti gli apostoli tranne Giuda, essi sono stati guidati dalla rivelazione, dai sogni, dallo Spirito Santo di Dio. Quindi diciamo di stare lontano dai miscredenti e dagli apostati. Etiopia è mondo a confronto. Perché il mondo odia l'Etiopia? Perché il mondo combatte l'Etiopia? Perché il mondo sfida l'Etiopia? Perché sta cercando di distruggere l'Etiopia? Quando vediamo l'Etiopia oggi, è molto indebolita, gravemente danneggiata, divisa da molti complotti nemici, è diventato un paese in cui generazioni di persone con menti e pensieri diversi, portando avanti l'agenda del diavolo, stanno scatenando il caos nel proprio paese. I suoi antenati vivevano della loro forte fede, unità e amore, per migliaia di anni hanno sconfitto i loro nemici unendosi. La sua sincerità e la sua ricerca di Dio provocano l'insorgere di molti nemici contro di lei. Ciò che ha reso l'Etiopia amata da Dio è che lei ha cercato sinceramente, assolutamente, sinceramente il suo Dio e ha cercato di vivere secondo la sua volontà. Prima che il mondo conoscesse il suo creatore, ha cercato di camminare secondo la legge che ci viene in mente. Anche se citiamo le decenti prove di questo, Mosè nel suo viaggio per liberare Israele, quando ha ricevuto le sfide e i tradimenti dalla sua stessa gente, quando Dio disse a Mosè, lascia che io uccida quelli che mi hanno tradito e ti faccia capo di una grande nazione, e la grande nazione chiamata da Dio era l'Etiopia. Oggi nei giorni del Vangelo, dal principio, ha accettato il Signore, adattando e fondendo il Nuovo Testamento dall'Antico Testamento, stare con la verità con il segno, scolpendo le numerose archi, Tewaedo affermato da molti martiri, per molto tempo è stata schiacciata, perseguitata, anche lei è stata ricostruita, è venuta qui con l'aiuto e l'amore di Dio, grazie alla lotta dei nostri padri diligenti e risoluti. Il resto del mondo, che sia cresciuto o no, negare il Creatore, ha fatto idolo suo re, portare credenze che sono l'essenza del diavolo, considerandosi reale, Tewaedo e l'Etiopia, il vero proprietario della grazia di Dio, mattina e notte sta cospirando contro l'Etiopia, passa la notte cercando di distruggere l'Etiopia. A testimonianza di questo, questa generazione e il mondo intero possono vederlo chiaramente e capiscono da sé la trama del mondo. Etiopia inoltre, ha un'alleanza. In questo modo molti nemici hanno aperto una campagna sull'Etiopia perché, abbraccia persone che credono nella parola di Dio e che credono nell'unità della fede. Sorprendentemente, tutti i nemici provengono da tutte le direzioni e centri. I paesi più ricchi del mondo che stanno lottando con le loro economie, Stati Uniti, Regno Unito, Francia, Germania, Cina, Inghilterra, Turchia, Arabia Saudita, Egitto, India, Giappone, Canada e così via. Molti paesi sono eretici, protestanti, cattolici e pagani. Anche se sono rami del diavolo, ma in sostanza, sono le stesse credenze. Sanno che l'Etiopia era un'amata nazione di Dio, perché hanno imparato dal loro padre diavolo, e questa stessa storia è stata raccontata loro dai loro padri, quando vieni in Etiopia, i loro figli oggi, stanno conducendo una campagna coordinata contro l'Etiopia. Intorno all'Etiopia oggi, governi che affermano di essere potenti in tutto il mondo, risolvilo, hanno il controllo dell'Etiopia. Cosa hanno inventato i paesi che hanno stabilito la più grande base militare a Gibuti? Ovviamente stanno cercando di sfidare questa terra santa. Questi bambini posseduti da demoni intorno a noi sono molto preoccupati. Perché i genitori dei demoni sanno bene di essere figli del diavolo e sono guidati da lui, tutti questi comandi vengono dal diavolo, che li guida. Chi sono i paesi intorno all'Etiopia che si sono stabiliti? Stati Uniti, Francia, Cina, Germania, Giappone, Turchia, Emirati Arabi Uniti e altri in Sud Sudan, Inghilterra nel Nord Sudan, Russia ed Egitto un po' più lontani, si sono stabiliti anche altri paesi europei e asiatici. Come puoi vedere, nessun paese è potente o economicamente potente come loro. Esisteva solo l'Etiopia, che è a un livello molto basso in termini di capacità economiche e militari. I resti sono i paesi e i governi che sono soggetti a loro. Sono tutti paesi bianchi e sponsorizzati dagli arabi. Djibouti, Sudan, Somalia ed Eritrea sono paesi che vivono ricevendo sostegno da loro. Possono o non possono conoscere lo scopo. Tuttavia, sono stati utilizzati. Come ti ho detto, perché hai paura dell'Etiopia? Perché la odi? La risposta è la stessa. Perché il diavolo sa esattamente cosa ha preparato la Trinità di Abramo per l'Etiopia e il suo amore per l'Etiopia, non solo quello, sapeva che gli unti schiavi di Dio, che avrebbero potuto distruggerli dalla faccia della terra, sarebbero venuti dall'Etiopia. Pensano di poter gestire questo problema e lo fanno istintivamente. Cosa altro devono fare? Cosa devono portare? Che funzioni o meno, si sono allineati con i loro jet, missili, navi, carri armati e cannoni. Questo è quello che hanno fatto. Sette messaggi in nome di Etiopia, la luce del mondo, distribuiti al mondo e al nostro paese di Etiopia. Il primo passo compiuto dalle superpotenze mondiali è stato impedire che il messaggio si diffondesse tra la gente e i media. In particolare, il BBC News Service ha ricevuto il terzo messaggio, scritto in inglese, tramite posta elettronica, la loro risposta immediata è che non possono spiegarlo al pubblico, mi hanno detto che ci sono membri del Consiglio, e mi hanno detto di inviarli via e-mail, e mi hanno inviato il loro indirizzo e-mail. Ho inviato immediatamente ai membri del Consiglio, ma non c'è risposta. In secondo luogo, l'ho anche inviato via e-mail all'editore di The Economist International e Media Company hanno anche annunciato che era arrivato, ma hanno chiesto di modificarlo e successivamente di renderlo pubblico, ho detto di no, non verrà ridotto, non verrà aggiunto. Se puoi, rimuovilo senza modificarlo o lascialo così com'è. Poi l'hanno lasciato. Il mondo bianco, quindi, non ignora il prossimo giudizio di Dio, lo sa molto bene. I dirigenti, in particolare, non la presero alla leggera, poiché chiesero al loro capo, il diavolo, di dire loro la verità e di intraprendere azioni che pensavano li avrebbero avvantaggiati. Perché sapevano già dell'Etiopia dal loro padre, il diavolo, hanno condotto una campagna contro il popolo e la fede Teweido. Da 700 anni conducono una campagna coordinata. Ma la nostra comunità cristiana continuerà a vivere una vita normale, qualunque cosa accada. Capire stare attenti a chi è l'Etiopia, e affinché gli ingiusti si pentano e si voltino, e sfuggano all'ira del mondo. Come gridò nostro padre Noè, sono stati fatti per ascoltare sette messaggi dalla luce del mondo in Etiopia. Inoltre, nei social media, chiamato Apocalisse Giovanni XX, ha lanciato una pagina di telegramma, e tutti i messaggi sono stati trasmessi per almeno due anni su questa pagina di telegramma. Non solo, ma tutti i miliardi di discendenti di Adamo sono stati ampiamente distribuiti in diverse lingue su Facebook, Youtube, Imo, Whatsapp e altri. Chi ha sentito? È molto triste e meraviglioso. L'uomo è il più ribelle, arrogante, apostata, arrogante e orgoglioso della sua conoscenza. Vediamo 116 mila utenti di telegramma in Etiopia e in tutto il mondo, sarai stupito se possiamo dirti quanti sono iscritti alla fede. L'abbiamo salvato per la storia. È stata un'opportunità per essere registrati, così gli iscritti hanno vinto. Come abbiamo visto, i governi del mondo non se ne stanno a guardare, essi continuano la loro campagna di distruzione contro l'Etiopia. Non sono stanchi oggi, ma il diavolo li sta guidando fino alla fine. Questo è il motivo per cui stanno fondando e cambiando il più possibile governi fantoccio-etiopi, per controllare la chiesa etiopete o ed o così come i credenti, stanno cercando di controllarla intrappolando le loro varie convinzioni oscure. La diffusione dell'eresia, la diffusione del protestante, la diffusione dell'islam, la diffusione del razzismo, il numero degli apostati, il numero dei golosi, il numero dei fedeli e tutta questa campagna è un attacco su più fronti da parte dei bianchi. La mia gente. Sanno che l'Etiopia sorgerà e guiderà il mondo in unità, sono ben consapevoli che il governo mondiale leggero dell'Etiopia regnerà. La loro unica preoccupazione è come affrontarla. Il diavolo sa molto bene che Dio farà quello che dice che farà. Ma l'unico modo che può fare è indebolire l'Etiopia, distruggere il credente, costringendo i credenti a negare la risurrezione dell'Etiopia e si adopera per non essere in grado di stare come nazione. Se salta fuori da qui e affronta la battaglia finale, ha spostato tutte le grandi nazioni, missili a reazione della marina per circondarci. Vorrei cogliere l'occasione per annunciare che la loro sepoltura e la tomba avranno luogo qui in Etiopia. Anche in Etiopia, quello che ti aspetta nel tuo paese di origine è semplicemente una questione di polvere. La nostra energia proviene dalla divinità della Trinità. La nostra energia e forza sono il Dio Onnipotente e la Vergine Maria. È la Trinità che ti ha creato, il potere delle tenebre e l'intera creazione. Vedrai cosa succede quando la loro volontà sarà fatta e il loro giusto giudizio sarà rivelato. Seppellirai con la tua spazzatura. Oggi l'Etiopia è povera agli occhi della carne. Ma spiritualmente è ricca. Giacobbe nostro padre, cosa accadde alla Betel nel suo viaggio di fede? Te lo abbiamo spiegato durante la nostra lezione. Vide una scala stesa dalla terra al cielo, con santi angeli che salivano e scendevano su di essa, e vide che lì Dio Onnipotente era seduto su di essa. Era così impressionato, questo è il luogo più glorioso di Dio, ha detto, prima di essere emigrato nella famiglia di sua madre, ha eretto un monumento in pietra e vi ha versato dell'olio. Fugli che Dio chierì che avrebbe mantenuto la promessa fatta ad Abramo. Quando è tornato, ha trascorso 20 anni a casa di suo zio e Dio non lo ha lasciato. Quando venne il momento, Dio disse, torna da tuo padre e tua madre. Mentre si recava lì in armonia con la sua parola, Dio gli apparve di nuovo alla Betel e confermò la sua parola. Le promesse che ha fatto ad Abramo e Isacco, gli assicurò che avrebbe mantenuto la parola data. Dove si trova la scala rivelata a Giacobbe alla Betel? Con chi Dio ha confermato la sua parola in questo giorno ed età? Come abbiamo già detto in merito, quelli che sono chiamati Israele dalla loro carne e quelli che sono chiamati Israele dalla loro anima, oggi, lì Dio onnipotente ha riaffermato la sua alleanza con la fede teua ed ortodossa etiope. Il paese che ama, l'Etiopia, ha donato sua madre e nostra madre la Vergine Maria in eredità all'Etiopia. Ha anche affermato che l'Etiopia è il paese in cui la gloria di lui è rivelata lodata. La scala descritta alla Betel, ora è ancora in piedi in Etiopia. Molti dei nostri padri, coloro che sono nella santità, stanno guardando mentre i Santi Angeli salgono e scendono per la loro missione. Ora, in questo fatto, non dovremmo sorprenderci che oggi, intorno al nostro povero paese, stiano radunando i loro eserciti. Cosa sta facendo il nostro governo oggi? Come molti di noi sanno, divenne l'esecuzione degli ordini dell'Associazione e dell'Associazione dell'Ex Serpente. Non dobbiamo dubitare che sia il primo soldato del diavolo. Popolo mio, popolo di Dio. Leggere attentamente e capire. In che modo gli Stati Uniti, Babilonia, hanno costruito oggi la loro ambasciata in Etiopia? Sai per quale applicazione si tratta? Non lo sai. La costruzione dell'ambasciata americana in Etiopia è costata 250 milioni di dollari, con un enorme sim interrato che scende a terra, al comando della terra dell'est del Sudafrica, a un posto di comando militare. Dispone di una rete sofisticata che copre l'intera regione africana. Ovunque in Etiopia, tiene traccia di tutte le informazioni scambiate da qualsiasi telefono, internet o altri media elettronici, inoltre tiene traccia il primo ministro stesso controlla tutte le comunicazioni. Dovresti sapere che ha una filiale completa e una stazione dell'ordine nell'ufficio della CIA. Al di fuori dell'Etiopia, come sai, le superpotenze stanno combattendo una grande battaglia. Combattono economicamente, Cina e Russia con gli Stati Uniti, sono nella guerra fredda come la chiamano. Gli Stati Uniti stanno lottando economicamente con i loro alleati europei. Fanno pagare tariffe su vari articoli, l'altro risponde. Nella costruzione militare, lottano sempre per superarsi a vicenda. Ma per il conflitto in Etiopia, sono uniti e stanno insieme. Mettono da parte le loro liti, insieme, hanno creato le proprie basi militari a Givuti, un piccolo paese, e stanno ascoltando il respiro dell'Etiopia. Non si fidano di questo povero paese, l'Etiopia. La temono che un giorno ci taglierà la strada. Con che cosa della sua energia, sono così spaventati e terrorizzati da lei? È vero che non abbiamo nemmeno l'attrezzatura moderna di un soldato bianco di quartiere. Come possiamo raggiungere l'apice di un missile nucleare trasfrontaliero con le frizioni, i cannoni, i carri armati per più di 40 anni, il MiG-23 che la Russia ha dimenticato e il 27 jet che la Russia sta abbandonando? I miei popoli capiscono. Non è una questione di energia, modernizzazione delle armi e prosperità economica. È una questione di fede. Chi detiene la vera fede? Con chi sta va Dio? Questa è la verità che guida il mondo e preoccupa il diavolo. N'è ben consapevole e sta combattendo fino alla morte. Etiopia, i poveri. Etiopia, chi è l'osso della gola per il nemico. Etiopia, che lei è una forte collina per il diavolo. Il diavolo ha paura di lei. In effetti, è l'Etiopia che ha la lettera di morte del diavolo. Dio ha da tempo dichiarato di essere con questo povero paese, l'Etiopia. Questa è la verità. Pertanto, vi esorto, in particolare il teo ed ortodosso etiope, a perseverare nella vostra fede. Naturalmente, ci sono più di 100 milioni di persone in Etiopia, che valore ha? Solo 10 milioni di persone sono amate da Dio. Quando chiamo l'Etiopia quelli che sono chiamati Israele dalla loro anima, non ho detto l'eretico, il cattolico, il razzista, l'islamista, l'ateo, la strega, l'astrologo, il ladro, l'assassino, il tiranno. Non lasciarti ingannare. Non dire che sono Etiope. Non sei. Non sei considerato Etiope nella storia di Dio. Non sei un Etiope perché questa è una tua scelta. Sei l'adoratore del vecchio serpente, l'adoratore del falso profeta e l'adoratore di suo figlio, e hai ricevuto il marchio della bestia. Dio è la verità. Ti dice chiaramente chi sei e cosa stai facendo. Sì, ti ha chiamato al pentimento per molto tempo, sin dai tuoi antenati, proprio come i tuoi antenati non ascoltavano, tu sei la loro progenie e hai ereditato le loro vie malvagie. Pertanto, chiunque è il figlio del diavolo, che persiste nelle sue azioni malvagie, deve andare dove va il diavolo. Quindi tua postata, il nemico di Tawaedo, il nemico della verità, il nemico della bandiera Etiope, te lo dirò oggi, scenderai nella tua tomba con grande rabbia. Questo è tutto. Il governo esistente, il governo di Abiy Ahmed, a tal fine, sono stati approvati dalla Gran Bretagna e dagli Stati Uniti per distruggere l'Etiopia, per distruggere Tawaedo e per sterminare le persone che portano questa verità di Dio, inoltre sono finanziati dai paesi arabi, è un uomo che ha apertamente condotto una campagna per distruggere la Mara, che ha la stessa fede della società, principalmente seguendo gli ortodossi Tawaedo. Come si suol dire, la pecora che confida nel suo padrone passerà la coda fuori di notte. Affidandosi ai loro padroni, divennero le menti del massacro e del massacro del popolo Amara. Si assumeranno la piena responsabilità. Sebbene fosse chiaro che erano già sotto processo per il giudizio, stavano aspettando che il calice fosse riempito. Ma ora berranno l'ira di Dio, perché il calice è traboccato. In generale, ho cercato di darti un'idea di chi sia l'Etiopia. Fate attenzione, gente mia. Non appena esce questo messaggio, lascia che ti dica in anticipo cosa faranno quando si tratta di tutti gli avversari del diavolo. Quello che viene detto in questo messaggio non è vero, gli estranei di varie ideologie, con tutti i migliori servitori del diavolo nelle loro mani, iniziano a diffondere falsa propaganda attraverso i media. Quindi, escugitando analisi religiose forvianti e tattiche diaboliche, lavorano per rafforzare il loro popolo, sia individualmente che collettivamente, così come il governo di tutto il mondo. Probabilmente, hanno cospirato per distruggere più di quanto possiamo ora immaginare. Lo fanno perché hanno sempre sognato di tenerci in vita. È questo che succede. Ma non c'è tempo. Non c'è tempo, non c'è tempo per dirtelo ancora e ancora, e tutti i suoi giudizi vennero su di te riempirono la terra e il cielo. Stanno solo aspettando un ordine, e dopo che questo messaggio sarà uscito, verrà dal trono di Dio Onnipotente. Quindi inizia la tua distruzione finale. Il diavolo è il meglio dei beni. Gli attuali Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Germania, Cina, Russia, Israele, India, Turchia, Spagna, Canada, Australia, eccetera. Questi sono i leader governanti dei paesi poveri. Il comandante in capo, il diavolo, dà ordine di sostituire un altro cavallo, quando il suo cavallo non riesce a eseguire i suoi ordini. La gerarchia, a sua volta, sostituisce il cavallo stanco con un altro. Sono veloci nel portare a termine l'ordine del giorno dato. Questo è il processo. Prima che il TPLF fosse esaurito, lo hanno sostenuto finanziariamente, politicamente e militarmente. Torna indietro e guarda il tempo che ha trascorso. Quando il popolo è oppresso e insorge per ribellarsi, Chief Devil diede ordini all'America e all'Inghilterra, questo cavallo è stanco, quindi cambialo rapidamente, ha detto. Ha detto che la questione etiope è una minaccia per la mia vita e per la tua, e dobbiamo cambiare immediatamente i cavalli. Come puoi vedere, quando il cavallo tigreano di Meleskse Mawir era debole. È stato sostituito dal cavallo Roma a Biamedi. Il diavolo non esiterebbe a cambiare cavallo. Ma il problema oggi è che non c'è tempo. È finita. Il regno millenario dell'oscuro sovrano, il sovrano delle tenebre, è giunto al termine. È finita. Non c'è tempo. Come gli scacchi, il sangue umano è sufficiente. Il tempo del regno del diavolo è finito, che il Signore di tutta la creazione lo ha permesso per migliaia di anni, il giudizio deve essere fatto secondo le sue azioni. Non c'è tempo. Dio, il giusto giudice, include la terra nel suo giusto giudizio. Verrà il tempo del conforto e nascerà. Coloro che sono oppressi, che sono schiacciati, che sono stati umiliati per molti anni saranno ricompensati, i martiri hanno anche deciso dall'iddio onnipotente che sarebbe stato un momento del loro ricordo, ci sono voluti 15 anni perché alcuni si pentissero prima che fosse attuato. Ma ora è arrivato il momento. Non c'è altro tempo. È solo questione di andare all'inferno in giudizio. Dov'è oggi la Chiesa Ortodossa Etiopete Waedo? La situazione della nostra Chiesa Ortodossa Etiopete Waedo è disastrosa. Le tentazioni che ha dovuto affrontare erano insopportabili. È in uno stato di distruzione. Sebbene il periodo peggiore nella storia dell'Etiopia sia stato la catastrofe dell'Imam Muhammad di Giudit Gudit, Iodit Gudit, la Chiesa fu gravemente danneggiata e massacrata, secondo la fede, le persone erano forti nella fede. La distruzione è stata organizzata dal diavolo, ma non è durata a lungo. Le persone, i credenti, gridarono al creatore e Dio li rimosse rapidamente. Bianchi, britannici, turchi, italiani e portoghesi sono intervenuti in un modo o nell'altro e direttamente in Etiopia. Storicamente, hanno influenzato e danneggiato se stessi. Tuttavia, la campagna di oggi è unica. L'attuale distruzione della Chiesa viene intensificata da forze interne ed esterne. La campagna contro la Chiesa è stata ufficialmente lanciata, soprattutto da quando il Derg è salito al potere. Sebbene la Chiesa non sia stata demolita, i suoi ministri non furono uccisi. Il Derg era guidato dal comunismo, che faceva paura a molti giovani e alla società di andare in Chiesa o in Moschea al momento, era un periodo in cui il terrore rosso era un periodo di panico e ansia. Il tentativo di andare in Chiesa con calma è stato fatto solo dopo la formazione del partito Espaco e la fine della lotta interna dei Derg sotto il Mariam. Tuttavia, la Chiesa era debole nell'insegnamento. Era particolarmente importante nelle aree urbane. Perché la maggior parte della parte settentrionale del nostro paese era una setta ortodossa devota, da quando la terra è stata confiscata, le entrate della Chiesa sono state fortemente ridotte e tutte le sue entrate sono state esaurite. Le scuole modello della Chiesa, Abinet, in particolare sono state colpite duramente. Sotto l'influenza del regime Derg, le scuole di Ieneta, scuole di studiosi spirituali, si sono estinte. Il processo è arrivato al punto di assassinare il patriarca della nostra Chiesa e molti padri sono stati emigrati. Sebbene questa situazione non si placò fino alla caduta di Derg, la crociata contro la Chiesa continuò. Quando il TPLF salì al potere dopo la caduta del Derg, la sua prima campagna fu contro la Chiesa ortodossa Etiopete Weido. È intervenuto direttamente nella nostra Chiesa, ha espulso l'allora patriarca patriarca Mercurius e lo ha sostituito con il padre Paolos cattolico nominato dal TPLF. Quando hanno dovuto difendere la loro fede, 33 vescovi hanno accettato e firmato il vescovo cattolico, Abba Paolos. Padre Paolos decise presto di eseguire i suoi ordini cattolici, con l'intenzione di rovesciare i riti della Chiesa, hanno deciso di cambiare la legge per cui, sembrerebbe lo Spirito Santo il Dio Supremo della Chiesa. La prima vera legge era il Sinodo Supremo della nostra Chiesa, e il Capo Supremo del Sinodo era Dio Spirito Santo. All'inizio della conferenza sinodale, tutti i vescovi sono seduti in cerchio, 81 Bibbia sarà essere collocato su un tavolo alto tra di loro. Quando la conferenza si apre, nella preghiera, Dio Spirito Santo prenderà il soprevento sulla congregazione. Dopodiché, si terrà la riunione. Il Patriarca, sotto la guida dello Spirito Santo di Dio, attua le decisioni del Sinodo. Poiché il Patriarca deve rendere conto al Sinodo, il suo lavoro è regolato dalle decisioni del Sinodo. Dopo tutto questo, il canone della nostra Chiesa è stato cambiato e la legge precedente è stata abrogata e Abba Paulos è stato nominato Capo del Sinodo. Ciò significa che il Sinodo è diventato responsabile di Abba Paulos. Questo ha fatto un reidolo, la Chiesa è diventata un idolo perché Abba Paulos si è ordinato al posto del Sinodo. Questa legge non è stata ancora abrogata, ed è ancora con Abune Mattias. Non sono state apportate modifiche a questa legge. Nostro padre, capo studioso Aieleutamiru, nella sua argomentazione in quel momento, hanno lottato duramente per fermare Abba Paulos, che aveva cambiato il vero ordine della Chiesa, dalle loro azioni malvagie, ma i papi stessi non lo hanno sostenuto ed è stato espulso dalla Chiesa. E con il loro glorioso sacerdozio hanno condannato la Chiesa, il sacerdote, tutti i ministri che invocano il nome del Sinodo, coloro che chiamano il nome di Abba Paulos e i membri del Sinodo nella sua liturgia e ministero. Hanno fatto la cosa giusta. Questa condanna è revocata solo quando la Chiesa riconosce la ragione per cui lo studioso capo Aieleutamiru condanna la Chiesa e si pente delle sue malefatte. Solo in questo modo si ripristina la vita della Chiesa. Oggi, invece di invertire questa e altre tragedie simili, sta aumentando il suo senso di colpa. Oggi la Chiesa è diventata un centro di riforma, unzione e grazia. La maggior parte dei predicatori della Chiesa sono diventati milionari e hanno trasformato la Chiesa in un centro commerciale. Non solo, ma la maggior parte dei ministri dei vescovi di basso rango sono diventati spie per il governo Abiy Ahmed, cioè gli eretici, protestanti, e il governo islamico. Hanno perso per il vecchio serpente, per il drago, per il falso profeta. Lo adorarono e presero il segno. Gente mia, la verità è sempre vera. Detto questo, dobbiamo identificare chiaramente coloro che hanno rovinato la nostra vera Chiesa. Tu che vuoi scendere a compromessi sulla tua fede, cooperare con credenze politiche e apostate, non conosci la tua fede. Sei un traditore. Come puoi vedere, la Chiesa non ha pastore. Quasi tutti sono lavoratori autonomi. Sono diventati apostati ed eretici. Pertanto, il giudizio è giunto per purificare coloro che sono seduti all'interno della Chiesa e distruggere la fede Teweido. Oralmente, affermano di essere un devoto credente, ma in pratica sono unti, eretici, riformatori, spie. Se qualcuno usa la sua lingua nella sua propaganda, può sostenerlo. Ma con Dio, non importa chi siano. Sono i figli del diavolo e il loro giudizio uscirà allo scoperto. La Chiesa ortodossa di Teweido non è solo colpita da questo, il mondo bianco ha condotto campagne contro questa casa della verità per molto tempo, ma non è mai stato così aperto come lo è ora. La ragione principale di ciò è che la verità, che è stata rivelata negli ultimi quindici anni, li ha messi alla prova. Questo è il motivo per cui tutti coloro che si nascondevano, che stavano segretamente attaccando la Chiesa, iniziarono a distruggere apertamente. Il messaggio che è arrivato con il titolo di Etiopia è la luce del mondo abbiamo trasmesso la verità al pubblico, usando l'immaginazione donataci dal Dio Onnipotente, perché mancava un metodo di copertura, così, li sentiamo condannare ciecamente ovunque. Il nostro Dio Onnipotente creatore è la verità dal suo carattere. Pertanto, giustifica solo la verità. Il bugiardo è il diavolo, l'ex serpente, il falso profeta. Come possiamo dire che stiamo adorando Dio se stiamo osservando in silenzio l'apostasia della nostra Chiesa, che ha portato alla falsa apostasia e all'eresia? Come possiamo dire di aver regnato la verità? Pertanto, possiamo dire che hanno distrutto la nostra Chiesa a causa del modo e delle cose che stanno facendo. Un'istituzione che si chiamava Associazione dei Santi Omabere Chiegusan, che una volta era stata fondata per buoni propositi da buoni bambini ortodossi Tewaedo, ha fatto un buon lavoro all'epoca, ma gradualmente, spie governative si sono infiltrate nell'area, facendole perdere il loro carattere. Abbiamo sentito che questa organizzazione si oppone apertamente ai messaggi di Etiopia La Luce del Mondo, lo ha fatto nella trasmissione televisiva Maybere Chiegusan, da due ospiti intervistati. Gli ospiti sono il predicatore Ailemari Mzeudu e il predicatore Gebremedine Nieuang. Anche se il programmatore e l'intervistatore non hanno dato i loro nomi, abbiamo appreso che erano i principali organizzatori dell'evento. In questo caso, i due insegnanti affermano di essere esperti, abbiamo sentito che quando dicono che non c'è resurrezione dell'Etiopia. Infatti abbiamo sentito che quando dicono accettiamo solo la Bibbia i cosiddetti Santi Apocrifi sono vani, dobbiamo prenderne atto, quindi. Li abbiamo sentite parlare apertamente, come i protestanti. Ci stiamo rendendo conto di quante associazioni, chiese e leader della chiesa ortodossa Teuedo sono stati venduti per distruggere la nostra chiesa e regnare nell'eresia. Tuttavia, coloro che sono deboli si vendono a una coalizione di eretici e islamici, usano i loro mantelli e turbanti per coprirsi e rivendicare che ogni portatore di mantello e turbante è un prete istruito. Il predicatore Aile Maria Mzeudu ha passato la maggior parte del suo tempo a criticare Facebook, Telegram e Youtube. D'altra parte da padri diversi, secondo lui, i padri che parlano in città, li hanno criticati come bugiardo. Non solo, non importa quale sia la resurrezione, è scritto in Matteo 24, ha detto. Quest'uomo stesso ha detto in tv che è inutile usare tutti i social media e dimenticavo anche che la televisione loro di cui si parlava era elettronico. È giusto per loro, per l'altro è una bugia. Sono arroganti. Poi hanno parlato della resurrezione, Matteo 24 ci dice che la venuta di Dio e i segni avvengono quando il Signore viene per il giudizio finale. Diciamo al Maestro che Matteo 25 è un'affermazione molto chiara di questo. Ma le loro parole non hanno niente a che fare con noi. Stiamo parlando della resurrezione di Dio sulla Terra in John Revelation, e come andremo là, esprimendo le parole di Giovanni Apocalisse 16, 18, 19 in questa visione e affermando che l'Etiopia è il capo della resurrezione. Ora, predicatore lascia che ti aggiunga qualcosa sull'imperatore Teodros, leggi il capitolo 49 di Isaia. Oh scusa, sei un insegnante del Nuovo Testamento, non conosci l'Antico Testamento. Quindi non credo che tu conosca il Teoa ed Ortodosso, che si basa sulla fusione e riconciliazione dell'Antico Testamento con il Nuovo Testamento. Questo rende chiara la tua eresia. Il secondo insegnante, Gebremedin e Neuau, parlano di qualcosa di nuovo. Tutti i loro discorsi erano semplici insulti e critiche. Niente di tutto ciò non era supportato dalla parola di Dio. Criticano i messaggi di Etiopia alla luce del mondo dicendo questo, distribuiscono i D, dicono entra nell'arca, ci considerano un criminale, uno spirito demoniaco. La bestemmia è il nostro abbigliamento. Non memorizziamo la parola. Viviamo per fede. Dove ci conoscono? Quali messaggi da noi hanno letto? Loro non sanno. Va bene. Oltre a ciò, hanno detto che ci sono tre tipi di profezia. Uno è la profezia dell'informazione, la seconda profezia dei demoni, la terza è la profezia dello Spirito Santo, in ogni caso, sarebbe bene che ci parlassero della parola di Dio per le parole del primo e del secondo. Ne informazioni ne demoni, entrambi non sono profezie, essi sono chiamati incubi, perché la loro amicizia è con lo spirito malvagio. Quanto alla verità che Dio rivela tramite lo Spirito Santo, nei sogni, nelle visioni e in molti modi, la Trinità fornisce una guida spirituale ai loro figli. Insegnante. Il tuo sono i giovani, come posso vedere te, non sei più di trenta, così sono i tuoi amici. Quando hai il coraggio di criticare i padri più grandi, mostra chi sei e il tuo background. Gli stessi apostoli sono quelli che hanno fatto il Nuovo Testamento, è stato il Vangelo che hanno scritto a farti chiamare insegnante. Hai anche menzionato Matteo 24, questo è ciò che dice, siedi a Gerusalemme finché il Signore ti manda lo Spirito Santo. Salirò da mio padre, e dopo manderò Dio lo Spirito Santo, egli ti guiderà, ti consiglierà e ti insegnerà. Come li ha condotti? Il fondamento fondamentale dell'Antico Testamento, annunciare che è un modo per spiegare come giudicare i tempi di volta in volta apparendo in un sogno, visione, non sai che ci ha portato qui? Comunque, abbiamo dato un documento d'identità, per quale scopo abbiamo dato? Chiedi a chi ha preso la carta d'identità. Ma cosa fa per te? Anche se lo desideri, non lo otterrai. La nave della fede è la Vergine Maria. I fedeli sono lo sposo della risurrezione. Non si tratta solo di leggere la parola. È per fede che possiamo piacere a Dio. Va bene. Voi insegnanti. I saggi farisei dei nostri giorni. Dov'è andato il Signore che ha detto, non dire maestro maestro? Io sono il tuo maestro voi farisei di oggi? Non attraverserai. Il fuoco che viene per primo cancellerà coloro che bloccano la strada, i pastori distruttivi. Faresti meglio a non parlare di ciò che non sai. Leggi l'intero capitolo 34 di Ezechiele Sudite. Perché sei protetto per il giudizio, ma abbiamo dato la tua carne a Satana, affinché la tua anima possa essere salvata. Perché hai negato la risurrezione dell'Etiopia, e non arriverai alla vigilia. Lascia che questa verità ti raggiunga. La morte ti raggiungerà. In sintesi, è importante capire che la nostra Chiesa è in grave pericolo. Tutti i suoi servi sono in condanna per aver infranto la legge patriarcale e per non aver corretto la legge dell'idolatria imposta da Bapaulos, il Vescovo prepotente. È impossibile essere benedetti da loro e ottenere qualsiasi servizio. Chi lo farà sarà condannato, perché parteciperà alle loro attività. Pertanto, il nostro consiglio è di aspettare pazientemente l'azione di Dio. Man mano che le Chiese dell'Etiopia la luce del mondo si raccoglie in futuro, sempre di più, chi ha accettato la condanna di questi e obbedito al comando, quando si distinguono non menzionando il nome del sinodo in un culto che non gli consente di correggersi, pensiamo sia possibile utilizzarli. In generale, il tempo è vicino, la famiglia di Dio. Ti consigliamo di non essere disturbato. Un'altra cosa che consigliamo è che la Chiesa sia stata a lungo un esecutore della politica del governo, quindi, diciamo che non dovresti ascoltare se è un'altra lingua per il governo. Il più grande di questi, il suo setarismo e apostasia derivavano da, dal momento che era membro di un gruppo chiamato Unione delle Religioni, che è stato praticato sin dai tempi di Abba Paulos, in seguito alla recente epidemia di Covid-19, secondo una preghiera televisiva congiunta diretta dai nostri leader della Chiesa, hanno proclamato un digiuno di un mese di preghiera con eretici, cattolici e musulmani. Così hanno riaffermato la loro fedeltà alla bestia, alle credenze che aveva creato, eresia, protestante e Islam. Così adorarono e ricevettero il marchio del vecchio serpente, del dragone e del falso profeta. Hanno applicato la volontà e le idee del regno del diavolo. Quindi, la Chiesa stessa deve essere salvata, ma non può salvare un altro credente adempiere alla sua responsabilità di pastore. Finché cade in un tale tradimento. Alla famiglia di Dio confidiamo nella verità e nello spirito, con tutto il cuore, con tutta l'anima, nella Trinità e nella Vergine Maria, vi esorto a vedere con i vostri occhi di fede e a guardare con pazienza e fermezza. Le operazioni di base che descrivo di seguito avranno luogo e saranno attuate il prima possibile secondo la volontà di Dio. Sradicamento e piantagione o trapianto, chi verrà sradicato? Sì, in tutto il mondo, come hai detto nell'introduzione, tutti coloro che adorano e accettano il marchio del vecchio serpente, del drago, del falso profeta, del capo e di tutto il popolo di ogni parte della terra saranno spazzati via da questa terra con grande ira, grande fuoco e peste. Non importa quanto potente sia un paese, non importa quanto sia potente, sarà spazzato via dal fuoco della sua arroganza. I paesi che affermano di essere grandi i capi del diavolo che dicono di avere missili e jet nucleari, con grande furore che nella terra né il cielo l'hanno mai visto. Si riempiranno di un fuoco feroce e saranno spazzati via con i loro cittadini. Chi sarà salvato? Sarà fatto secondo il messaggio 3, il messaggio 8 e il messaggio 5. Dal crollo e dall'incendio della chiesa ortodossa etiopeteuaedo, si verifica una situazione in cui è libera dall'eresia, dal cattolicesimo, dalla sicurezza, dallo spionaggio, dal sacerdozio dei quadri e dai suoi distruttori. Tutti i suoi nemici saranno spazzati via dal giudizio di Dio e gettati nel fuoco. I servitori che Dio ama, sceglie e approva prenderanno il sopravvento. Chi verrà piantato? Sì, tutti coloro che Dio ama saranno piantati in tutto il mondo. La maggior parte delle città sulla terra sono costruite, come tutti sapete, in violazione del sabato. Sono progettati per riflettere il diavolo in un modo o nell'altro, saranno completamente spazzati via. Al loro posto, saranno ricostruiti in modo meraviglioso da coloro che glorificano Dio, che mantengono la loro santità, che osservano il sabato e che obbediscono alla legge dell'iddio onnipotente. Amministrazioni provvisorie su tutti i lati del globo saranno formate sotto gli auspici del governo mondiale leggero dell'Etiopia. La prima struttura di governo sarà stabilita in Etiopia e nei paesi circostanti, come descritto nel messaggio 8. Il mondo vedrà chiaramente l'Etiopia dove sono onorati l'iddio onnipotente e la Vergine Maria, sotto l'Etiopia la luce del mondo, il mondo vedrà quando l'Etiopia risplenderà con i suoi figli amati, scelti e risorti. Istituzioni religiose non ortodosse, cattolici, eretici, islamisti, idolatri acinese e indiano e altri eccetera, coloro che sono stati a lungo confinati sulla terra dal diavolo e hanno bruciato l'umanità all'inferno, con grande furore saranno spazzati via dalla terra con i loro seguaci e i loro servitori. Come possiamo vedere oggi, le Nazioni Unite, l'Unione Europea, l'Unione Africana, l'Unione Asiatica, l'Unione Latinoamericana e la Lega Araba scompariranno. È impossibile raccogliere, decidere o parlare, non dà tempo per respirare. C'è un flusso di fuoco inarrestabile. È impossibile riparare, guarire, scappare, aiutare qualcuno. Sollevare il nascosto fammi passare questo tempo nascosto, non si può dire. Obunque, esso sarà solo una morte dolorosa. La rabbia invisibile e non detta scenderà. A questo punto, chi starà con la loro pace? Chi può muovere? Sì, il popolo eletto di Dio può spostare solo quegli individui e quei paesi che sono stati riconosciuti dal governo mondiale della luce dell'Etiopia. Coloro che mendicano e si arrendono vivranno in pace come permette l'onnipotente Dio. I sopravvissuti all'Ira saranno reintegrati sotto il governo della luce mondiale dell'Etiopia, in conformità con la legge della Trinità. Semina e lo sradicamento avverranno durante la distruzione. Il mondo rimarrà in uno stato di incendio costante fino a quando il governo della luce mondiale dell'Etiopia non sarà stabilito in ogni angolo del globo. Tutti i servi del diavolo che hanno distrutto la Terra per migliaia di anni saranno spazzati via. Quelli che dicono che non c'è resurrezione dell'Etiopia, con il processo di andare alla loro morte, vedranno l'Etiopia sorgere in grande gloria, seppellendo la Terra ai ricchi in soggezione e gloria. Vanno alla morte, vedendo e ascoltando. Per il popolo di Dio, per il credente etiope ortodosso Tewaedo, le sofferenze che stavano pianificando saranno centinaia di volte per loro, scendono alle loro tombe, vedendo la gloria del popolo di Dio nella loro morte. L'evento che ho appena descritto avrà luogo ora. Non prenderlo in giro per molto tempo. Non c'è tempo e luogo per questo. L'azione avrà effetto non appena il messaggio verrà rilasciato, come indicato nella decisione e nell'ordine. Alcuni sono scioccati quando l'azione inizia e li spazza via o quando il fuoco si sposta per divorarli, alcuni di loro diranno, è vero? Dove possiamo scappare? Certo, ce ne sono molti. Non ha valore. Quando sono consigliati, rimproverati, puniti con punizione patriarcale, chi è costretto a non tornare? Quindi di loro alla tua saggezza, alla presa del diavolo e agli idoli che hai ospitato in edifici meravigliosi, per salvarti. Proprio come il faraone fu colpito dall'ira di Dio, stava abbracciando l'idolo che adorava, quello che diceva, salvami. Ti sei coperto le orecchie, quando hai sentito il messaggio dell'Etiopia alla luce del mondo che scorre da 15 anni. Una generazione che passa la mattinata su Facebook, Telegram e YouTube, i miliardi hanno contato la generazione, c'è un tempo in cui i messaggi non erano davanti a te? Non hai riso di loro e non li hai presi in giro? Sono disponibili in tutte le principali lingue e sono disponibili in formato audio. Ti hanno implorato. Hanno gridato instancabilmente. Allora chi ti salverà quando sarai giudicato oggi? Nessuno può salvarti, perché sei contro la Trinità. In questa grande ira, donne che indossano pantaloni, perché stai facendo qualcosa di odiato, non sarai salvato. Tutte le punizioni che stanno ancora infliggendo sulla terra sono le prime punizioni, come descritto nel messaggio 3. E adesso, segni dell'inizio della seconda fase della punizione, uragani senza precedenti, inondazioni, smottamenti, incidenti stradali, genocidi, guerre di religione, guerre di confine, guerre civili e disobbedienza civile sono stati tutti ordinati in primo luogo. Le malattie che chiamate Covid-19 ed Ebola oggi, in particolare, la malattia che chiamate coronavirus, la peste che chiamiamo noi, hai visto e stai vedendo quanto ti ha scosso. Questa non è altro che la punizione del primo passo. Dopo il rilascio di questo messaggio, l'eliminazione di tutti i tipi di piaghe che sarebbero venute, sarà completamente funzionante. Il suo potere è il potere che la terra o il cielo non hanno mai visto prima, 7 volte 7, 49 volte, allora vedrai una distruzione maggiore. Tutto il mondo, quando arriva corona, ti chiudi in una casa, ti lavi le mani con un disinfettante e ti mantieni al sicuro. Questo è facile. Quanto hai fatto male? Lo conosci. Come possiamo vedere, invece, di tornare al tuo creatore sotto shock, dicendo che ti ho consegnato il vaccino, invece dell'uomo che ritorna al creatore, lo stai ancora facendo sembrare un salvatore. Devi lottare per impedire alle persone di pentirsi e di rivolgersi al loro creatore. Secondo il tuo lavoro precedente, oggi dici adorami, dici che sono la tua soluzione. Quindi, come il faraone, sei diventato orgoglioso. Proprio come la morte travolse tutto l'Egitto, il faraone indurì il suo cuore di fronte a molte piaghe, quando la morte regnava nella sua casa in tutto il paese d'Egitto, dove può andare allora? Che dire dell'arroganza e del disprezzo? E le critiche? L'arrogante faraone cadde ai piedi di Mosè e disse, per favore, vai. Questo succederà oggi. Lo vedrai. In ogni paese del mondo, la morte regna in ogni famiglia, nessuno può fermarla. Sarà una tragedia a casa tua. È peggio se esci. Dove vai? Questo è ciò che accadrà. Nota. Siamo il popolo di Dio, Ethiopian The World Light Families, celebriamo il nostro giorno dell'indipendenza senza preoccupazioni o pensieri. Perché siamo circondati dal fuoco. La Trinità di Abramo ci fidiamo e la Vergine Maria ci fidiamo, anche noi li ringraziamo. Cantiamo con gioia. Per implorarci, come attraversi il mare della morte che regna nella tua casa, alla tua porta, ovunque? Vedrai gioire lo sposo della risurrezione, che Dio ama, salva e glorifica, ma non puoi raggiungerli. In mezzo, la morte regnava su tutti voi. Questo è ciò che accadrà. La generazione di oggi, cosa è buono per te? Il tuo argento non salverate, il tuo edificio, la tua caverna, la tua torre, la tua guardia, la tua pistola, il tuo carro armato, il tuo jet e la tua nave, tutto questo sarà polvere. Chi ti salverà? Ti sto dicendo tutto ciò che accadrà. È giunto il momento. Una generazione che non senti. Poiché questo messaggio viene preparato oggi, non vi abbiamo già consigliato con le nostre varie dichiarazioni e insegnamenti? Non te l'abbiamo detto? Quando diamo consigli ai nostri figli, ai nostri ascoltatori, tu, l'arrogante, hai confidato in tuo padre, il devil, il vecchio serpente, il falso profeta, e ci hai derisi. Da leader a leader, da leader religioso a credente, non ridete tutti? Quando vediamo la morte che ti copre, preoccupati di portare fuori la tua anima, esso è il risultato del vostro lavoro, più di sorpresa, sappi che non ti capiamo, se non per meravigliarci del giusto giudizio di Dio. Quindi, quelli che sono venuti prima di te oggi, possiamo assicurarti che verranno eseguiti rapidamente. Possa lui darti perseveranza. Cosa rimarrà sulla terra? Quelle che sono cose utili alla vita umana rimarranno, ma non devono essere dannose per la vita spirituale. Ma morirai, lasciando tutte le tue ricchezze immagazzinate alle persone della risurrezione. Chi è l'imperatore Teodros? A quale scopo è pensato da Dio Onnipotente? Dove si trova? Cosa eseguirà? Dove regna? Quale stato governera? Chi ha rivelato questa verità? Cosa hanno detto i padri di questo re? Dal ficare a Iesus, dal libro di J. Delphi e Ketor, dal libro di Diresan e Uriel, dalla profezia di Isabella, dal libro di Shenouda in altri libri, è stato menzionato l'imperatore Teodros. È rivelato nella parola di Dio, che molti non hanno ancora compreso. Oggi ci sono molte persone su YouTube, Facebook e altri social media che parlano dell'imperatore Teodros in vari modi. Inoltre ci sono persone che si oppongono coraggiosamente al fatto che un tale re non venga, quelli spesso sono sposati con eretici. Per prima cosa, esamineremo le parole dell'Onnipotente Dio nel 49 gradi capitolo di Isaia e arriveremo al resto dell'idea. Le parole di Dio Onnipotente dicono. Ascoltatemi, o isole, e ascolta, o popolo, da lontano, il Signore mi ha chiamato dal seno materno, dalle viscere di mia madre ha fatto menzione del mio nome. E ha reso la mia bocca come una spada affilata, all'ombra della sua mano mi ha nascosto e mi ha reso un'asta levigata, nella sua faretra mi ha nascosto, e mi disse, tu sei il mio servitore, Israele, nel quale sarò glorificato. Allora ho detto, ho faticato in vano, ho esaurito la mia forza per nulla in vano, ma sicuramente il mio giudizio è con l'Eterno e la mia opera con il mio Dio. Ed ora, dice l'Eterno che mi ha formato dal seno materno per essere suo servitore, per ricondurre Giacobbe a lui, anche se Israele non era donato, tuttavia sarò glorioso agli occhi dell'Eterno, e il mio Dio sarà la mia forza. Ed egli disse, è una cosa leggera che tu sia mio servitore per suscitare le tribù di Giacobbe e per restaurare i preservati di Israele, ti darò anche come luce ai pagani, affinché tu possa essere la mia salvezza per la fine della terra. Così dice l'Eterno, il Redentore di Israele, e il suo Santo, a colui che l'uomo disprezza, a colui che la nazione aburrisce, a un servo dei governanti, i revedranno e sorgeranno, anche i principi adoreranno, a causa dell'Eterno che è fedele, e il Santo di Israele, ed egli sceglierate. Così dice l'Eterno, in un tempo favorevole ti ho ascoltato e in un giorno di salvezza ti ho aiutato, ti preserverò e ti darò come patto del popolo, per stabilire la terra, per far ereditare i patrimoni desolati, affinché tu possa dire ai prigionieri, andate avanti, a coloro che sono nelle tenebre, mostrate voi stessi. Essi pascoleranno per le vie e i loro pascoli saranno in tutti gli alti luoghi. Non avranno fame né sete, né il calore né il sole li colpiranno, perché chi ha pietà di loro li guiderà, anche presso le sorgenti dell'acqua li guiderà. E farò di tutte le mie montagne una via, e le mie strade saranno esaltate. Ecco, questi verranno da lontano, ed ecco, questi da nord e da ovest, e questi dal paese di Sinima. Canta, o cieli, e gioisci, o terra, e scoppiate incanti, o monti, perché l'Eterno ha consolato il suo popolo e avrà pietà dei suoi afflitti. Ma Sion disse, il Signore mi ha abbandonato e il mio Signore mi ha dimenticato. Può una donna dimenticare il suo bambino che allatta, per non avere compassione del figlio del suo seno si, possono dimenticare, ma io non ti dimenticherò. Ecco, ti ho scolpito sui palmi delle mie mani, le tue mura sono sempre davanti a me. I tuoi figli si affretteranno, i tuoi distruttori e quelli che ti hanno reso desolato usciranno da te. Alza gli occhi tutti intorno ed ecco, tutti costoro si radunano e vengono a te. Per la mia vita, dice l'Eterno, certamente ti rivestirai di tutti loro, come con un ornamento, e li legherai a te, come fa una sposa. Poiché la tua desolazione, i tuoi luoghi desolati e il paese della tua distruzione saranno anche ora troppo angusti a causa degli abitanti, e quelli che ti hanno inghiottito saranno lontani. I figli che avrai, dopo che avrai perso l'altro, diranno di nuovo nelle tue orecchie, il luogo è troppo stretto per me, dammi posto affinché possa dimorare. Allora dirai in cuortuo, chi me li ha generati, visto che ho perso i miei figli e sono desolato, prigioniero, che vado avanti e indietro e chi ha allevato questi? Ecco, sono stato lasciato solo, questi, dove erano stati? Così dice il Signore Dio, ecco, io alzerò la mia mano ai pagani e alzerò la mia bandiera al popolo, essi porteranno i tuoi figli tra le loro braccia e le tue figlie saranno portate sulle loro spalle. E i re saranno i tuoi padri che allattano e le loro regine e le tue madri che allattano, si prostreranno davanti a te con la faccia verso la terra e leccheranno la polvere dei tuoi piedi, e tu saprai che io sono il Signore, poiché non si vergogneranno di quelli che mi aspettano. La preda sarà presa dal potente o il legittimo prigioniero sarà liberato? Ma così dice l'Eterno, anche i prigionieri dei potenti saranno portati via e la preda del terribile sarà liberata, perché io combatterò con colui che contende con te e salverò i tuoi figli. E darò da mangiare a quelli che ti opprimono con la loro propria carne, e saranno ubriachi del loro sangue, come del vino dolce, e ogni carne saprà che io, l'Eterno, sono il tuo Salvatore e il tuo Redentore, il potente di Giacobbe. L'intero capitolo 49 di Isaia riguarda l'imperatore Etiope Teodros, sulla risurrezione dell'Etiopia, ci parla anche del pensiero di coloro che sono chiamati Israele per la loro carne da Dio. Analizzeremo la parola in dettaglio. In questo caso, il problema del sincero malinteso sarà risolto. La loro colpa, il loro tradimento, la loro falsa dichiarazione della verità, ti vergognerai dell'apostasia dell'ex serpente, dei discepoli del falso profeta drago e di miliardi di persone nel mondo. Tu che hai detto, ieri non ho seguito il libro apocrifo, tu che hai detto che non c'è risurrezione dell'Etiopia, come disse il profeta Daniele, negli ultimi giorni della fine, ci sarà molta conoscenza. L'uomo si solleverà per investigare la verità di Dio mediante la sua saggezza. Permetteteci, servi della Trinità, di dirvi qual è la vostra cattiva notizia, perché non avete la fede per rivelare la verità di Dio Onnipotente. Una delle tue lingue ingannevoli dice che non crediamo al di fuori della Bibbia. Poiché siete le creature del falso profeta, vi ho dato una parola di profezia chiara e inequivocabile dalla Bibbia in cui credete. Le profezie dei patriarchi che hai rifiutato sono ancora valide. Diamo un'occhiata alle implicazioni, la parola dice, ascoltate, o isole, a me ascolta, o popolo, da lontano. La sua implicazione è che le isole significano paesi e governi. Dio ti dice di ascoltare tutti i discendenti di Adamo, che furono dispersi in tutta la terra. La parola dice, il Signore mi ha chiamato dal seno materno, dalle viscere di mia madre ha fatto menzione del mio nome. E ha reso la mia bocca come una spada affilata. La sua implicazione è, Dio ha creato ogni creatura per la sua gloria, il suo carattere e la vita della sua volontà, e lo ha creato ovunque secondo il suo destino. Camminerà anche sulla terra, proprio come è determinato il destino dellì Dio Onnipotente. Quando siamo creati, quando ci permette di sottometterci alla sua volontà e di vivere nella sua terra, a posto le tenebre e la luce davanti a noi, affinché possiamo andare dove vogliamo. Quando facciamo buone scelte, ci viene dato un buon angelo che ci guida. Ci permette di imparare nel modo in cui Dio vuole che lo facciamo, perché abbiamo scelto il bene. Chi cammina per volontà di Dio è istruito da Dio. Per i suoi scopi e le sue volontà, Dio sceglie persone tra l'umanità per il suo servizio. Il re Davide fu scelto da Dio e creato per servire il suo scopo, il re Davide, che capiva quale fosse la volontà e lo scopo di Dio, disse, mentre ero ancora nel grembo di mia madre, fui conosciuto da te, prima di diventare misto di ossa e sangue. Dio lo ha chiamato fuori dal grembo materno per uno scopo specifico. Pertanto, la scelta di Dio fu fatta prima che il re Davide fosse creato. Prima che tutti i profeti e gli apostoli fossero uniti nel grembo della madre, li ha scelti per il suo piano. Ha reso il suo prescelto come una spada affilata. Hanno scosso il mondo con le loro parole, perché Dio è lo Spirito Santo che opera nei loro corpi, nelle loro lingue. La parola dice, all'ombra della sua mano mi ha nascosto e mi ha reso un'asta levigata, nella sua faretra mi ha nascosto. La sua implicazione è, oggi stai ascoltando la parola di giudizio di Dio, il suo rimprovero attraverso i messaggi di l'Etiopia e la luce del mondo. Ma tu non mi hai visto servo di Dio in persona, perché? Perché mi ha nascosto fino allora. Mi nasconde da oltre 15 anni. In questo, devi conoscere le modalità di lavoro di Dio. La parola dice, e mi disse, tu sei il mio servitore, o Israele, nel quale sarò glorificato. Allora ho detto, ho faticato in vano, ho esaurito la mia forza per nulla, in vano, ma sicuramente il mio giudizio è con l'Eterno e la mia opera con il mio Dio. La sua implicazione è, Dio parla chiaramente a chi ha scelto, dice, tu sei il mio servitore. L'onnipotente Dio è onorato per tutto il bene che ha fatto in questo vaso scelto. Gente mia, sono davvero sorpreso quando dico questa parola, la parola era nel mio cuore, questa è la parola che usavo per trasmettere nella mia mente, ho lavorato in vano, ho speso la mia forza per nulla, in vano, ma sicuramente il mio giudizio è con il Signore, e la mia opera con il mio Dio. Quando ho espresso questa verità, ho avuto la sensazione di essere l'autore della parola. In questo messaggio, non voglio parlare della mia vita e della mia sofferenza, chi vuole sapere, può chiedere all'iddio onnipotente, se non ti sbrighi, sarà tutto rivelato, lo sentirai perché non rimarrà nulla dall'andare alla luce. Personalmente, non voglio pensare da dove vengo. Quando ci penso, divento così nervoso che non riesco a gestirlo, quindi devo saltarlo. La mia ricompensa e il mio giudizio sono ancora nelle mani di Dio. Come tutti sapete, la battaglia con il falso profeta, il vecchio serpente, che ha governato il mondo e ha governato il mondo a suo piacimento, è iniziata nella mia infanzia. Senza rendermi conto della mia anima, il diavolo ha cercato di distruggermi in tanti modi. Non ho sofferto con la mia volontà. Lascia tutto il resto, dal momento in cui mi è stato ordinato di consegnarti i messaggi, non è stato facile raggiungere i messaggi durante ogni messaggio. È stato pagato un prezzo molto alto che non descriverò oggi. La strategia di attacco del diavolo è molte. Anche se siamo passati per il potere di Dio, siamo rimasti molto feriti. Come individuo e come famiglia, ho pagato il prezzo più alto per questo. Ho dato tutta la mia vita. Molti cercano gloria, ricchezza e lode, questo è il desiderio della carne. Ma per coloro che comprendono la verità e amano Dio, non ha senso. Tutti i loro desideri riposano quando i mali di questo mondo sono presto scomparsi e mentre vanno dai loro antenati in paradiso. In termini di dolore e sofferenza che ho visto nella mia vita, mi ha reso molto triste vivere su questa terra. Anche se rimango, posso farlo solo per la volontà di Dio, per la sua gloria, per il suo nome glorioso e per il mio servizio a Lui. Oggi io, la schiava della Trinità, vivo per servirlo, per obbedirgli, per fare la sua volontà e per fare la volontà di mia madre, la Vergine Maria. A parte questo, niente soddisfa i miei desideri. Finirò la mia corsa, quando ho creato altri popoli per adorare il mio Dio, quando vedo quando la volontà di Dio è fatta e Dio Onnipotente è stato lodato da tutte le persone, è tutto il mio compenso. Non ho alcun desiderio da questo mondo. Non ho niente a cui preoccuparmi del mio corpo. Certo, potresti rimanere scioccato da ciò che senti. Il mondo intero governerà da me, sono vanitoso, solo spazzatura. Io sono il meno di tutti voi. Ma mi ha graziosamente coperto con la sua misericordia, ha coperto i miei peccati vergognosi, ha pagato un prezzo caro per me, di nuovo, ha deciso di mettermi in un posto che è al di sopra dell'immaginazione del cervello, da quando ho sentito questo, per molti anni ho avuto una forte discussione con Dio Onnipotente, Gesù. Gli ho detto, questo è al di là di me e che non sono adatto per questo, ha detto di no. Ho chiesto anche a mia madre, la Vergine Maria. Lei ha detto no. Ma, poiché il tempo svela tutto, non è meglio parlare troppo. Passiamo alla parola successiva. La parola dice, ed ora, dice il Signore che mi ha formato fin dal grembo per essere suo servitore, per ricondurre Giacobbe a lui, anche se Israele non era donato, tuttavia sarò glorioso agli occhi del Signore, e il mio Dio sarà la mia forza. Ed egli disse, è una cosa leggera che tu sia mio servitore per suscitare le tribù di Giacobbe e per restaurare i preservati di Israele, ti darò anche come luce ai pagani, affinché tu possa essere la mia salvezza per la fine della terra. Così dice il Signore, il Redentore di Israele e il suo Santo, la sua implicazione è, come puoi vedere, la parola dell'Iddio Onnipotente, oggi sei confuso su chi sia il re Teodros. Anche, questa è la verità per chi dice di no. Scopri perché è stato chiamato, chi lo ha chiamato, chi lo ha nominato. State tutti sentendo quando il nostro Signore Gesù lo incoraggia che è molto facile per Dio che è difficile e mortale per Lui. La parola continua, a colui che la nazione aburrisce, a un servitore dei governanti, i revvedranno e sorgeranno, anche i principi adoreranno, a causa del Signore che è fedele e del Santo di Israele, ed egli scegliete. La sua implicazione è, in tutto il mondo, per coloro che sono schiavi dei governanti, il giusto giudizio di Dio, la verità che Dio rivela, tutti i regni che ti sconvolgono, con il processo della loro distruzione, il tutto si inchinerà davanti all'imperatore Teodros, volenti o nolenti. Questo è ciò che ti dice la parola. La parola dice, così dice il Signore, in un tempo propizio ti ho ascoltato e in un giorno di salvezza ti ho aiutato, e ti preserverò e ti darò come patto del popolo, a stabilisci la terra, per far ereditare i patrimoni desolati, affinché tu possa dire ai prigionieri, andate avanti, a coloro che sono nelle tenebre, mostrate voi stessi. La sua implicazione è, Dio gli assicurò che aveva protetto, ascoltato e protetto il suo servitore nel mezzo di una grande tribolazione. Nota. Dice, stabilire la terra, ha comandato al suo servo di ripristinare ciò che era perduto e ciò che era perduto. Poi di nuovo la parola dice, affinché tu possa dire ai prigionieri, andate avanti, a coloro che sono nelle tenebre, mostrate voi stessi. Punto e virgola il primo compito del re era quello di smascherare e imprigionare coloro che erano stati prigionieri, perseguitati, perseguitati dal diavolo e perseguitati per la loro fede ortodossa Teweido. Dio poi dice, ti do per un patto del popolo, quindi Dio ha dato il re al suo popolo, proprio come aveva promesso. La parola dice, mangeranno per le vie, e i loro pascoli saranno in tutti gli alti luoghi. Non avranno fame né sete, né il calore né il sole li colpiranno, perché chi ha pietà di loro li guiderà, anche presso le sorgenti dell'acqua li guiderà. E renderò tutte le mie montagne un modo la sua implicazione è, ci dice che nei prossimi bei tempi, nella risurrezione, guiderà il suo popolo attraverso i suoi servitori, sarà con loro e rimuoverà gli ostacoli. Nessuno è più grande di una montagna, l'onnipotente Dio ha promesso che rimuoverà tutto e si farà strada. Le false credenze delle forze degli odierni governi montani saranno sradicate. Questa è la verità. La parola dice, e le mie autostrade saranno esaltate. La sua implicazione è, tutti i giusti giudizi di Dio, per tutti coloro che furono chiamati alla sua risurrezione in quel momento, tutte le strade portano alla pace, alle benedizioni, all'amore, alla gioia, Dio sarà adorato con tutto il cuore, tutta la mente, tutta l'anima. Sarà un tempo di luce glorioso ed esaltato. La parola dice, ecco, questi verranno da lontano, ed ecco, questi da nord e da ovest, e questi dal paese di Sinima. Canta, o cieli, e gioisci, o terra, e scoppiate incanti, o monti, perché il Signore ha consolato il suo popolo e avrà pietà dei suoi afflitti. La sua implicazione è, nei prossimi giorni, nella risurrezione, verranno in Etiopia per cercare conforto da tutte le parti della terra. Dio conforta tutti coloro che sono salvati dall'ira di Dio. Perché ha dato misericordia per il suo popolo, i cieli e la terra, e i regni, grideranno di gioia, a causa del giusto giudizio di Dio. Questo è ciò che accadrà. La parola dice, ma Sion disse, il Signore mi ha abbandonato, e il mio Signore mi ha dimenticato. Può una donna dimenticare il suo bambino che allatta, per non avere compassione del figlio del suo seno si, possono dimenticare, ma io non ti dimenticherò. Ecco, ti ho scolpito sui palmi delle mie mani, le tue mura sono sempre davanti a me. I tuoi figli si affretteranno, i tuoi distruttori e quelli che ti hanno reso desolato usciranno da te. La sua implicazione è, questa parola parla per coloro che sono chiamati Israele dalla loro carne. Nella prossima risurrezione, Israele come descritto nel messaggio 3, le viene concesso il diritto all'autogoverno sotto il governo leggero mondiale dell'Etiopia. Afferrando il suo popolo che è sfuggito alla sua ira, in quanto sorella etiope più giovane, è confortata dalla guida spirituale dell'amministrazione spirituale etiope ortodossa Teweido. Dio riguardo ai primi profeti, apostoli e per la loro vita che hanno pagato per lui, essi sono nati e amati da Dio come suo popolo. Anche se lo negano, anche se lo hanno tradito a morte in una grande apostasia, non si pentono ancora, ma quando Dio Onnipotente ha visitato il mondo nell'ultima ora, si è dispiaciuto per il suo popolo. Ricordava i primi giorni di Ebramo, Isacco, Giacobbe, i padri fondatori di Mosè, Elia e Davide. È così che Israele ha avuto la sua possibilità. La parola dice, alza gli occhi tutti intorno, ed ecco, tutti questi si radunano e vengono a te. Per la mia vita, dice l'Eterno, certamente ti rivestirai di tutti loro, come con un ornamento, e li legherai a te, come fa una sposa. Poiché la tua desolazione, i tuoi luoghi desolati e il paese della tua distruzione saranno anche ora troppo angusti a causa degli abitanti, e quelli che ti hanno inghiottito saranno lontani. I figli che avrai, dopo che avrai perso l'altro, diranno di nuovo nelle tue orecchie, il luogo è troppo stretto per me, dammi posto affinché possa dimorare. Allora dirai in cuortuo, chi me li ha generati, visto che ho perso i miei figli e sono desolato, prigioniero, che vado avanti e indietro? E chi li ha allevati? Ecco, sono stato lasciato solo, questi, dove erano stati? La sua implicazione è, Dio è fermo e confida nella sua parola. Quando l'Etiopia è ricordata da Dio, viene riparato nella sua interezza, quando l'Etiopia sarà ricordata da Dio Onnipotente, egli ripristinerà tutte le sue cose che hanno perso, tutte disperate, che è stata perseguitata. Tutta la desolazione fiorirà, l'Etiopia sarà il conforto di tutta la terra. Quindi, per quanto la sua terra sia piena, lei sarà piena degli sposi della risurrezione. Il suo territorio sarà vasto. Etiopia disperata, gli esseri umani nasceranno di nuovo dalla fede ortodossa te uedo da tutto il mondo, saranno come gioielli per lei gloriosa. La parola dice, così dice il Signore Dio, ecco, io alzerò la mia mano ai pagani e alzerò la mia bandiera per il popolo, essi porteranno i tuoi figli tra le loro braccia e le tue figlie saranno portato sulle loro spalle. E i re saranno i tuoi padri che allattano e le loro regine e le tue madri che allattano, si prostreranno davanti a te con la faccia verso la terra e leccheranno la polvere dei tuoi piedi, e tu saprai che io sono il Signore. La sua implicazione è, quando Dio dice, alzerò la mano alle nazioni, porrò il mio proposito contro il mio popolo, in buon periodo, durante il periodo di riparazione, indica che i gentili saranno chiamati alla verità e che Dio li chiamerà nel paese dove sarà onorata la sua rivelazione, l'Etiopia. La parola dice, perché non si vergogneranno che mi aspettano. La sua implicazione è, coloro che mi aspettano non si vergogneranno. Capisci davvero le implicazioni di questa parola? Sì. Credo che una persona con la coscienza pulita se ne accorgerà. L'Etiopia è una terra di fede ortodossa teweedo, una terra amata da Dio. Una terra dove vivono persone di forte fede. Per molto tempo, stava aspettando con speranza il suo Salvatore, Gesù, e sua madre, come il patto che le era stato dato. Padri e madri, hanno ereditato questa verità per i loro figli, e hanno salutato con speranza e andarono al cielo. Famiglie di Dio, figli della Vergine Maria, il grande profeta Isaia disse prima della nascita di nostro Signore. La grande promessa dell'Etiopia, la grande speranza per il futuro, che gli era stata rivelata dall'Onnipotente Dio, aveva registrato questa alleanza nel suo libro profetico. Quando venne il momento, Dio venne rivelando la sua parola e il suo mistero. Che l'Etiopia è una terra promettente, pochissime persone che credevano e capivano questa verità non aspettavano disperati, essi stavano con pieno di fede che Dio farà accadere un giorno. Anche noi, i messaggeri, non vedevamo l'ora. Dio, l'Onnipotente, non delude coloro che confidano in Lui. Questa è la verità. Questa è la speranza che vi dico oggi, ci sei arrivato. Quelli che non credono e disprezzano Dio, quelli che dicono che Dio non può giudicare e salvare, che lo vedrà, quando egli li travolse con il suo giusto giudizio. Perché, essi schermivano alla parola, essi hanno cambiato la verità in menzogna, credevano in false credenze, essi hanno distrutto coloro che veramente stare in piedi, si sono inchinati al diavolo, al dragone e al falso profeta. Hanno rigettato la verità rivelata in Giovanni Apocalisse 20. Hanno sfidato e perseguitato le vere persone. Si sono opposti coraggiosamente al messaggio di Etiopia, la luce del mondo, che ha espresso la speranza dell'Etiopia. Oggi, l'intero capitolo di Isaia 49, come descritto sopra, come puoi negarlo? Perché, siete sempre i figli del falso diavolo e potete provare a commettere un peccato perché siete un bugiardo. Ma voglio assicurarti che una cosa, non c'è tempo. È finita. Sei in ritardo. Ora tutto è caricato davanti a te. Non c'è ingresso. Non ci sono nascondigli. È finita. La parola dice, la preda sarà tolta al potente o il legittimo prigioniero sarà liberato? Ma così dice l'Eterno, anche i prigionieri dei potenti saranno portati via e la preda del terribile sarà liberata, perché io combatterò con colui che contende con te e salverò i tuoi figli. E darò da mangiare a quelli che ti opprimono con la loro propria carne, e saranno ubriachi del loro stesso sangue, come divino dolce, e ogni carne saprà che io, l'Eterno, sono il tuo Salvatore e il tuo Redentore, il potente di Giacobbe. La sua implicazione è, poiché il mondo oggi è pieno di orgoglio, non ascolta. Anche se altri che sono migliori da noi parlano, non ascolteranno, perché sono potenti. Un paese povero prenderà ciò che vuole dagli Stati Uniti, dalla Russia o dal Regno Unito? Impensabile. Non possiamo immaginare un paese del terzo mondo, un paese africano che dice che combatterò contro l'Europa e combatterò contro tutte le superpotenze. Ma è chiaro che questa verità è creduta da tutte le persone moderne. Si sorpresa, questa verità si invertirà. Come può essere? Si, può. Per quelli che dicono che non può, perché è possibile con Dio. Notate, i prigionieri dei potenti saranno portati via. Saranno liberi dalla mano dei superpoteri. I prigionieri che sono in imprigionata dai tiranni di questa età sarà fuggire. Questa è la verità. Gente mia, fate attenzione. Vedrai la verità di fronte a te in azione. Tutti i capi del giorno, che sono stati uno scherzo della parola di Dio, saranno consumati dal fuoco. I superpoteri del mondo, libererai coloro che tormenti sulla terra contro la tua volontà. Quando sei consumato dal fuoco, quando chiedi la morte, allora fai più di quanto ti viene richiesto. Di fronte all'amata Etiopia di Dio, sarai spolverato, sarai disprezzato e umiliato. Qualunque cosa tu faccia, tutto ciò che è la fonte del tuo orgoglio sarà immediatamente come fumo di fronte a te. Perché sei in guerra con l'Etiopia? Questo atto è un conflitto con Dio. La parola di giudizio, che descrive la gravità della tua sofferenza, mangerà la tua carne e berrà il tuo sangue come vino. In questo modo tutta la carne lo vedrà. Allora sai che la medicina etiope è Dio onnipotente. La mia gente, la profezia di Isaia rende molto chiaro l'imperatore Teodros, come sarà la risurrezione dell'Etiopia e come avrà luogo. Ed è alla tua porta per esibirti. Dopo che questo messaggio è stato rilasciato, è comandato dall'onnipotente Dio che tutte le azioni siano intraprese. In questo momento in cui siamo oggi, quando la terra è scossa dalla menzogna mattina e sera, in un'epoca in cui grandi e piccini erano dipendenti dalla televisione, una delle questioni attuali che riguardano i social media, Youtube e Facebook, eccetera. Allo stesso tempo, la questione della partenza e dell'arrivo dell'imperatore Teodros è stata una questione importante. Alcuni sono contrari alla resurrezione etiope, vista la situazione attuale e le turbulenze globali, alcuni vanno contro la parola della profezia e cercano di compiacere i governanti del giorno. Alcuni cercano persino di guadagnare molti soldi da Youtube offrendo qualcosa di nuovo. La maggior parte di loro obbedisce al diavolo, perché hanno sentito dal loro Signore che il loro adempimento stava arrivando, essi sono molto cercando di tenere la gente per non ascoltare la verità e di indurre in errore loro. Proprio come si dice che il Re è qui, citando vari libri di profezia, ci sono tante pagine che parlare del suo paese di origine, la destinazione, la sua città natale. Come hanno detto, molti fanno riferimento al libro Ficare è Jesus che ha trovato in Inghilterra, essi rendono le persone confuse, interpretandolo a loro piacimento. Perché le parole sono cibo per l'uomo moderno, ascolta bugie, mescolate con poche verità, e ascolta senza scegliere tutto. Quindi, ha confuso. Apostate governanti e governi moderni, nonché credenze apostate del falso profeta del diavolo, essi cercano di distoccere questa verità, esagerare, e travisare esso. Il mondo temuto è anche il guidatore di loro. Il diavolo, l'ex serpente, il drago e il falso profeta sono ben consapevoli di questo fatto. Capiscono la verità. Nota. Sono i governanti e governanti che il diavolo ha stabilito sulla terra, che il diavolo ha rifiutato Dio, che il diavolo vuole rovesciare il regno dell'iddio onnipotente e che hanno lottato per realizzare questo sogno. Quindi stanno ancora combattendo. Non c'è posto nei cieli per loro. Vengono sconfitti, avvolti e gettati a terra. Oggi, la loro fortezza terrestre sta per crollare. Dio sarà glorificato nella terra dai suoi fedeli servitori. Qui lo vediamo impegnato in una feroce battaglia, perché questa verità sta per essere inghiottita. Deve essere. Ma, che non vogliono che questo accada. Perché è la fine della loro esistenza. Non solo quello, perché quelli che non credono stanno combattendo contro Dio che ha creato noi e loro. Nessuna sorpresa, se sono sopraffatti dallo shock, perché Dio sarà glorificato nella loro terra. Questa verità illuminerà la terra che era nelle tenebre. Il Signore di tutta la creazione dovrebbe essere glorificato nel suo giusto giudizio sulla terra in cielo. Perché Dio ha un giudice giusto. Così, quando l'imperatore Teodros è unto dal potere o effe Dio, come sarà il sovrano di questa oscurità lo riceverà? L'imperatore sa anche che non lo accetteranno con allegre cerimonie. Che amicizia hanno l'oscurità e la luce? Il re è venuto per addempiere la volontà del Dio che lo ha creato, per stare a guardia di tutte le cose sulla terra per il nome glorioso di Dio. Quindi, se vogliono distruggerlo, deve farlo per loro. Comunque, la loro lotta non è facile. La saggezza del diavolo non l'ha portata via, è chiaro che ha escogitato molti schemi per distruggerla. Quindi non essere sorpreso dal caos. Quando la verità di Dio viene rivelata, tutte le forze delle tenebre non hanno posto e non hanno fine, e il nemico è molto turbato. La mia gente. Cosa sa una persona nell'oscurità se gli altri fanno quello che vogliono su di lui? Non sa niente. Fanno quello che vogliono. Questa è la verità. Come puoi vedere oggi, il diavolo ha completamente oscurato il mondo e lo ha immerso in un mare di peccato. Genocidio, guerra, guerra di confine, settarismo, guerra di religione. Come tutti sanno, il mondo si combatte a vicenda diviso in due parti secondo il piano del diavolo. Poiché sono soggetti alla sua volontà, obbediscono ai suoi comandi. Il desiderio di tutti i governi è che io porti una migliore pace e prosperità alla democrazia, la giustizia di Satana. Il tuo metodo è migliore per farlo, no, quello è meglio, perché sono organizzati dal diavolo in questo modo, sono arrivati qui combattendosi l'un l'altro per migliaia di anni. La vita dei sogni del diavolo è decorata quando ha reso il mondo cupo. Il suo sogno si è avverato e sta guidando miliardi. Se l'uomo conosce il suo creatore, se cammina secondo la sua volontà, se ama e obbedisce ai suoi comandamenti, allora è entrato nel mondo della luce. Se avesse capito la volontà di Dio, se sa cosa guadagnerà vivendoci, è veramente felice di essere raggiunto alla luce del futuro, e sarà consolato, sarà l'erede del regno per le benedizioni della terra e del mondo a venire. Sapendo questo, il diavolo ha combattuto più duramente per impedire che ciò accada, anche lui lo sta facendo adesso. La ribellione è dilagante, oggi l'umanità sta morendo come una foglia. Il sangue umano scorre come un torrente, secondo il piano del diavolo. Non ci sono interruzioni. Quanto sangue innocente è stato versato nel nostro paese? Quante persone povere sono morte? Quante case sono state distrutte? Quanti sono morti di fame e di guerra? Quanti sono stati uccisi dal loro seme? Quante delle sue convinzioni su Tewaedo furono schiacciate? Non lo vedi chiaramente? Non vedi cosa sta facendo il governo etiope, governato dal vecchio serpente, il drago, il falso profeta, per soddisfare i desideri del diavolo, per distruggere la via della verità? Governo spudorato. Accettava frodi, inganni e tattiche, come una buona conoscenza. La sua bocca burro, il suo cuore coltello un tale leader, il diavolo, che cerca di distruggerci, ci ha piantati, quanti poveri etiopi sono morti a causa della loro orazia? Quante credenze Tewaedo furono distrutte? Quante delle nostre chiese furono distrutte e bruciate? Quanti sono stati perseguitati? Quanti sono diventati un giocattolo arabo? Quanti sforzi sono stati fatti per distruggere il nostro paese? Perché l'Etiopia è diventata il centro di ogni distruzione? È chiaro e inequivocabile. Il vecchio serpente, il drago, il falso profeta, i truffatori che accelerano i loro sogni e corrono, è perché gli schiavi della Trinità che Dio ha autorizzato sorgeranno dall'Etiopia, che è l'eredità della Vergine Maria. La morte del nostro nemico è stata annunciata anche da questa tanto odiata Etiopia. L'Etiopia è amata e scelta da Dio. Per tutta la vita ha onorato il suo Dio, un popolo che pratica quella adorazione con tutto il cuore, è ancora lì. Questa verità, questa luce, ha indotto il diavolo a portare la sua condanna a morte. Etiopia è un paese in cui la gloria della Trinità è rivelata e lodata. Cosa intendiamo con questo? Sì. Il Dio uno e Trino, il creatore di tutta la creazione, il creatore di tutte le cose, il creatore del visibile e dell'invisibile, il creatore della terra e dei cieli, il Signore che ci ha amati e ci ha creati a sua immagine, tutta la creazione in cielo lo loda continuamente, sia di giorno che di notte la terra dovrebbe lodarlo. Quando tutte le creature al di sopra lo lodano, solo l'uomo si è ribellato. Cioè, perché il diavolo, che ha gettato la sua gloria in cielo, è stato precipitato sulla terra, invece di negare e condannare questo nemico ribelle, ha rifiutato il creatore ed è diventato un suddito del diavolo. Punto e virgola un forte giudizio è arrivato alla sua porta, perché non ha ascoltato consigli o rimproveri. Dopo che ciò è stato fatto, la nostra fede Teuado prevale e risplende come il sole, il mondo in cui verrà lodata la Trinità di Abramo, la nostra Vergine Madre, i nostri Santi Padri, le nostre Madri, i Martiri. Dio lo Spirito Santo sarà la sua guida. Come un fiume senza fine, il nome dell'Iddio Onnipotente è lodato giorno e notte. La gloria della Trinità coprirà anche la terra. Tutti i Suoi servi, che Lui amava, saranno vestiti di vesti bianche e saranno glorificati con Lui. Questo accadrà. Questo è il motivo per cui all'inizio molte volte citiamo la parola sopra. Etiopia è l'eredità della Vergine Maria. Sì, Santa Madre, e la sua gloria in alto nei cieli, Madre del nostro Salvatore Gesù, Regina, e la Regina della Terra, anche Dio ha dato alla sua amata Etiopia come espressione di eredità, l'Etiopia è anche la terra dove la gloria della Vergine Maria si rivela e si loda. Dimostra chiaramente che il mondo intero non può essere salvato senza l'intercessione e la maternità della Vergine Maria. Che la Trinità ha dato benedizione, misericordia, salute e longevità attraverso l'intercessione amorevole della Vergine Maria, una generazione che lo sapeva, questa generazione vittoriosa è anche patriottica di Teuaedo, e Lui la chiama Mia Madre, è ben consapevole della sua dignità, la dichiarazione di cui sopra ci assicura questo. Etiopia è la luce del mondo. Sì. Il mondo intero la disprezzava. Hai disprezzato Teuaedo ortodosso. La fede fidata per il suo Dio, gli apostoli e i profeti frantumarono le loro ossa e versarono il loro sangue per lei, la fede che Dio onnipotente amava e rispettava, hai odiato Teuaedo e hai combattuto contro di lei. Anche se il nostro nemico, il diavolo, controlla il mondo intero, non potresti distruggere l'Etiopia. Così è rimasta ferma sulla soglia di quello che hai bruciato, confidava nel suo Dio ed è stata vittoriosa per tutto questo tempo. Il mondo intero è stato dato per essere prigioniero. Nella mia comprensione, sono passati 15 anni da quando lì Dio onnipotente ha scelto l'Etiopia come luce del mondo. Quindi rendiamo sempre nota questa verità in tutte le nostre azioni. Etiopia è il dominatore del mondo. Sì. Il vincitore è la chiesa ortodossa Etiopete Weido. Popolo mio, Dio ha creato questa terra per farci vivere come ospiti. L'Etiopia vissuto, confidando nelle ordinanze e leggi di Dio, è passata all'ombra della morte, per questo è diventata amata, onorata, ricompensata dall'onnipotente Dio. Quindi, il mondo intero le ha dato come prigioniera. L'Etiopia governerà il mondo attraverso il governo della luce mondiale dell'Etiopia facendo dell'Etiopia il suo centro. La verità sopradescritta si avvererà sulle tombe del diavolo e dei suoi schiavi. A causa di ciò, il diavolo era agitato, perché confermava che questa verità era vera. Questo è un must. Deve essere fatto. Sarà fatto, perché è la verità di Dio. Quindi, deve essere che, il diavolo e la sua adultera andranno alla loro tomba, e il popolo di Dio trionfante nel mondo della risurrezione, per evitare questo, il diavolo, le convinzioni che ha costruito nell'apostasia, eretici, cattolici, musulmani, studiosi, agani asiatici, eccetera, li costrinse tutti a negare e usò tanti altri metodi. Non c'è nessuno sulla terra che non vende la sua anima per il suo cibo, per il diavolo. La maggior parte del mondo viene venduta. Ha obbedito al diavolo perché la sua vita è piena, e deve farlo. Pertanto, Dio ha scelto, onorato e unto i suoi servitori sulla terra per eseguire la sua volontà e i suoi comandamenti. I migliori articoli selezionati per questo scopo lo sanno e si sono seduti al loro posto. Stanno aspettando il suo comando. Come tutti sapete, il nostro Salvatore Gesù disse agli Apostoli, finché non riceverete il potere, non dovete lasciare Gerusalemme, dovete indossare il potere. Io vi manderò lo Spirito Santo, il Consolatore. Tutti voi dovete sapere che i servi di Dio unti e ordinati stanno ancora aspettando questo comando. Dovresti sapere che ci sono 39 re sotto l'imperatore Teodros. Dovresti sapere che oltre a loro gerarchicamente, ci sono anche quelli che sono stati nominati al grado di principe e principi. Almeno 300 padri sono stati eletti alla guida della Chiesa Ortodossa e Tio Peteweido. Saranno guidati dal primo padre. Sono preparati e siedono al loro posto, finché non hanno ricevuto il glorioso sacerdozio e hanno ricevuto il potere come Apostoli. Il mondo deve sapere. Quelli che passeranno alla Risurrezione, devi capire. Fai attenzione. La verità è che sembra così. Soprattutto la famiglia di Dio, amato per essere attraversato al tempo della Risurrezione. Sei fortunato. Quindi sii paziente. Non lasciarti ingannare mentre ascolti i continui pettegolezzi del diavolo. E non sprecare l'opportunità che ti è stata data. L'acqua versata non può essere raccolta, quindi di nuovo, ti consiglio di stare attento. Dopo che sei passato alla Risurrezione, la terra sarà guarita, i nostri padri e madri martirizzati regneranno attraverso i loro figli. Mentre sono in Paradiso, vedono tutta l'azione. Si rallegreranno della giustizia del loro Dio, il giudice fedele, e lo lo daranno. L'onnipotente Dio sarà onorato, regnerà e i suoi servitori lo vestiranno. Lo portano nei loro cuori e nelle loro menti. Dio li guida perché lo Spirito Santo è nei loro cuori. Li conduce a tutta la verità. Non ci sarà alcuna azione diabolica e in nessuno dei buchi della terra, sarà sradicato e gettato via. In ogni aspetto della terra, Dio sarà costantemente lodato. Sarà adorato. Sarà onorato. La Vergine Maria, i santi arcangeli, i santi martiri, le madri dei nobili padri saranno sempre lodati. Gente mia, questa verità è arrivata, quindi dove va il diavolo? Dove sta andando quando sente questa notizia peggiore? Famiglie di Dio. Popolo mio, che hai sostenuto fermamente la tua alleanza. Molte domande erano state sollevate sull'identità dell'imperatore Teodros. La storia viene distorta da molti scrittori. Ciò sarà realizzato attraverso gli strumenti del nemico, il diavolo. Il suo lavoro è distruggere la fiducia, riempire il cuore delle persone di dubbi. In questo modo, tranne come descritto in questo articolo e in questo momento, nessuno può dire con certezza che l'imperatore Teodros sia qui. A meno che uno dei nostri fratelli Teclechidan non abbia parlato di lui. Teclechidan ha detto di aver visto il re Teodros di persona per la vigilia del 21 novembre, festa di Zion Mariam, nella chiesa di Axum Zion Mariam, nel 2003 il calendario etiope, sì. È l'unica persona che mi ha visto. Molti parlano di lui in modo esagerato per la loro sincerità o per curiosità. Oltre agli umani, ci sono quelli che lo hanno reso simile agli angeli. Popoli miei. Mosè, Elia, Davide e altri erano umani. Ma Dio ha regnato nelle loro vite, sapete tutti cosa ne ha fatto. Oggi significa ancora che coloro che Dio ama e nomina faranno la sua volontà. Dio ha suscitato i suoi fedeli servitori nel corso dei secoli. Apostoli, profeti, martiri difendono rispettosamente la verità e sono passati con gloria. Hanno combattuto il nemico con il loro potere spirituale, hanno lasciato il segno della loro lotta per noi. Oggi. Che aspetto a questa età? Sì, la Terra è cambiata molto nel corso degli anni. Ha progredito nella sua civiltà. La Terra è diventata un villaggio. C'è così tanta conoscenza. Il nostro pianeta è pieno di edifici, automobili e aerei. È in crescita nella rete di comunicazione. È anche modernizzata con il suo trattamento. La Terra si è ristretta, quindi esplora l'universo spaziale. La fonte della conoscenza e della saggezza che ha usato per tutta questa attività era Dio, che l'aveva già data all'umanità. La Trinità non si risente per le cose buone che l'uomo ha fatto, ma, mentre il creatore di tutte le cose merita di essere lodato e glorificato, l'uomo che lo ha creato a sua immagine lo ha negato. Adorava la creatura, il diavolo. Lo rimproverò e lo consigliò. Quando Dio Onnipotente ha dato la legge dall'inizio, ha avvertito l'umano, dicendo, non dimenticarmi e non andare dagli idoli, sono un Dio geloso, sono un fuoco divorante. Attenzione! Non smarrirti! Lui aveva. Per non dimenticarlo e per perderlo, Dio ha sempre rimproverato l'essere umano dai suoi fedeli servitori che lo amano e gli obbediscono, quei fedeli servitori sono scelti dall'Onnipotente in epoche diverse. Ha chiesto il pentimento, ma, come puoi vedere, nessuno non ha ascoltato. L'orgoglio umano è diventato l'apostasia. A causa della sua conoscenza, della sua ricchezza, dei suoi successi tecnologici, della sua attrezzatura moderna, della sua casa, del suo computer, della sua macchina, dei comfort che ha costruito per il suo corpo, del satellite che ha appeso nel cielo, del jet, della nave, della pistola, il carro armato, l'aereo, perché tutto questo ha reso il mondo un villaggio, disse semplicemente, non c'è Dio. Non lo conosco. La terra è rovinata. Hanno commesso un'azione che non è l'umanità, ogni azione che Dio condanna, sodomizzare, l'omosessualità, l'adulterio, hanno riempito il mondo. Tutti questi si sommano, il sogno del diavolo, che ha negato Dio, ha preso il posto degli esseri umani. Dio è stato dimenticato. Invece, il diavolo, il sovrano delle tenebre, regnava nei cuori e elementi degli uomini. Dio è stato disprezzato, rifiutato e odiato. Quello che chiama il nome di Dio è quasi estinto. Per tutta la vita umana, il drago, il vecchio serpente, il falso profeta sono stati amati, ascoltati e adorati. E il loro segno è diventato su tutti. La Trinità di Abramo, che vede tutto questo, tutti devono sapere che la sua divinità è il fuoco, la gelosia e che la terra ed i cieli sono privi di valore per lui. Questo deve essere confermato, e oggi il giudizio si trasforma in azione. Prima che il mondo raggiungesse questo stadio, il Signore gli disse che prima dell'era presente, l'umanità sarebbe stata completamente distrutta e avrebbe rinnegato Dio. È successo. L'orgoglio dell'uomo si riversò. Padri, essi hanno vissuto e superato come testimoni della verità come è stato detto da Dio. Stanno ancora assistendo a questo. La via della verità, la via della rettitudine è molto stretta, Dio Onnipotente ha detto, fate una lotta per entrare in questa via stretta. La strada larga è molto larga, una grande folla lo seguirà, questa è la via del diavolo verso l'oscurità. Non è successo? Sì, lo ha fatto la mia gente. Così oggi la coppa è piena e l'accampamento del nemico è in subbuglio. La terra è turbata e non c'è pace. Le malattie e la guerra dilagano. I disastri naturali divennero consueti. Ma nessuno è rimasto scioccato da tutti questi segni. Al contrario, è portato alla distruzione. I messaggi di Etiopia, la luce del mondo hanno chiarito la situazione per 15 anni, annunciando l'arrivo dell'imperatore Teodros e la vittoria dell'Etiopia sul mondo attraverso la sua fede. I messaggi hanno esortato il mondo a pentirsi, ad arrendersi al governo mondiale illuminato in Etiopia e a chiedere perdono al creatore. Nessuno ha sentito. Continua e ha spinto il suo orgoglio. Allora, cosa posso fare? Perché c'è un inizio e una fine alle cose, oggi dobbiamo spiegare l'inizio della fine. Fino ad oggi, il diavolo si è sforzato di distorcere quello buono, di rendere la verità di Dio inaccettabile per tutta l'umanità e di renderlo a un mito. Lo ha fatto davvero con successo. I punti di forza e le debolezze dell'uomo sono la sua carne. Prova di tutto per soddisfare quel desiderio. Usando questa debolezza, il diavolo fu in grado di guidarlo nelle tenebre e di violare la legge e l'ordine di Dio. Fiction di propaganda di lunga data, speranza irrealistica, la falsa storia è stata predicata come verità, la maggior parte dei discendenti di Adamo, avvolti in una maschera di conoscenza, andò alla tomba senza conoscere la verità. La lotta del nemico, ha avuto successo perché ha creato una generazione empia che non credeva, non cercava la verità di Dio ed era vincolata dai suoi desideri carnali. Dio ha creato l'uomo a sua immagine. L'uomo che l'ha creato, ha creato dando una mente per pensare, per pensare le cose, per capire, per spiegare. Non lo ha creato come animali. Invece, l'ha creato con dignità. Lo ha dotato di una mente che può distinguere tra il bene e il male, l'oscurità dalla luce e il discernimento. Lo ha creato a sua immagine. Quando ha comandato, tutte le creature della terra si sono sottomesse a lui. E lui l'ha comandato. L'onnipotente Dio ha detto questo, manda la tua mano alla decisione che la tua mente ha pensato il bene e il male, l'oscurità e la luce, a quello che ti piace. Esso ha. Di conseguenza, ti prendi la responsabilità. Secondo la tua scelta. Lì sarai giudicato in base alle tue decisioni e azioni. In tal caso, se comprendi il tuo errore e ti penti, ti perdonerò. In altre parole, camminerai nella luce e mi temerai, perché ti sei fidato di me. Hai stabilito fermamente la verità, mi hai adorato, ti sei allontanato dal male, hai respinto colui che mi ha respinto, hai condannato chi non mi ha obbedito, e quindi sei il mio fedele servitore. Quindi ti amo. Ti ricompenserò, ti giustificherò, ti onorerò. Gli ha detto, se stai nella direzione opposta, se odi il mio consiglio, se mi rifiuti e sei pieno di orgoglio, se fai regnare l'oscurità, se rendi il tuo Dio il sovrano di questo mondo, se rappresenti la distruzione, se rendi Dio il tuo ventre, se ti inchini per la tua saggezza, se ignori colui che ti ha creato, se ignorerai i miei comandamenti e se camminerai secondo i tuoi desideri, il giudizio ti seguirà, perché odiavi il rimorso e rimani attaccato al diavolo. Il giudizio ti finirà. Sono un giudice giusto. Ti giudicherò secondo le tue vie. Questa è la verità. Questa verità è stata rivelata a tutti i discendenti di Adamo attraverso il messaggio intitolato Etiopia, la luce del mondo negli ultimi 15 anni in questa età malvagia. Ti è stato detto. Non hai sentito, hai disprezzato, non volevi essere salvato. Cos'altro si potrebbe fare? La popolazione mondiale è vicina agli 8 miliardi. Di questi, secondo me, si ritiene che meno di 100 milioni di persone si sottomettano alla volontà del creatore. Tutte le persone che hanno coperto la terra si sono aggrappate al diavolo e sono perdute. Non hanno modo di tornare. Come afferma chiaramente la parola di Dio, la via della salvezza, la via della verità è molto stretta, dice, lotta per entrare in questa via stretta. Ma il sentiero delle tenebre è ampio e molti ricammineranno, ma periranno. Falliranno. Ecco la verità. Quindi la mia gente, Dio è puntuale. È Lui che mantiene e adempie le sue promesse. Oggi, dopo migliaia di anni di pazienza, ha visitato la terra e l'intera discendenza di Adamo, insieme a sua madre, la Vergine Maria, e ha soppesato il progresso e la distruzione del genere umano. Come ho detto sopra, affermò il suo giudizio, secondo la forza del cuore dell'uomo e la sua sincerità e mansuetudine, e di conseguenza se si pentì o no. Perché è il fatto che l'uomo ha agito per sua scelta. Di conseguenza, ha dato un ordine di esecuzione ai Santi Arcangeli. Dopo questa decisione e comando, vedrai la situazione del mondo intorno a te. Vedrai sicuramente che tipo di distruzione si verificherà nel mondo. Sigilla tutto ciò che è profetizzato, tutto ciò che ha sigillato, tutto ciò che ama e tutto ciò che approva. Per coloro che sono in prima linea nel servizio, coloro che serviranno secondo la legge leggera, ha ordinato, unto e ha dato autorità con maestà. Mise la sua corona su tutti coloro che erano stati ordinati e unti, a partire gerarchicamente dal primo servitore, l'imperatore Teodros. Anche il loro potere era preparato. Il loro potente potere che sarà rivelato quando appariranno, si è preparato. È finita. Al di sopra di. Questo, riassumendo l'argomento dell'identità e della situazione dell'imperatore Teodros, 12 anni fa, il 19 marzo 2001 nel calendario etiope, è descritto nel messaggio 3, pagine 87-88. Ma oggi lo ripeto per chi non lo capisce o non lo legge. Anche riguardo all'imperatore Teodros, l'intero sistema di governo è chiaramente descritto in questo messaggio 3. Vorrei assicurarvi oggi che ci saranno 21 regni nel mondo, 21 re, un imperatore e 18 re in varie posizioni elevate. Tutti i governi, tutti i primi padri pastori, hanno il loro centro, la loro sede qui in Etiopia. Il loro centro costruirà qui. Etiopia leader mondiale, sarà una terra amata e benedetta, una terra di conforto. Il mondo sarà governato dall'Etiopia. Il mondo intero tasserà l'Etiopia. Riposano all'ombra del suo glorioso sistema di governo. L'Etiope sarà un dono grande e costoso che puoi ottenere in una grande lotta spirituale. L'imperatore Teodros è figlio di un Tewa ed ortodosso etiope. Come ha detto in tutte le sue lettere, era un uomo povero, miserabile, ignorante e senza valore. C'è chi è confuso sulla sua elezione, ovviamente, alcuni trovano difficile accettare. Per una serie di ragioni, ci sono molte persone che credono in se stesse come Teodros. Non è rimasto nulla in futuro da rendere pubblico, tutto andrà alla luce. In quel momento spiegherai il modo in cui pensi e credi in quel modo, non sarebbe opportuno dire di più. L'imperatore e altri padri sono qui in Etiopia. A partire dalla capitale, stanno monitorando la situazione spostandosi in tutte le parti del paese per scopi diversi. Al momento della rivelazione, quelli a sinistra e a destra di Teodros, che sono il primo e il secondo deputato, con il titolo di re, lo stanno ancora assistendo e lavorando con lui in tutto il suo lavoro. Ci sono altri 37 nel titolo di re, nella comunione e nell'unità di Dio Spirito Santo, stanno aiutando in tutte le cose. Se c'è una cosa che tutti dovrebbero sapere, finché c'è una comunicazione moderna, su Telegram, pagina rivelazione di Giovanni XX, verranno trasmessi tutti gli eventi. È qui che si sente e si rivela la voce dell'imperatore e dei re. Inoltre, è anche evidente il messaggio dell'Etiopia alla luce del mondo. Il telegramma è valido finché è disponibile. Non ne verrà fuori nient'altro. Questo è l'unico modo in cui sarà pubblicamente riconosciuta la resurrezione dell'Etiopia, dell'imperatore Teodros e dei suoi cortigiani, nonché dei grandi patriarchi della chiesa ortodossa etiope. Se hai altre verità oltre a queste, ti invitiamo a continuare. Il giudizio e l'ordine saranno rivelati insieme, poiché il giudice è in cielo, veglia su tutto. D'altra parte, non ho la mentele contro coloro che mi si oppongono. Quello che dico oggi e domani è solo per esprimere la verità e la verità che il mio Dio mi ha insegnato. Quindi io sono il minimo. Penso che siate tutti migliori di me in ogni modo. Ma poiché non capisco con quali criteri mi ha scelto, tutti voi che siete sconvolti dovreste chiedere a Dio Onnipotente e alla Vergine Maria. Troverai la risposta. Lo dico per non inciampare. Quando il re Davide fu scelto da Dio Onnipotente, Samuele lo confuse, proprio come non piaceva ai suoi fratelli maggiori. Ma il Signore rispose a Samuele, assicurandolo che Dio vede il cuore e non guarda l'aspetto esteriore. È noto che il Signore ha scelto i profeti, specialmente gli apostoli, da un luogo disprezzato. Non ho fatto nulla per Dio nel mio lavoro. Non ho lavoro per piacere a Dio nella mia condotta. Immagino che abbia pensato a me per una cosa. Amo il Dio che mi ha creato, il Dio che mi ha salvato dal mio peggior peccato, il Dio che mi ha considerato umano, e amo mia madre Vergine Maria con tutto il cuore. Un'altra cosa che so, non ho fatto nulla per accontentarlo. Questa è la verità. Così, per coloro che chiedono l'identità dell'imperatore Theodros, Per coloro che sono confusi con amici e nemici, ho provato un po' a renderti consapevole di quanto sopra. Quando verrà il momento, vedrai chiaramente l'identità di lui e degli altri. Devi solo essere paziente. Una cosa voglio assicurarmi di te, potresti anche sentire tutta la verità sul canale Telegram aperto da nostro figlio, intitolato Apocalisse di Giovanni XX. Tutti i messaggi fanno parte della nostra descrizione. Se tutto questo si chiude con il peso della sofferenza, cercheremo un'altra strada. In quel momento non saremo disturbati, ma la generazione apostata sarà disturbata e non potrà nascondersi. Un altro problema, ci sono molti che affermano di essere l'imperatore Theodros. Stanno parlando troppo. Sto anche ascoltando cosa dire tranne essere sorpresa. Certamente, credo che sia bene essere pazienti e aspettare che Dio Onnipotente e la Vergine Maria rivelino quello che è quando tutti escono alla luce. Ecco la verità per quelli di voi che desiderano la verità. Come abbiamo annunciato, devi registrarti con noi, perché ci crediamo, abbiamo registrato colui che voleva. Anche chi ha preso una carta d'identità ha fatto un buon lavoro. Poiché l'hai preso per servizio, lo userai in tempo. Voglio assicurarti che la firma sull'idea mia. Oltre alla mia firma che sapete in questo nono messaggio, troverete le firme dei miei due fratelli. Questo perché voglio che tu sappia e ti assicuro che questo messaggio è stato diffuso sotto il governo della luce mondiale dell'Etiopia. Entrambi i miei fratelli, nel due gradi e tre gradi grado del titolo di re, ti assicuro che con il consenso di noi tre e con l'approvazione e il comando di Dio Spirito Santo, è uscito. Così, abbiamo rivelato la questione della conoscenza della verità, che è nella mente delle persone oggi. Per coloro che cercano l'identità dell'imperatore, abbiamo cercato di spiegare la risposta perché è ora. Abbiamo messo in chiaro. Perché stiamo vivendo in un tempo di oscurità. Quando gli parli della luce, è una generazione che predica la grandezza della sua vita nell'oscurità. Questa è la generazione che ha ricoperto la terra. Abbiamo provato a dirgli la verità. Tuttavia, colui che sembrava aver dormito non verrà ascoltato se provi a svegliarlo. Pertanto, non ci interessa la questione che ha ottenuto il suo giudizio finale. Se non se ne accorge fino alla morte, sceglieremo il silenzio. Perché il giorno e l'ora sono davanti a noi, dove si trova quando il fuoco lo copre? Dove andrà con il suo orgoglio? Faglielo sapere. Infine, in questo caso, per identità o apostasia, solo per incredulità o esagerazione, oltre a quanto vi abbiamo spiegato oggi, a tutti coloro che affermano di essere sinceri, potete continuare a farlo. Naturalmente, quando vedrai la verità, dovresti capire che proprio come tu, disobbedendo a Dio, ci sarà un giudizio equo sia da parte dell'iddio onnipotente che della Vergine Maria. Abbi una buona comprensione. Così dice il Signore, maledetto sia l'uomo che confida nell'uomo e fa della carne il suo braccio e il cui cuore si allontana dall'Eterno. Geremia 17 Decalitri numero 5. Ma si nel timore dell'Eterno tutto il giorno. Perché sicuramente c'è una fine, e le tue aspettative non saranno cancellate. Proverbi 23, dal 17 al 18. Aprite le porte, affinché la nazione giusta che osserva la verità possa entrare. Tu lo manterrai in perfetta pace, la cui mente è concentrata su di te, perché confida in te. Confidate nell'Eterno per sempre, poiché nell'Eterno Geova c'è la forza eterna, Isaia 26, da 2 a 4, leggi tutto il capitolo 26 di Isaia. Poiché questo popolo si avvicina a me con la sua bocca e con le sue labbra mi onora, ma ha allontanato il suo cuore da me, e il suo timore verso di me è insegnato dal precetto degli uomini, Isaia 29, dal numero, 13. Come puoi vedere in tutte e quattro le parole sopra, se glielo dici oggi, non ascolteranno, invece della parola, il padre, il vescovo, il maestro, gli studiosi, i padri della chiesa, che affermano di aver comandato, me lo hanno detto. Coloro che fanno questo sono diventati un ostacolo per le brave persone. Alcuni che affermano di essere padri, senza sapere nulla di noi e senza leggere i messaggi, si sono coperti della propria colpa e ci condannano per aver detto la verità. Sappiamo che hanno condannato i giovani che hanno frainteso qualsiasi cosa e li hanno allontanati dalla verità. Sono persino arrivati al punto di restituire coloro che si erano registrati con noi per ottenere documenti che avrebbero permesso loro di servire in futuro sotto il governo mondiale dell'Etiopia. Coloro che hanno fatto questo, abbiamo deciso di consegnarli a Satana e al suo esercito. Non abbiamo pazienza. Si è deciso di non restituire la carta d'identità ai giovani che hanno restituito la carta d'identità. Poiché sono registrati con noi, possono essere rimossi dal registro entro un mese, quindi dovrebbero sapere che lo cancelleremo se non si rivolgeranno all'Onnipotente Dio entro un mese chiedendo di pentirsi. Tu, che politica e fede hanno mescolato per te, falsi credenti, tu che muti la luce in tenebre e le tenebre in luce, notate, Dio non deve essere deriso, non è una scommessa politica. Per i poveri di fede, che non conoscono la verità, non conosci la volontà di Dio, sai solo H è il nome. Non c'è negoziazione per fede. Lo studioso capo Aileutamiru, che ha mantenuto il proprio sacerdozio senza macchia, è stato l'ultimo presidente della conferenza degli studiosi della chiesa ortodossa Etio Peteweido. Lo sappiamo tutti. Era esperto nella dottrina e nel dogma della nostra fede. Abba Paulos, che all'epoca trovò una casa vuota, rovesciò il sinodo e approvò la legge che si sarebbe resa superiore al posto dello Spirito Santo, lo studioso capo Aileutamiru, che all'epoca assistette al crollo della chiesa, ha condannato il patriarca e i membri del sinodo dei vescovi che hanno firmato la legge, essi legati loro sacerdozio. Perché? Sono diventati adoratori di idoli. Di conseguenza, hanno adempiuto al loro obbligo. Allora come può la nostra chiesa essere guarita senza infrangere la legge e agire contro la condanna? Al momento, l'azione del patriarca fu di espellere e sospendere lo studioso capo Aileutamiru. In effetti, era il patriarca Abun e Paulos che avrebbe dovuto essere bandito. Hanno licenziato il vero padre perché erano figure politiche. Quella distruzione è ancora all'opera, immutata. Di conseguenza, tutti i ministri della nostra chiesa sono imprigionati per condanna. Non si sono resi conto della loro colpa e non li hanno corretti. Quindi non puoi benedire nessuno. Per coloro che conoscono questa verità e dicono che non è un problema, vedranno i risultati in futuro. Dalle credenze create dal diavolo, cattolicesimo, eresia, islam, wakefeta, scintoismo, taoismo, confucianesimo, induismo, sicchismo, stregoneria, stregoneria, idolatria, grazia, unzione, sono tutti giudicati. Non c'è modo di avvicinarli. Tutti hanno negato Dio. È un grave crimine confondere la fede con la politica. Secondo questo nono messaggio, nelle seguenti decisioni, ordini, direttive, condizioni coloro che riposano in primo luogo come popolo, come governo e come individui, il secondo è che coloro che riposano come persone, come governo e come individui, il terzo posto sono coloro che riposano come persone, come governo e come individui in una severa punizione, elincheremo i paesi in tre categorie. Paesi inclusi nella prima fase, Stati Uniti, Babilonia, Gran Bretagna, Francia, Cina, Egitto, Germania, India, Iran, Arabia Saudita, Italia, Corea, Israele, Russia, Pakistan, Canada, Emirati Arabi Uniti, Australia, Spagna, Turchia, Giappone, Indonesia, Dubai, così come quelli che sono stati rapidamente liberati e purificati in prima istanza, come affermato nel messaggio 8, Djibouti, entrambi sudanesi, Eritrea, Kenya, Somalia, Ruanda, Burundi, Uganda, Uganda, Tanzania, Africa Centrale, Ciad, Camerun, Egitto, Gabon, Guinea, Zambia, Angola, questi sono i paesi che sono i primi a fare pulizia con i paesi sopra menzionati. Paesi inclusi nella seconda fase, Brasile, Sudafrica, Argentina, Libano, Iraq, Afghanistan, Birmania, Tailandia, Cambogia, Vietnam, Laos, Nepal, Singapore, Malaysia, Taiwan, Sri Lanka, Nigeria, Niger, Cuba, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Costa Rica, Costa Rica, Panama, Haiti, Amas, Curit, Qatar, Oman, Bahrain, Venezuela, Colombia, Sumatra, Guiana francese, Ecuador, Peru, Paraguay, Uruguay, Cile, Bolivia, Tajikistan, Kyrgyzistan, Uzbekistan, Turkmenistan, Georgia, Georgia-Azerbaijan, Armenia, Siria, Filippine, Algeria e tutta l'Africa occidentale. Paesi inclusi nella terza fase i paesi inclusi in questo elenco non sono elencati nella prima e nella seconda categoria di cui sopra vedono la distruzione degli altri e alla fine saranno inclusi e spazzati via. Nota. I paesi menzionati nel messaggio 3, nel messaggio 5 e nel messaggio 8 e tutto il resto del mondo saranno inclusi nel giudizio. Proprio come il virus corona si è diffuso in tutto il mondo, non c'è terra che non sarà spazzata via dai fuochi dell'ira e della rabbia. Naturalmente, quelli che affermano di essere forti nell'economia e nell'esercito sono quelli che saranno consumati dal peggio in primo luogo. Alcuni di loro scompariranno completamente, senza lasciare traccia per la storia. Quando comprendi questo messaggio, potresti sentire che le cose si ripetono. Ma non è. È stato ripetuto in modo da poter sfuggire al pericolo, perché comportava molte nuove sentenze. È a causa della tua distruzione inorridisce. Come hai sentito nella storia, le persone perdute e le proprietà della prima guerra mondiale non servirono da lezione agli altri. Quando arrivò alla seconda guerra mondiale, il mondo non voleva che arrivasse. Era una guerra iniziata da un diavolo, Hitler. A quel tempo, non tutti i paesi potevano sfuggire alla guerra. Vi erano entrati. Sono morte centinaia di milioni di persone, molte proprietà sono state distrutte. Da allora, però, ci sono state meno guerre. Tutto questo non è senza motivo. È stata un'opportunità per una persona di pentirsi ed essere salvata prima che l'ira di Dio si manifestasse, perché l'umanità ha danneggiato la sua relazione con il Creatore. Ma la generazione perduta vedeva tutti i suoi messaggi come miti. Se la pazienza e il consiglio portano alla negazione, se l'amore e la pazienza non portano frutto, perché è difficile distruggere? Proprio come sei creato, cadrai a pezzi. Hai disprezzato il proprietario e hai cercato di spostare la sua recinzione. Così sarai sradicato, purificato e ridotto in polvere. Questa è la verità. Se ti piace, ascoltalo, e se non ti piace, inevitabilmente andrai alla tua morte eterna. Un altro è che alcune persone cercano di forviare il popolo di Dio distorcendo le nostre parole e dando loro significati politici. Di queste affermazioni, l'affermazione Dio non ha bisogno di sostegno fisico è stata certamente rivelata da noi. D'altra parte, nelle nostre lezioni audio, gli abbiamo consigliato di difendere se stesso e il suo paese dalla minaccia e dalla distruzione poste dalla fede Teuedo nel suo paese. Oggi ribadiamo quanto affermato in questo messaggio. Perché? Cosa intendiamo quando diciamo che l'onnipotente non ha bisogno di sostegno fisico? Si noti che quando una persona è armata di un'arma, non può aiutare Dio nella sua preparazione fisica per adempiere la promessa di Dio al suo popolo. Facciamo un esempio di questo, quando gli israeliti si ribellarono, presero l'arca di Dio con Sion e combatterono contro i filistei senza riconciliare Dio. Durante la battaglia, hanno marciato con l'arca di Sion. Dio ti aiuterà se ti fidi di lui, mantieni la tua santità, pentiti e chiedi la sua volontà per la tua battaglia. E sconfiggerai il tuo nemico. Gli israeliti che lo sapevano, presero con loro l'arca dell'alleanza, ma non tornarono. Non sono lontani dalla loro vergogna. Sono usciti con superbia. Furono abbattuti dai filistei. L'arca di Sion è stata catturata. Dove andava Sion, non c'era israelita, i filistei videro i loro idoli prostrarsi davanti all'arca di Sion. Non solo, ma Dio ha colpito la terra di Palestina con grandi malattie e piaghe. I filistei furono allarmati e decisero di restituire l'arca di Sion. Montarono un carro con mucche da latte, vi misero sopra l'arca e la mandarono nel paese di Israele. Quando l'arca raggiunse il paese di Israele, la notizia raggiunse il Rai Davide di quel tempo. Mentre le mucche lo tiravano per strada, sembra che stessero gettando l'arca. Fu in questo momento che un contadino di nome Odda si protese per sostenere l'arca, subito lo spirito di Dio lo colpì e morì. Popolo mio, dobbiamo capire che Dio non ha bisogno del sostegno della carne. Abbiamo bisogno di aiuto, abbiamo bisogno del suo aiuto, ma il Signore non ha bisogno del nostro supporto fisico. Ma ci aiuterà se chiediamo il suo aiuto con sincerità, pentimento, una vita retta e un cuore fiducioso. Abbiamo il diritto di difendere il nostro paese e la nostra bandiera per proteggere la nostra fede. Quando gli invasori vengono su di noi come l'Italia, un nemico invasore che si oppone alla nostra fede e saccheggia il nostro paese, dobbiamo difendere il nostro paese e la nostra fede chiedendo l'aiuto di Dio Onnipotente. Anche se oggi non abbiamo un nemico bianco, dobbiamo combattere contro il male che ci ha portato, proprio come ha fatto Abune Petros. Abune Petros ha combattuto con una pistola. Quando sono stati arrestati, con la loro autorità del sacerdozio, hanno condannato. Sono stati martirizzati per la loro sincerità. Questa è la nostra convinzione. Questa generazione oggi che ha venduto il suo paese, la fede e la bandiera, è eretico, cattolico, musulmano, portatore dell'agenda del diavolo, codardi, bugiardi, ingannatori, razzisti, Witcher, adoratori bianchi, pertanto, è diventato un macello, per il giudizio di oggi. Sorprendentemente, ha cercato di criticarci, oggi, la generazione che ha perso la sua fede, il suo paese, la sua bandiera, con quali standard rilascerà la sua lingua contro di noi? Colui che ha distrutto la chiesa e l'ha venduta al diavolo. Vedrai il tuo giudizio. Non sarai salvato dalla tua lingua. Dio conosce il tuo cuore. Pertanto, ogni vero bambino tewaedo dovrebbe stare a guardia della vera fede tewaedo e della bandiera del suo paese. Bianco, nero, cittadino o no, se è ostile alla tua fede, al tuo paese e alla tua bandiera, puoi difenderlo perché è un tuo diritto naturale. In passato, quando andavamo a scuola, il nostro insegnante di sport ci regalava una gara che non aveva un vincitore. La gara consiste nel mettere un uovo su un cucchiaio da minestra e mordere il manico del cucchiaio da minestra con un dente, e nessuno può consegnare pacificamente l'uovo anche in un quarto. Nessuno può resistere. Non appena è andato, l'uovo cade, sarà rotto. Ho sollevato questo esempio per una ragione. Come tutti sanno, il nostro leader etiope oggi, chi è eretico, come l'Islam, che non ha identità etiope, il miglior attore, pretendente, che non ha sogni realistici, proprio come Miles Senawi, che segue solo i mezzi che si sforza di preservare la sua autorità. Li vediamo mettere la loro forza sul cucchiaio, tenere il cucchiaio con i denti e correre. Non perdere tempo. Quello che avvi stato lontano resterà vicino. Lo vedrai presto. Come dice il proverbio, ascolta tu stesso quando uno parla e anche l'altro parla, il TPLF è caduto e si è disintegrato, sì, è così che Dio giudica. Non ti sei unito alla lotta volontariamente. Il tuo pensiero era di mantenere il tuo potere fingendo. Ma ti hanno portato la battaglia con la forza. Il miserabile Amara, che lo odi solo perché è un cittadino risoluto a causa della sua fede e patriottismo, ha mantenuto temporaneamente il tuo potere. Domani arriva un altro problema. Chiunque sia contro l'Etiopia, Tewaedo, la fede e la bandiera, senza dubbio, sarà umiliato e sarà a Dio. E questo, a meno che tu non lo disprezzi, sai che Dio sa cosa c'è nel tuo cuore. Come tutti sanno, nessuna decisione viene presa in base alla tua lingua. Pagherai il prezzo in base a ciò che hai in mente e a ciò in cui credi. Orgoglio e malvagità, apostasia e disprezzo, razzismo e cospirazione, combinati con il potere, crediamo che per chi cammina per questa via, perirà immediatamente. Questo è il giusto giudizio di Dio. Vorremmo affrontare alcune delle questioni attualmente in discussione. Nel 1988 nel calendario etiope, nella chiesa ortodossa etiope Tewaedo, qualcosa di nuovo è arrivato con i cambiamenti politici in quel momento. A quel tempo, il patriarca della chiesa, Abba Mercurius, fu stromesso dal TPLF. Hanno fatto loro di essere espulsi verso sinistra il loro paese. Con ordini e minacce, Abba Piaulos fu convocato dall'estero e prese l'autorità patriarcale. Dopo aver consolidato il loro potere, violando i confini degli antenati, infrangere la legge del sinodo della chiesa e nominarsi al posto di Dio Spirito Santo, hanno respinto l'affermazione del sinodo che erano responsabili di fronte a Dio e allo Spirito Santo, e hanno reso il sinodo responsabile di fronte al patriarca. Questa legge è ancora in vigore oggi. Lo studioso capo Aile Eutamiro era il presidente del Council of Church Scholars. Il loro compito era prevenire tali abusi e impedire alla chiesa di deviare dai confini fissati dalla fede Tewaedo. All'epoca ha lottato molto ma nessuno li ha ascoltati, per questo hanno condannato il patriarca e il suo sinodo, il sinodo che si trovava nel paese dell'Etiopia. Abba Piaulos ha licenziato lo studioso capo Aile Eutamiro dal suo lavoro, dal presidente del Consiglio degli Studiosi. Quando guardiamo la parola condanna, dice, forse non hai letto o capito il testo della legge, quelli che vengono manipolati dai loro vari sostenitori, e oltre, affidandosi alla loro autorità, dicono che non ascolteremo la domanda della chiesa, patriarca Abba Piaulos, che ha commesso questo crimine, Abba Gerima, che cammina in nome di tre appuntamenti, e tutti coloro che li sostengono. Nelle parole del mio Signore Dio, chi hai legato sulla terra, sarà anche legato nei cieli, con danno per l'autorità del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, i Santi Pietro e Paolo, San Marco e Abba Chirlos, Abba Basilius e Abba Teofilus e dalle parole del giusto Abune Teclea Imanoze Debre Libanos. Anche se sono peccatore e debole, anch'io, prete saldatore Giorgis, ho condannato con la mia parola. Tutti coloro che hanno accettato e applicato questa legge, come Ario, Macedonia, Nestorio, Flabania, Calcedonia e i suoi seguaci, diventa condannato. Ti ho vincolato dall'indistruttibile potere di Dio. Sia lodato il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Amen. Dice. Ho consegnato l'ordine, che mi è stato comandato dal mio Dio. Ho finito la mia corsa. Ora aspetta a te e al governo assumerti la responsabilità. Il mio testimone di questo è Dio e i Santi Angeli, cielo e terra. Questa condanna non è stata ancora sollevata. La Chiesa non ha corretto i confini patriarcali che aveva infranto. Oggi continua a seguire la legge di Polo S. Acquista e leggi un libro sulla condanna pubblica, da un fratello intitolato Deun Resolve di Condemnation. È nostro dovere dire la verità. Non copriamo la verità. Non copriamo la verità per i milioni che offenderanno. Invece, diciamo la verità e la luce. I numeri non contano per Dio. Ma Dio si prende cura di coloro che difendono la verità. Nota che siamo chiamati con il nostro nome, l'Etiopia e la luce del mondo. Non affrettarti ricorda che il profeta Lìa era solo per la verità. I capi del popolo di Israele, a Cabe del Zabel, tutti i sacerdoti che adoravano Vuel e Zebo e L, non sono sfuggiti al giudizio di Dio e anche loro erano così numerosi. Comunque, le famiglie della Trinità e della Vergine Maria, domande sulla condanna e altre questioni, chiedi a Dio con il digiuno e la preghiera sincera. Il sentiero della distruzione è ampio e ci sono molti che lo percorrono. Il sentiero della verità è stretto e pochi lo percorrono. Sforzati di entrare nella via stretta, diceva la parola. Noi, la famiglia di Dio, tutti noi riuniti in Etiopia per la luce del mondo, non siamo guidati dalle emozioni. Dio ci guida mediante lo Spirito Santo. È la parola che ci guida. È la nostra fede ortodossa Teuado in cui i nostri antenati hanno affermato e veramente martirizzato. Pertanto, per alcuni che seguono la strategia di mescolare l'oscurità con la luce, esaminati, vi diciamo, chiedi al tuo creatore. La verità su quello che abbiamo detto sull'istituzione che ha chiamato Associazione dei Santi Omaveri Chigusan, non abbiamo bisogno che nessuno ce lo dica, ci si aspetta che i veri credenti dicano agli altri di correggere le loro azioni oscure. In nessuna delle nostre dichiarazioni e messaggi, non parliamo senza prove. Potrebbe esserci del buono in loro, non abbiamo detto che non ce l'hanno. I precedenti hanno lavorato sodo. Lo sappiamo. Di oggi, sono davvero nei loro panni? Dio li conosce. Li conosciamo dalle verità che comprendiamo. L'altro, solo Dio e i suoi servitori li conoscono. Quelli che sono scelti da Dio, dove sono adesso e che stanno aspettando il buongiorno. Questo non è motivo di preoccupazione in questo momento. Perché il grande fuoco è arrivato davanti a noi e tutti si spengono alla luce, allora vediamo il destino di tutti. Chi vincola la condanna? È chiaro, sono coloro che menzionano il nome di padre Paolo e padre Mattias nella messa e in tutta la liturgia, e anche il sinodo, che attualmente applica la legge che lo condanna, è condannato, quindi il sacerdote e il diacono, i cui nomi sono menzionati in ogni preghiera, il loro sacerdozio è limitato. Dobbiamo dire la verità. È il nostro lavoro pastorale. Non siamo cristiani oggi a svolgere queste attività? Questa domanda sorge. Lo capiamo, non stiamo dicendo colui che non conosceva e capiva questa condanna, non diciamo perché non lo sai. Secondo la sua ignoranza, il giudizio appartiene a Dio. Oggi abbiamo rivelato la verità. Una volta che lo sa, si assumerà la responsabilità. Non possiamo risolvere questa condanna oggi. Non siamo nella posizione discepterne la chiesa. Quando siamo arrivati, non c'erano dubbi che la legge patriarcale sarebbe stata ripristinata. Non solo torneremo, ma l'unità dei nostri antenati, che si sottomettono al consiglio, all'istruzione e all'istruzione di Dio, sarà perfetta, tutti i servitori di Dio saranno guidati dallo Spirito Santo, non si allontaneranno dalla sua volontà. Sentiamo molti commenti sui consigli diligenti e sulle associazioni spirituali della Coppa. Possono essere sinceri, ignoranti e inesperti. Perché il Signore ha visto i loro cuori quando ha scelto gli Apostoli, tutti hanno disprezzato gli Apostoli. Il nostro Signore Gesù sa cosa ha scelto. Naturalmente, ci sono alcuni servitori del diavolo. Sappiamo che ci sono. Anche se rimangono, è per la loro distruzione. Anche se se ne vanno, è il loro destino. Ma a causa del loro coraggio, pagheranno un prezzo. Per quanto riguarda i giusti, non c'è dubbio che nel tempo diventeranno pienamente umani attraverso gli insegnamenti e la guida dello Spirito Santo di Dio. Popolo mio, popolo di Dio. Penso che capirai se leggerai il messaggio alla domanda sul perché il nono messaggio è arrivato oggi. Ciò che lo distingui dalle altre epistole è che estende il messaggio in modo ampio e contiene la decisione, la precondizione, la direzione e il comando più forti. Ascolta il messaggio ancora e ancora. È difficile da capire leggendolo una sola volta. Puoi capirlo solo leggendo. Famiglie di Dio, chi è estraneo a questo messaggio, chi non l'ha ancora sentito, ci dispiace perché sei in ritardo, avvicinati al Creatore dal tuo cuore, pentiti del tuo cuore e dai tutto a Dio, perché nessuno conosce la chiamata di Dio. Con l'aiuto della Vergine Maria, Santi Martiri, gli Arcangeli, con le lacrime, lasciano il mondo velocemente. Eretici, cattolici, eretici, stregoni, musulmani, pagani orientali, unti, grazie, omosessuali e tutti razzisti, non saranno tutti salvati dall'imminente azione radicale secondo me. Puoi essere salvato dalla grazia e dalla volontà di Dio, non lo so. Coloro che credono nel governo della luce mondiale dell'Etiopia, se sei registrato o meno, riuniti da consulenti diligenti, riuniti dalla Spiritual Cup Association, sia registrati che non registrati, prepara i segni dell'alleanza che devi compiere al momento della distruzione. Pentiti e sii pronto come puoi. Se hai soldi, usali per fare del bene. Coloro che non hanno soldi, sii preparato il più possibile, Dio e la Vergine Maria supplieranno alle tue mancanze. I miei padri, madri, fratelli, sorelle e figli, che vivono nel deserto, preparate vi secondo il consiglio di Dio. Non pensare che ci sia un altro modo per esprimere la verità. Ti abbiamo dato la verità di base, se non tutta. Aggrappata te stesso a Dio nell'amore con la Vergine, gli Arcangeli, Santi e Martiri. Possa darti comprensione in tutte le cose. Vedrai la dichiarazione di una proclamazione urgente nel prossimo capitolo. Vogliamo che tu sappia che questa proclamazione è una proclamazione emessa dall'ordine della Trinità, e sotto l'autorità del governo leggero mondiale dell'Etiopia. Perché tutti i discendenti di Adamo lo vedranno prima di loro, è bene che leggano o ascoltino questo. È bene tradurlo in qualsiasi lingua. Perché tutti lo possono sentire. Traduccilo se ne hai l'opportunità. Ma quando lo fai, mandi a nostro figlio, l'amministratore di Revelation of John 20 Telegram Channel, lo vedremo, poi potrai tirarlo fuori. Dato che il tempo è poco, quelli che è l'opportunità, falo il prima possibile. Non ci sono restrizioni sulla distribuzione. Di seguito troverai il bando. La parola degli Dio Onnipotente ci dice, Beato l'uomo che non cammina secondo il consiglio degli empi, né si ferma nella via dei peccatori, né si siede sulla sedia degli sprezzanti. Ma la sua gioia è nella legge del Signore, e nella sua legge medita giorno e notte. Ed egli sarà come un albero piantato presso fiumi d'acqua, che porta i suoi frutti nella sua stagione, anche la sua foglia non appasserà, e qualunque cosa farà prospererà. Gli empi non sono così, ma sono come la pula che il vento porta via. Perciò gli empi non reggeranno davanti al giudizio, né i peccatori né l'assemblea dei giusti. Poiché l'Eterno conosce la via dei giusti, ma la via degli empi perirà. Salmi un litro intero capitolo. L'ode di essere alla Trinità di Abramo, può loro nomi sia glorificato. L'ode di essere alla Beata Vergine Maria, nostra madre, possano i suoi nomi essere glorificati. Il messaggio 9 è terminato qui. Schiavo della Trinità e della Vergine Maria. Numero 4, 20, 13, 21 dicembre 2013 calendario Etiop. 30 dicembre 2020 calendario europeo. Annuncio urgente per tutta l'umanità. Dal governo mondiale leggero dell'Etiopia. Hawaii. 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 In amarico, significa proclamazione. È giunto il momento per tutta l'umanità di visitare e ricevere il giusto giudizio di Dio. Quelli che sono pronti e pentiti. Coloro che sono rimasti salvi nella loro fede tewad ortodossa e che sono protetti dalla sporcizia di questo mondo sono oggi ricordati da Dio Onnipotente. Al prezzo dei loro padri, su questa terra saranno ricompensati, amati, confortati, anche loro sono chiamati per la cena, quindi ascoltate. L'Etiopia è ricordata da Dio Onnipotente. Ha vinto con la sua grande lotta ascolta. Tutti i discendenti di Adamo. Ascolta attentamente. Introduzione, per migliaia di anni, i governanti di questa terra che governavano il mondo, le nazioni delle persone si erano schierate per la loro autorità e per quelli che dicono il mio Stato. Il più delle volte, sono stati soggetti alle idee e ai piani del diavolo, e hanno combattuto, uccise così tante persone, e inoltre si sono combattuti a vicenda. Mentre tutto questo sta accadendo, siamo qui oggi. Durante questo processo, tutti i governi, ad eccezione di pochi servi di Dio Onnipotente, sono diventati storia combattendo, uccidendo e massacrando il popolo di Dio, la vera fede della Chiesa. I santi martiri in cielo hanno sempre e continuano a chiedere il giusto giudizio di Dio a causa del loro sangue versato. Il Signore disse loro di restare, che la coppa fosse piena. Ma oggi la pazza è piena. Il Signore ha espresso il suo giusto giudizio oggi in questo messaggio. Secondo questo, il mondo che vediamo e il contenuto in esso, dal principale attore della razza umana, a causa della distruzione irreparabile malvagia e impura, per essere completamente cambiato, a peggiorare le cose, specialmente la semina del peccato, della malvagità, dell'orgoglio e dell'apostasia, la terra era rovinata, quindi è stato deciso che sarebbe stata distrutta dal fuoco. Invece, fu deciso che il mondo intero avrebbe dovuto governare sotto il regno della luce dell'Etiopia e che il tempo di consolazione per il popolo di Dio, come predetto in Apocalisse capitolo 20, si sarebbe adiempiuto sulla terra. Quello che stiamo vedendo oggi è uno dei motivi per cui il massacro del popolo di Dio riempie i calici in un modo senza precedenti. Ascolta. Umanità ascolta. Il discendente di Adamo ascolta. Governi che coprivano l'intera terra ascolta. Le più grandi istituzioni religiose del mondo ascolta. Idolatria, razzismo ascolta. Streghe, quelle che attirano i demoni e fanno la stregoneria ascolta. Adoratori di alberi e fiumi ascolta. Proprietari di massacri e massacri ascolta. Quei mercanti di fede, che indossavano il mantello della fede e si chiamavano a vicenda maestro e maestro ascolta. Tu, che hai cambiato la parola di Dio per affari e per il tuo stomaco ascolta. Tu, che adori la tua conoscenza e disprezzi gli altri credenti ascolta. Tu, che dici che nessuno può parlare di Dio tranne noi ascolta. Tu che stai ancora attaccando le ferite del Signore e dici che Dio non può respirare senza di noi ascolta. Tu che lotti per chiudere la lingua umana con la stessa audacia con cui comandi a Dio ascolta. Bugiardi, ingannatori, arroganti, crudeli, tutti voi ascolta. Islam, protestanti, cattolicesimo, riforma, tu che hai fatto re nel tuo cuore l'idolatria ascolta. Omosessuali ascolta. Sì, ascolta. Tu che ti sei reso adultero ascolta. Tutti voi che adorate l'ex serpente, il drago, il falso profeta, apertamente e segretamente ascolta ascolta, la tua vita sulla terra è finita. È finita. Ascolta. Ascolta l'umanità. Il tuo giudizio è stato seguito fino a quando, ma ora, accadrà e ti verrà eseguito. Non hai tempo. Nessun appello, tutte le tue possibilità sono completamente esaurite. Il giorno del diavolo il suo regno millenario finì, fu deciso che tutti i discendenti di Adamo, che vivevano sotto il suo governo, dovevano essere giudicati dal giusto giudizio di Dio. Quindi, tutta l'oscurità che copriva la terra, da spazzare via e la terra da coprire di luce, ha obbedito. Questo è ciò che ti viene in mente. La terra deve essere guarita e il vero popolo di Dio che ha resistito durante questa grande tribolazione sarà confortato. I nostri antenati e le nostre madri sono in cielo per godere del giusto giudizio di Dio. Devono essere glorificati nell'unità dello spirito dei loro figli. Una fede, amata e sopportata, la fede ortodossa del Feu Aedo, che il mondo stava cercando di distruggere, ha perseverato, lei vinse, e ha piantato. La religione ortodossa è destinata a governare il mondo, sta per coprire la terra con il suo ministero di luce splendente, abbracciando i risorti che sono destinati alla risurrezione. Ascolta. Continua ad ascoltare. Ascolta attentamente. Va all'inferno con tuo padre, il diavolo, il vecchio serpente, il falso profeta e i tuoi amici che hanno ricoperto la terra. Il diavolo andrà nella sua prigione o all'inferno. Si decide che anche tu vada all'inferno, dove sarai giudicato. Ascoltami. Ascolta, tu che hai sottomesso il diavolo. Addio. Dopo la consolazione, alla fine del giorno del giudizio, ci vedrete, alla destra del seggio del giudizio di Dio, con i nostri antenati, con il nostro padre Gesù, con nostra madre la Vergine Maria e con i nostri amati santi arcangeli. Ascolta. Dato che sei sull'ultima strada per l'inferno, lascia che te lo dica un'ultima volta. Vedrai te stesso, in piedi sul lato sinistro del seggio del giudizio del Signore, per essere gettato nel fuoco. Quel giorno sarà l'ultimo giorno per salutarci, dopodiché non ti vedremo mai più. Devi andare, al grande fuoco dell'inferno, a quell'eterno tormento. E anche noi, entreremo nel Regno Celeste, quello preparato per noi dalla Trinità di Abramo. Brilliamo come stelle per sempre e per sempre. Saremo come angeli che lodano la sua gloria per sempre. Tuttavia non ascolterai perché non credi mai, perché il tuo cuore è pieno di dubbi. Naturalmente, quando te lo diciamo, riderai e ti preparerai per un'altra catastrofe. Ma ascolta. Hai finito il tuo tempo. Hai fatto. Quindi, la proclamazione è giunta alla fine di te e di tuo padre il diavolo. Cosa intendiamo per proclamazione urgente? Ci sono circa 205 paesi nel mondo oggi che resistono. Tutti governano il proprio popolo secondo la propria costituzione. Noi, il popolo etiope, siamo stati governati dalla strana costituzione per 30 anni, ancora adesso. La legge derivata dal bullismo. Stiamo soffrendo sotto i regimi satanici che hanno piantato, secondo il comando sia degli Stati Uniti che del Regno Unito, per farci governare da TPLF o WYN e, i cavalli scelti dal diavolo, all'epoca. Come tutti sanno, il nostro paese è in fermento a causa di questa costituzione. Il mondo intero concorda sul fatto che l'attuale costituzione è nel migliore interesse di tutti. Tuttavia, se c'è una rivolta popolare o vari nemici, vogliono rovesciare il governo, l'ultimo passo che il governo farà per difendersi e restabilire l'ordine è dichiarare lo stato di emergenza, proclamazione urgente. Quindi, il governo, dalle sue forze militari, polizia e forze di sicurezza controlleranno o distruggeranno tutte le forze opposte, inoltre porterà gli arrestati alla giustizia. Ma oggi, quello che vedete in questo annuncio urgente, è diverso da quello a cui siete abituati e ascolta. Il discendente di Adamo. Di cosa c'è di diverso? Lo stato di emergenza che conosci è l'atto di salvare un paese e il suo regime che viene dichiarato da un governo che sta per crollare quando un paese è in subbuglio o non è in grado di far fronte a disastri naturali. Allora non c'è protezione. Non c'è movimento. Sarà una vita di moderazione e moderazione. Questo è un annuncio urgente che tu sappia. Ma il nostro annuncio oggi è diverso. L'annuncio ha avuto origine da Dio Onnipotente che hai dimenticato, o è proclamato da Dio, che non può essere visto e toccato. Ti ha creato, visibile e l'invisibile, ha creato il discendente di Adamo sulla terra come sua immagine, e dopo il tuo soggiorno su questa terra per risplendere come le stelle attorno alla sua gloria, per glorificare il suo nome, ti ha amato, così ti ha piantato. Cosa hai risposto? Come hai risposto alla chiamata del suo amore? A causa della sua salvezza per te e del prezzo della vita che ha pagato per te, cosa hai pagato per questo? Come hai risposto al Dio, che ti aspetta da migliaia di anni per raccoglierti nel suo amore perfetto per colui che ti ha salvato e ti ha salvato da tutti i tuoi guai? Sì. Lo avevi completamente negato. Sai cosa rappresenti e come vivi. Il tuo disprezzo, il tuo tradimento, il tuo rimorso, la tua ribellione, dopo tutto, sai di aver creato il diavolo, il tuo creatore, il tuo Dio. Ne hai abbastanza dell'ultima pazienza di Dio. Quindi, anche se non l'abbiamo visto, lo abbiamo visto con fede e abbiamo vissuto nel suo amore. Sappiamo che il giudizio sarà rivelato e che saremo salvati dalla nostra fede. Non è un estraneo per noi, ma siamo arrivati a credere che questo è possibile perché è un Dio fedele, oggi è successo. Anche se questo annuncio è arrivato alle tue orecchie, ancora non ci credi. Ovviamente questo messaggio verrà ascoltato in tutto il mondo. Tu, la generazione perduta ancora non ascolterai. A causa della malattia Covid-19, hai visto quanto hai sofferto. Dici ancora che prenderò il vaccino per questo. Ricorda cosa dice il quinto messaggio, diceva che appariranno molti virus. Non solo Covid-19. Allora quando è arrivata la tua sofferenza? Ti ha solo mostrato l'inizio della tua distruzione. Come accennato in precedenza, questa proclamazione è completamente diversa da ciò che fanno i vostri governanti terreni. In che modo è diverso? Primo, colui che ha autorizzato la proclamazione è l'iddio onnipotente, che ha creato i cieli e la terra. A chi è stato ordinato di dichiarare la proclamazione? Sì, i suoi fedeli servitori approvandolo con le loro firme e il sangue timbrato. Lo vedrai presto, che i primi schiavi della Trinità che guidano il governo mondiale dell'Etiopia, quando sorgono e brillano, come il sole del mattino. Il nostro annuncio è diverso. Ecco perché diciamo che non è la stessa cosa a cui siete abituati, uno stato di emergenza che voi e i vostri coetanei conoscete, dichiarato dai governi, è quello che fanno nell'esercito o in qualsiasi altro modo per soddisfare i loro bisogni. Come ho già detto, il nostro è diverso perché, è da Dio, che ti ha creato. Ancora una volta lo ripeterò. È un annuncio emesso da Dio, che ha potere su tutte le cose, comprese la morte. Dio venne come promesso per liberare gli israeliti dalla terra d'Egitto coloro che erano sotto il dominio tirannico del faraone. Dio, che mantenne la sua parola, mandò i suoi schiavi fedeli, Mosè e Aronne a liberare Israele. Tuttavia, quando iniziarono le dieci piaghe sul popolo egiziano, il faraone indurì il suo cuore e non ascoltò. Quando pronunciò la parola di Dio per mezzo di Mosè fu detto, lascia andare il mio popolo, affinché mi serva. L'ostinato faraone, nonostante la sua ripetuta arroganza, giunse alla fine della sua ultima terribile ira, il paese d'Egitto fu coperto dalla morte del figlio maggiore di tutti gli uomini e gli animali. E la casa del faraone fu piena di morte. Incapace di far fronte alla situazione, il faraone ebbe così paura degli israeliti che diede loro oro e per lei li liberò. Oggi, Dio ripete le sue varie punizioni, nessuno ascoltava quando consigliava e rimproverava il mondo. Per quindici anni Dio ha avvertito tutta l'umanità attraverso il suo schiavo, di riprendere le mani dal suo amato popolo di Teweido ortodosso. Ma in tutto il mondo, non hanno ascoltato perché il diavolo controllava il mondo intero, tutti i discendenti di Adamo. Hanno detto che non rinunceranno alla loro colpa per la fede etiope Teweido. L'hanno fatta soffrire ancora di più. Quindi, la sofferenza che il mondo non ha mai visto, sentito o previsto, è arrivata. Di conseguenza, gli ordini provenivano da Dio Onnipotente. Cosa esegue la proclamazione? Da dove viene? Chi lo esegue? Qual è il suo obiettivo? Una cosa esegue il proclama? Questo annuncio è per tutte le generazioni ribelli del mondo. Agirà su quei popoli che sono atei, la generazione empia. Invece, pianterà la fede ortodossa di Teweido in tutto il mondo. E il suo credente erediterà la terra. Perché hanno pagato così tante sofferenze per la loro fede per secoli su questa terra? L'Etiopia sarà la luce del mondo. La terra sarà ricoperta dalle gloriose parole del patto e dalla bandiera verde-giallo-rossa dell'alleanza. Le parole da onorare sono le seguenti. Etiopia è un paese in cui la gloria della Trinità è rivelata lodata. Etiopia è l'eredità della Vergine Maria. Etiopia è la luce del mondo. Etiopia è il dominatore del mondo. Queste frasi, in ogni aspetto della terra, esalteranno e glorificheranno. Il nome di Dio sarà costantemente lodato in tutta la terra. Saranno orgogliosi anche la Vergine Maria, i santi angeli, i santi martiri, i nostri padri e le nostre madri. Due da dove viene l'annuncio? La fonte è la volontà di Dio onnipotente. Questa proclamazione è rivelata dai fedeli servitori e schiavi di Dio, da coloro che Dio li ha scelti per raccontare e annunciare la sua volontà. Attraverso il governo della luce mondiale dell'Etiopia viene rivelato quale decisione di Dio di far governare i suoi servitori su tutta la terra attraverso di essa. Tre chi esegue l'annuncio? I santissimi arcangeli eseguiranno questa proclamazione. Sono i seguenti a. Arcangelo Saint. Michael B. Arcangelo Saint. Gabriel C. Arcangelo Saint. Raffaello D. Arcangelo Saint. Fanuele. Arcangelo Saint. Raquel F. Arcangelo Saint. Uriel G. Arcangelo Saint. Saquel S. Arcangelo Saint. Affenieli. Arcangelo Saint. Sedakiel, Ilunga. Arcangelo Saint. Suriel K. Arcangelo Saint. S. Arcangelo Saint. Con tutti i loro eserciti. Questi santi arcangeli eliminano tutti coloro che sono annegati nel mare del peccato, che hanno disobbedito a Dio, sono stati pieni di orgoglio e coloro che si sono prostrati al diavolo o alla bestia. I re o governanti con le loro persone, che si affidano al serpente antico, il drago, e il falso profeta saranno essere s.w. epiti di distanza, dagli angeli santi. I re con il loro popolo, che si affidano al vecchio serpente, al dragone e al falso profeta, spazzeranno via chi li governa, mediante i santi angeli. 4. Qual è il suo obiettivo? Sebbene l'obiettivo sia già stato dichiarato, è chiaro che Dio ha vegliato sul suo popolo fedele per secoli e li ha tenuti nel suo cuore. Amava la Teweido ortodossa e la sua gente risoluta, che sopportò grandi prove, li ha scelti, approvati e onorati. Di conseguenza, ha dato il mondo intero a questa disprezzata Etiopia, la gloriosa chiesa ortodossa Etiope Teweido. Quindi questo doveva accadere. Questo è il suo obiettivo. Il governo mondiale leggero dell'Etiopia per governare il mondo. 5. Separare il grano dalla Pula, scelta per la risurrezione. La Pula cederà al fuoco. Per mandare all'inferno tutti coloro che adoravano, adoravano e ricevevano il marchio dell'ex serpente, il drago, il falso profeta. 6. Etiopia in una proclamazione urgente il nostro paese, l'Etiopia, sarà il primo paese ad essere liberato. Quindi, l'azione da intraprendere è veloce e veloce. L'attuale governo Etiope è stato destituito in base a questa proclamazione. Su di essa verranno adempiute tutte le pene menzionate nelle lettere precedenti. 7. L'Africa verrà purificata allo stesso modo dell'Etiopia. Prima di tutto, bisogna assicurarsi che l'Africa faccia parte dell'Etiopia. Anche il Medio Oriente sarà ripulito, in parte farà parte dell'Etiopia. La proclamazione, che sarà emanata in tutto il mondo, sarà valida in Etiopia, così come in altri paesi africani. A meno che non si disponga di un documento di certificazione del governo mondiale dell'Etiopia, qualsiasi attività è vietata e punibile immediatamente. L'unico modo per muoversi è ottenere la conferma dal governo dell'Etiopia World Light Government. Sarà eseguito al popolo dell'Etiopia, dell'Africa e di tutto il mondo. In tutto il mondo, così come in Etiopia, i consigli spirituali diligenti e la Holy Cup Association che sono sotto il governo della luce mondiale dell'Etiopia, forniscono servizi spirituali in conformità con le linee guida del governo dell'Illuminismo Etiope, come precedentemente inteso, e con le loro carte d'identità. Otto il resto del mondo, Inghilterra, Stati Uniti, tutta l'Europa, tutta l'Asia, tutta l'Africa, tutta l'America Latina, tutta l'Australia e i paesi circostanti, saranno spazzati via dalla grande piaga e dal grande fuoco. Alcuni cosiddetti superpoteri saranno completamente cancellati dalla faccia della terra. Quali saranno i risultati dell'ira di Dio che fluirà sulla terra? Un in tutti i paesi del mondo, centinaia di volte più morti del faraone e del popolo d'Egitto regneranno sull'intera razza umana oggi. Non c'è casa o luogo dove la morte non regni. Se hai un segno sulla fronte e usi il marchio in conformità con le istruzioni fornite dal governo mondiale della luce dell'Etiopia, se sei registrato con noi, anche se non li registriamo, se sono registrati dallo Spirito Santo di Dio, che sono stati presi carta d'identità per il servizio. In generale, non c'è nessuno che non sia associato alla morte a meno che non sia raccolto al nostro fianco. Due dalla grande ira, dall'inizio del flusso in tutto il mondo, la morte regnerà sulla casa, sulla porta, sull'esterno, sulla terra, sulla foresta, sugli uccisi, sui monti, sulle caverne, sull'aria e sul cielo. Spazzerà via tutte le forze della terra che si sono battute per la distruzione. La morte non si trova facilmente, renderà tormentati, oppressi e implorati. Tutto questo accadrà a meno che non ci sia misericordia per l'umanità. Non danneggia animali o piante. Come ho già detto, una persona umile a mite sarà salvata. Tre non sarà consentito a nessuno di muoversi tranne la persona che è destinata alla misericordia, coloro che danno il permesso sono i governanti che sono sotto il governo leggero mondiale dell'Etiopia, solo chi ha una carta d'identità o una lettera con la propria firma, può muoversi liberamente. Come ottenere il permesso e l'amnistia, la resa è per altre questioni su come contattare i leader del governo mondiale leggero dell'Etiopia, è possibile trovare e chiedere consigli spirituali diligenti di tutto il mondo così come membri dell'associazione Coppa Sacra. Questa è la soluzione perché sono ponti che ci uniscono. Quattro qualsiasi famiglia di Dio, che siate registrati o meno, tutti voi, che vi conosciamo. E quelli che Dio li ha nascosti al mondo. Devi appendere la bandiera etiope, verde, gialla, rossa, alla tua porta. E sotto la bandiera, scrivi le gloriose parole dell'alleanza, inserirai anche il tuo nome e numero di registrazione. Per i non registrati, che credono veramente in tutti i messaggi che è l'Etiopia e la luce del mondo, che sono veramente bambini tewa ed ortodossi, che si sono pentiti e si sono protetti dalla sporcizia del mondo. Quindi, fai proprio come il registrato per fede. Chi lo sa? Dio può darti misericordia a causa della tua fede, della tua sincerità, della tua mitezza e della tua obbedienza. Le parole sono, l'Etiopia è una terra dove la gloria della Trinità viene rivelata lodata. L'Etiopia è l'eredità della Vergine Maria. L'Etiopia è la luce del mondo. L'Etiopia è il dominatore del mondo. Cinque nella grande effusione della punizione di Dio, tutti i trasporti, aereo, nave, automobile, trasporto di animali, saranno fermati in tutto il mondo. Se si muove, verrà spazzato via immediatamente. Tutti gli stabilimenti, i fornitori di servizi, le strutture sanitarie, le organizzazioni private e pubbliche, gli uffici, le istituzioni internazionali, le organizzazioni sono tutti affittati. E quelli che stanno morendo per Iranno. È possibile muoversi e lavorare solo quando l'ordine inamovibile per il mondo intero è respinto. È possibile operare solo con una licenza temporanea o permanente rilasciata dal governo mondiale dell'Etiopia. Se il governatore che regnerà in Etiopia, il governo leggero mondiale etiope, qui in Etiopia, nella sua capanna o in una qualunque piccola casa, dirige la sua leadership, decisioni, ordini e sentenze. Il palazzo non ha bisogno di un bellissimo edificio. Agli occhi di Dio, sai attesti che sei polvere e cenere. Siamo i figli del nostro Salvatore Gesù e della Vergine Maria. E noi siamo i poveri, i disprezzati, gli odiati e gli ignoranti. Ma avrai un giudizio davanti a noi. Svolgerai i tuoi doveri, volontariamente o meno. Sarai solo ciò che ti viene detto di essere. 7. Dato che viviamo in Etiopia, solo Ethiopian Airlines potrà operare in tutto il mondo, come chiunque dovrà viaggiare dentro e fuori il paese per incontrarci o per viaggiare per motivi personali. Quando la compagnia aerea vola, il simbolo del patto, la bandiera, verde, gialla, rossa, la parola del patto, devono essere apposti e visibili all'esterno. Non solo, deve contenere la lettera firmata da noi. Le compagnie aeree di tutti gli altri paesi non possono operare, volare, con le proprie bandiere e loghi. Non possono muoversi, nemmeno nel proprio paese. Anche se vogliono ottenere un servizio, puoi farlo solo con Ethiopian Airlines. La loro compagnia aerea può operare sotto gli auspici di Ethiopian Airlines. Ciò sarà consentito solo quando Ethiopian Airlines darà loro la lettera e il simbolo del patto, alle altre compagnie aeree, e se le compagnie aeree degli altri paesi lo accettano. Questo accadrà solo quando saranno considerati affidabili e autorizzati. E il concedente è solo il governo mondiale leggero dell'Etiopia. Otto in tutto il mondo, tutta l'aria, la terra, il mare e le comunicazioni si fermeranno. Nessuno di loro può muoversi a modo suo. Tutte le società, i settori e le comunicazioni elettroniche internazionali verranno chiusi. Come abbiamo ripetutamente affermato, è impossibile che chiunque si muova senza il nostro permesso. Non si aiutano a vicenda. La morte è ovunque. Come abbiamo ripetutamente affermato, la morte regna in tutti i discendenti di Adamo, ovunque si trovino. A meno che quello con un segno sulla fronte. E quelli con il marchio sulla fronte, si possono utilizzare materiali solo per se stessi. Nove nessun governo in nessuna parte del mondo può muoversi. Non può essere come il governo. In generale, non tutti gli esseri umani possono partecipare a qualsiasi attività economica, sociale o militare. In ogni caso, in patria o all'estero, non è possibile muoversi senza una carta di identità o di un documento, che hanno una firma, di imperatore Teodroso la persona che rappresenta, su di esso. Solo per volontà di Dio, tutti i discendenti di Adamo possono essere salvati. Se è così, deve riconoscere sinceramente che l'Etiopia è la luce del mondo, che i leader sono gli schiavi della Trinità e che la Chiesa Ortodossa Etiopete Waedo è l'unica fede vera e vittoriosa. Deve pentirsi sinceramente. Deve pentirsi e correggersi. Inoltre, dovrebbe lodare la Trinità e la Vergine Maria, perché è stato salvato dalla gentilezza di Dio. 10. Nessuna azione è consentita, quando la proclamazione è attuata in Etiopia e in tutti i paesi vicini. Per spostarsi è necessario un documento del governo mondiale leggero dell'Etiopia. L'abbiamo ripetuto molte volte perché vogliamo che tutti sappiano che è necessario. 11. Se non con il permesso del governo della luce mondiale dell'Etiopia, i trasporti terrestri in tutto il mondo, come treni, autocarri pesanti, grandi trasporti pubblici, qualsiasi istituzione, veicoli per servizi di trasporto, veicoli commerciali privati e tutti i veicoli non possono mai essere utilizzati con alcun mezzo. Il trasporto marittimo non potrà essere pienamente operativo. Sarà rimosso non appena viene spostato. Tutti coloro che sono in mare e in mare, che sono impegnati in attività militari, saranno eliminati. 12 verranno eliminati tutti i satelliti che lavorano nello spazio per l'intelligenza militare, per lo spionaggio, l'aggressione e altre attività distruttive. 13. Quei paesi che dispongono di armi nucleari, chimiche, aneutroni e biologiche saranno presi di mira nella prima pesante distruzione. Quei paesi che affermano di essere potenti sono gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia, la Cina, la Russia, l'India, il Pakistan, la Corea del Nord, l'Iran e Israele. Non avranno età, tempo, riposo. 14. Prerequisito se un paese è pronto ad arrendersi, quando ha iniziata l'azione radicale su di esso, dovrebbe consultarsi con le persone che guida e decidere nella legge del proprio paese che le governa, con il documento che hanno deciso che deve preparare una lettera e informare i diligenti consigli per dare la sua mano. Quindi, dopo, otterrà una licenza per muoversi o operare. Per venire in Etiopia, i primi arrivi sono possibili solo nei vicini Kenya e Djibouti, mentre è lì, deve aspettare fino a quando non viene dato un ordine. Oppure riceveranno una risposta da una delegazione, rappresentata dal governo Etiopia World of Light. Quando adempia i suoi obblighi in base alla risposta data, verrà informato quale sarà il suo prossimo passo. In questo modo vengono svolte attività di governo di transizione. Per un paese e un popolo riluttanti, sarà completamente cancellato dalla faccia della terra. Qualsiasi cittadino di quel paese che vuole arrendersi personalmente ottenere un giudizio dovrà recarsi all'ambasciata etiope esistente nel suo paese che è rappresentato da noi, scrivere la domanda e attendere in fila. Se le ambasciate non le trattano adeguatamente, può fare domanda e attendere in fila per ottenere una decisione ai consigli diligenti che hanno una cittadinanza etiope o straniera nei loro paesi. Questo può essere fatto anche preparandosi come rappresentante sia per l'organizzazione che per la comunità. Sia lodato il nome della Trinità di Abramo. Sia lodato il nome della Vergine Maria. Annunciato dall'Etiopia World Light Government il 21 dicembre 2013 nel calendario etiopeo il 30 dicembre 2020 nel calendario europeo. Dopo il 21 febbraio 2013 nel calendario etiopeo il 28 febbraio 2021 nel calendario europeo, in qualsiasi momento e luogo, quando solo la Trinità lo sa, inizierà l'azione radicale, la distruzione. Questo può essere fermato solo dall'accattonaggio e dalla preghiera degli schiavi della Trinità o dai servitori della primaria del governo leggero mondiale dell'Etiopia. Non c'è altra soluzione. Proclamato dal governo della luce mondiale dell'Etiopia, in conformità con l'autorità conferitaci dalla Trinità, il 21 dicembre 2013 nel calendario etiope, o il 30 dicembre 2020 nel calendario europeo. Primi schiavi e servi della Trinità. 1, nome Gebremedin, firma, impronta digitale. 2, nome Seife Selase, firma, impronta digitale. 3, nome Feresembet, firma, impronta digitale. E mi disse, non suggellare i detti della profezia di questo libro, perché il tempo è vicino. Chi è ingiusto, sia ancora ingiusto, e chi è sporco, sia ancora sporco, e chi è giusto, sia ancora giusto, e chi è santo, sia ancora santo. Ed ecco, io vengo presto, e la mia ricompensa è con me, per dare a ogni uomo secondo come sarà la sua opera. Sono Alfa e Omega, l'inizio e la fine, il primo e l'ultimo. Beati quelli che mettono in pratica i suoi comandamenti, affinché abbiano diritto all'albero della vita e possano entrare per le porte della città. Poiché di fuori ci sono cani, stregoni, prostitute, assassini e idolatri e chiunque ama e menzogna. Io, Gesù, ho mandato il mio angelo a testimoniarvi queste cose nelle chiese. Io sono la radice e la progenie di Davide e la stella luminosa e mattutina, e lo spirito e la sposa dicono, vieni. E chi dedica, vieni. E che venga a lui che ha sete. E chi vuole, che prenda liberamente l'acqua della vita. Apocalisse di Giovanni capitolo 22, dalle 10 alle 17. Infine, questo è il mio avvertimento e consiglio a tutti i discendenti di Adamo. Come hai visto sopra, il tuo giudizio finale è giunto per finirti. Non importa chi sei, non sfuggirai alla morte. Questo è tutto quello che posso dire se capisci un po', ascoltami. Non puoi ingannare nessuno come sei abituato. Anche il diavolo che ti guida non scapperà. Quindi io personalmente consiglio che ne trarrai beneficio quando ti metti nelle mani di Dio, umiliati e pentiti dal tuo cuore e digli di salvarti. Promettigli che ascolterai solo la sua verità, io venirai e che sarai il suo servitore sincero. Pregate sinceramente a Dio di darvi una misericordia, per il bene della beata Vergine Maria e per i gloriosi angeli arcangeli. La sua ira e la fornace ardente sono davanti a te. Questo è il mio consiglio per te. La mia gente. Vorrei che tu potessi attraversare come noi. Noi, servi di Dio, servi della Vergine Maria e patrioti ortodossi, ancora oggi vi auguriamo tutto il meglio. Se sei intelligente, approfitta di questo breve tempo che ti viene concesso per diffondere il messaggio in tutto il mondo. Eretici, protestanti, cattolici, unti, grazie, razzisti, non avete pietà. Te lo assicuro ancora, non hai pietà in alcun modo. Ci si aspettava che i musulmani si pentissero fino alla pubblicazione di questo messaggio. Pochi l'hanno usato. Ma allo stesso tempo vi assicuro che dopo il 21 febbraio 2013 nel calendario etiopeo dopo il 28 febbraio 2021 nel calendario europeo, quei musulmani che credono ancora alle loro false storie saranno completamente come eretici, protestanti e cattolici. E il loro destino sarà anche per i musulmani. Possa Dio dare comprensione a tutte le persone oneste, mansuete e gentili. Amen. Sia benedetto il nome del Dio di Abramo, Isacco e Giacobbe. Amen. Sia benedetto il nome della Madre Vergine Maria. Amen. Isacco e Giacobbe. Amen. Isacco e Giacobbe. Amen. Isacco e Giacobbe.